Allora io darei inizio a questa conferenza con molta simpatia perché è rimasto bloccato dallo sciopero degli artigiani sull'Ungarno o perché non ha trovato ancora questa piazzetta ma che penso arriverà, lì c'è una marea di cartelle di pellegrini in viaggio. Dunque non vorrei tanto dire qualcosa adesso, sono Anna Santoni, sono per chi non mi conosce delegato alle pari opportunità, sono molto contenta che siate qui e che Patrizia Suomio abbia avuto l'idea di ospitare alla scuola questa conferenza. Per non perdere tanto tempo darei subito la parola ai nostri ospiti di benvenuto, forse Patrizia per prima, che non vedo però, Patrizia Suomio, Patrizia dici due parole? Perché poi facciamo parlare, direi l'ordine lo spabilisco io da autorità in questo momento, dopo Patrizia l'assessore a Marino Chiofalo che è anche... c'è anche la regione toscana ma per cortesia da donne intelligenti facciamo parlare prima a Mariluca, un impegno altrove. Buongiorno a tutti e benvenuti a chi è riuscito ad arrivare questa mattina. Vi ringrazio di questa presenza un'iniziativa che si pone in ideale prosecuzione all'ultimo nostro convenio nazionale che vi ricordo è stato a Torino, ci sono qui tra l'altro anche i rappresentanti dell'Università di Torino. Allora avevamo parlato di carriere e valutazione in ottica di genere e oggi parliamo ancora di carriere, ne parliamo attraverso un altro punto di vista, attraverso un'altra ottica e cioè mettiamo insieme il discorso delle carriere con la congiuntura economica che tutto il mondo ma anche il nostro paese sta vivendo in maniera drammatica. Proprio ieri sono usciti anche gli ultimi dati sulla disoccupazione e sono dei dati assolutamente drammatici di cui non si può tenere conto. Anche se nell'esprimere queste statistiche si vede sempre il dato espresso in maniera generica ed indistinta, quindi i titoli dei giornali sono disoccupati al 13%, senza poi dare almeno nell'immediato, poi magari nelle pagine interne dei giornali forse sì, ma nell'immediato non si dà subito un'evidenza del fenomeno in un'ottica di genere. Donne e crisi e ruolo degli organismi universitari, questo è il tema che andiamo ad affrontare oggi, perché i Cug e comunque tutti gli organismi universitari, i CPO, i CPG eccetera che ci sono anche nelle università hanno sicuramente tra i propri compiti anche quello del monitoraggio delle carriere e questo io credo sia assolutamente indispensabile, perché se non si parte da una fotografia dell'esistente non si può fare poi sensibilizzazione, non si può poi immaginare in quale maniera intervenire con quali politiche sostanzialmente attuare degli interventi che migliorino la situazione anche quella propria dei nostri atenei. E quindi i Cug, io credo anche all'interno della realtà universitaria dove sicuramente esistono discriminazioni, dove sicuramente esiste segregazione orizzontale e verticale, ma non voglio dare qui dati perché verranno credo ampiamente esposti durante la mattinata, sicuramente i Cug hanno un compito importantissimo che è quello di sensibilizzare innanzitutto i vertici dei propri atenei, svolgere questa attività di monitoraggio e poi informare circa i dati e l'altro compito che ci ricorda bene anche il collegato lavoro è poi quello di essere propositivi perché i Cug hanno anche compiti propositivi, quindi possono in qualche maniera sollecitare gli atenei nel proporre azioni che sostanzialmente possano in qualche maniera portare dei miglioramenti, ribaltare le situazioni non credo, ma quantomeno portare dei miglioramenti all'interno del nostro ateneo. È chiaro che in periodo di crisi innanzitutto il problema nelle carriere femminili è quello di accesso al lavoro e poi il problema di mantenere il lavoro perché evidentemente anche il discorso dei tempi determinati è un problema assolutamente importante, è quello anche di poterlo mantenere perché ci sono delle condizioni di contorno dei servizi adeguati che consentano la conciliazione ad esempio e che permettano alle donne che purtroppo ancora nel nostro paese hanno questo compito di cura che grava principalmente sulle proprie spalle che permettano alle donne di proseguire, di immaginare anche il proprio percorso di carriera di non trovarsi di fronte a quel bruttissimo biglio tra scelte personali, familiari eccetera e scelte lavorative di investimento anche nella propria professionalità e nella propria carriera. Quindi detto questo io penso che senz'altro possiamo dare avvio ai nostri lavori anche perché siamo un pochino in ritardo sulla tabella di marcia, non vi rubo altro tempo, ringrazio e non posso fare diversamente, ringrazio la scuola normale superiore di PIDA, siamo onorati di questa ospitalità, ringrazio la struttura ma ringrazio in particolare Anna Santoni che è qui con me e che si è molto spesa davvero per organizzare questo convegno in cui cercheremo di parlare di questo tema donne e carriere nel momento della crisi in un'ottica davvero multidisciplinare di questo ringrazio Anna che ha voluto parlarci e ci parleranno poi i relatori durante il corso dei lavori delle origini perché questo fenomeno non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno antico, quindi avremo modo di parlare da un punto di vista storico, da un punto di vista sociologico, parleremo di gay preferitivi, parleremo anche però in positivo di qualche progetto, anche di qualche progetto europeo che forse un po' può trasmuovere le acque, questo è il nostro augurio, non solo di smuoverle poco ma se possibile anche molto, grazie a tutti. Buongiorno di tempo perché come si vede tra le donne non c'è competizione, Marilu Chioppolo che è assessora al comune, anche con delega di pre-opportunità ma è anche professore di fisica quindi anche l'esperienza dell'università e doppiamente benvenuta. Grazie, grazie a tutte, grazie a tutti e soprattutto grazie alla scuola normale che ci ospita, alle altre nostre due università, l'università di Pisa e la scuola superiore Sant'Anna che sono coinvolte in questa giornata e naturalmente al coordinamento nazionale degli organismi di pari opportunità delle università italiane per aver scelto Pisa come luogo per questa conferenza e naturalmente vi do il benvenuto anche a nome del sindaco di Pisa Marco Filippesti. Io mi scuso sin da ora, sono veramente dispiaciuta ma sono dispiaciuta soprattutto per me perché non posso ascoltare le relazioni che si preannunciano molto interessanti ma devo andare in prefettura per una riunione urgente e poi devo anche andare a Roma dove non sono alle 11 per Roma per una riunione del Lanci quindi non mi potrò trattenere e poi chiederò ad Anna che ringrazio veramente anche per l'invito Io credo che queste occasioni siano occasioni molto preziose e il tema che è stato scelto quest'anno lavoro e carriere femminili negli anni della crisi sia un tema di grande attualità, di grande attualità perché si stanno moltiplicando le ricerche anche di natura economica, ci sono anche diverse economisti italiane che hanno contribuito a questo, che fanno vedere, forse possiamo pensarli come calcoli forse un po' sgrossati, si potrebbe pensare che i numeri che ne vengono fuori non siano proprio molto precisi ma il senso è quello, se in Italia il tasso di occupazione femminile fosse almeno quello della media europea, questo varrebbe qualcosa come il 7% in più nel nostro prodotto interno lordo Ora, anche se non vogliamo prendere sul serio il numero 7% e vogliamo dire che ne so, fosse anche l'uno io penso che ci si potrebbe stare, anche se non volessimo considerare il PIL come un indicatore particolarmente realistico della ricchezza di un paese, io sono tra le persone che non lo ritiene un indicatore realistico, penso che gli indicatori dovrebbero essere altri, però comunque il concetto è quello, l'idea è quella, non è che ci si possa scostare troppo da quell'idea e quindi noi a questo dobbiamo puntare, questa deve essere la leva per il nostro progresso, dico come comunità, comunità locale come comunità paese, per il progresso da un punto di vista culturale, nella cultura delle differenze e dell'importanza della cittadinanza di tutte le differenze a partire da quella più evidente di un macroscopico della differenza di genere, per cosa? Per una questione di democrazia? Sì, certamente, tutte le persone che sono qui in questa aula, credo che tutte quante condividiamo il principio di democrazia, però per chi crede un po' meno alle questioni di principio, a queste persone chiediamo quantomeno di credere nell'aspetto funzionale, una comunità dove uomini e donne danno il proprio contributo, possono, sono nelle condizioni di dare il proprio contributo in modo differente, quindi seguendo ciascuno le proprie tipiche specificità, e una comunità che è più abile, così come una persona che riesce ad utilizzare le proprie tante intelligenze diverse e quindi riesce a affrontare un problema con approcci e anche con linguaggi diversi, cioè con formalizzazioni diverse di quel problema, è una persona che è più abile a risolvere quel problema e così sulla scala invece non della singola persona ma di una comunità di persone, anzi a maggior ragione, questo è quello che accade, quindi quantomeno per una questione di funzionalità e a maggior ragione questo dovrebbe valere nei luoghi di formazione e di ricerca, come le nostre università, che, e così chiudo il cerchio, rappresentano il luogo dove, i luoghi dove si costruisce la ricchezza vera di un paese, che è misurata dalla capacità di progredire nelle conoscenze e nella abilità di risolvere i problemi che inevitabilmente incontriamo ogni giorno come singole persone e anche come comunità. Quindi questo è quello che dobbiamo semplicemente fare. È semplice ma anche difficile perché è molto complesso lavorare da un punto di vista culturale su questi aspetti. Gli scivoloni culturali sono sempre dietro l'angolo. Negli ultimi due giorni sono stata coinvolta in una polemica senza fine per un manifesto pubblicitario relativo ad una manifestazione che è una manifestazione in cui i contenuti vanno benissimo, ma se il manifesto campeggia una donna con un pare molto provocante e sotto c'è scritto quello che le donne vogliono, ecco, forse il messaggio, siccome la comunicazione per chi ci crede è sostanza perché deve essere un contenuto, deve essere, se uno ha la cultura, la comunicazione segue quella cultura e viceversa, ecco che forse dovremmo, sappiamo che nelle nostre comunità appunto gli scivoloni culturali e l'impegno che ciascuna e ciascuno di noi, e in questo ci vuole veramente un'alleanza tra generi, deve mettere per far avanzare la cultura delle differenze di genere, ecco, questo credo che sia un aspetto molto importante. Chiudo dicendo che il Comune di Pisa è il proprio Comitato Unico di Garanzia, evidentemente, lo dico da un punto di vista, insomma, come anche lanciando alcuni messaggi che possono essere utili per la giornata, noi ci stiamo interrogando su come stanno andando le cose nel nostro Comitato Unico di Garanzia, abbiamo fatto alcune scelte importanti, credo, cioè abbiamo cercato di mantenere, pur nel rispetto della legge, la connotazione molto precisa sulle azioni di pari opportunità, di cui il Comitato Unico di Garanzia dovrebbe occuparsi, abbiamo fatto una scelta di presidenza di una persona esterna all'ente di grandi qualità professionali e umane, proprio per riuscire a ridare un impulso alle attività interne all'ente e soprattutto abbiamo speso un po' di tempo a individuare poche cose da fare, ma ci auguriamo che cominciamo in realtà a dare anche i loro frutti, in particolare per quello che riguarda un progetto, un percorso sul benessere organizzativo che è pensato e in questo momento realizzato in un'ottica di genere all'interno dell'amministrazione che rappresenta un modo anche per lavorare sulla questione della conciliazione, sul monitoraggio delle carriere e quant'altro. Anche qui c'è molto da fare, molto a cui fare attenzione, c'è da monitorare effettivamente il funzionamento dei Coug. Io mi auguro che anche dalla giornata di oggi emergano delle idee, delle osservazioni, dei suggerimenti che noi molto volentieri raccoglieremo per cercare di metterli in pratica anche nella nostra quotidianità amministrativa. Vi auguro davvero un buon lavoro e ringrazio di nuovo tutte e tutti. Grazie. Io vi ringrazio anche io di avermi invitato a questa iniziativa così importante, interessante, anche io purtroppo mi dovrò assentare un po' prima, poi vi dirò il motivo, ovviamente per pari opportunità, chiaramente insomma dovrò occuparvi di quello che è l'oggetto della giornata. E vi porto soprattutto i saluti della Vice Presidente della Regione Toscana che ha la delega per pari opportunità. Si è insediato da poco, come potete immaginare è presa tra mille e venti, e poi essendo arrivata da poco, mi comprenderete, insomma era piuttosto difficile riuscire a farla partecipare. Ma mi ha detto ovviamente volerà in qualche modo la regione fosse presente ed eccomi qui. Ieri sera quando appunto mi apprestavo a programmare la giornata, come penso capita a tutte, soprattutto alle donne che hanno veramente, mi spiace dirlo, ma vedo che mio marito non voglio offendere nessuno, ma insomma diciamo che hanno un po' meno pensieri, molto spesso i maschietti, quindi pensavo alla giornata di oggi e cercavo di organizzarmi. E per l'appunto il telegiornale parlava di pensioni, parlava di indagini sulle pensioni e mi ha colpito, guarda a caso, proprio ieri sera scoprire un membro, sentir dire di nuovo come le pensioni medie percepite dalle donne siano il 30% inferiore rispetto a quella percepita mediamente da un uomo. Che è un gap che si ritrova anche a livello retributivo, guarda a caso. I motivi li conosciamo tutti, mi sembra inutile anche andare a rifercorrere, il fatto che molto spesso tante donne svolgono manzioni meno qualificate, fanno lavori, so, nel commercio, nel servizio, quindi meno retribuiti, il soffitto di cristallo, quindi le nostre difficoltà ad accedere a posizioni apicali, ma soprattutto il problema proprio legato al carico di cura, il carico di cura per i figli, il carico di cura per gli anziani e anche per la casa, perché no? Questo impedisce molto spesso alle donne di poter fare del lavoro straordinario, che costringe a ricorrere più spesso dei colleghi vanschi al lavoro part-time, o a forme di lavoro flessibile che molto spesso sono meno retribuite e addirittura meno tutelate. Quindi il problema, almeno nella mia visione, uno dei problemi fondamentali, per quanto riguarda, parlava prima, l'avete messo il domino, di accesso, mantenimento e miglioramento della posizione lavorativa, tanto spesso buona parte di questi problemi sono connessi proprio allo stereotipo di genere. E bene, comunque, venendo poi al tema di oggi, al di là di ricollegarmi alla mia chizia, sentite proprio lì di sera, quindi mi domandavo appunto sempre, pensando alla giornata e ascoltando quello che ascoltavo in telegiornale, la crisi, la crisi influisce sul lavoro femminile, ma è senza dubbio sì, senza dubbio sì, a di là del fatto che vi dicevo che spesso rivestiamo posizioni meno tutelate, quindi siamo anche negli più deboli in questo sistema, e quindi più facilmente, probabilmente, veniamo anche spuzzi dal mercato del lavoro. Il nostro problema che vedo, in termini generali, riguarda la Toscana, ma l'Italia tutta, che proprio il sistema di welfare si basa, ahimè, non solo su servizi alla persona, ma, ahimè, io vedo anche una prevalenza, anche in Toscana, di, appunto, di servizi di sostegno alla famiglia che si sostanziano in contributi monetari, piuttosto che in servizi stati, quanto che quelle risorse probabilmente potrebbero essere destinate a tutta una serie di servizi che realmente potrebbero aiutare la donna nella conciliazione della vita e del lavoro. Quindi una crisi, che come abbiamo visto tutti, molto spesso costringe a tagli lineari da parte dell'amministrazione, visto che le risorse non ci sono. Questo significa, ahimè, non sempre, però, una riduzione dello stato sociale e quindi un pre-maggiore di problemi di conciliazione. Quindi sicuramente la crisi influisce sul lavoro femminile, e influisce in maniera molto pesante. Sarà un caso che noi, rispetto a tanti altri paesi europei, sì, c'è una fascia di età delle donne dove c'è un allontanamento dal lavoro, spesso in concomitanza con la nascita dei figli, o con l'invecchiare poi, in merito, i genitori, ma mentre nel resto d'Europa poi, diciamo, il numero di donne che torna al lavoro cresce, in Italia troppo spesso questo allontanamento non è temporale. E sempre di più in questi giorni, in questi periodi di crisi, è ancora più difficile rinserirsi in un mercato del lavoro dopo essere stati assenti per dover badare a figli o appunto a genitori che diventano anziani, con tutte le difficoltà connesse a trovare posti nelle residenze sanitarie, e quant'altro, insomma, quindi che lo stato sociale di la crisi significativamente influisce. Come combattere questa... Non è facile, è un cambiamento culturale, lo sappiamo, io ci tengo ovviamente a dire che sto insieme a Toscana, e anzi vi ringrazio per essere venuti nella nostra regione, nella città di Pisa, per questa iniziativa, cercare di far cambiare questo stato di cose. Non è facile, non è immediato. Poi da qualche anno come regione ci siamo dotati di una norma specifica sulla cittadinanza di genere, è una legge piuttosto corposa che ha piuttosto una serie di finalità. Nel caso specifico vi sottolineo questo. La lotta allo stereotipo di genere a partire dalla scuola, questo per cercare di instillare per le giovani generazioni un concetto di maggior distribuzione, equa distribuzione tra i generi appunto dei ruoli di erdiver, quindi sia nel rispetto dei figli, nei confronti dei figli, dei genitori e anziani, ma anche con riguardo alla cura della casa. Ma soprattutto la buona parte delle risorse, più che sulla valorizzazione della figura femminile che è sempre importante in una serie di manifestazioni, è destinata proprio a quelli politici di conciliazione. Ed è questo il motivo per cui sono costretta ad assentarmi. Mi dispiace molto perché proprio oggi pomeriggio avremo un incontro con la vicepresidente, con il tavolo delle politiche di genere, qui peraltro partecipano anche rappresentanti degli organismi di parità dell'Università Toscana, c'è anche la professoressa Biancheri, quindi ovviamente assente giustificata, mi dispiace ma la concorrenza è stata questa, proprio per andare a concertare il nostro documento annuale di attuazione e cercare di destinare queste risorse, non sono molte, sono un anno per tutta la regione 800 mila euro. siamo riusciti a salvarle dalla mannaia dei tagli lineari che vi dicevo, quindi è un segnale per cui comunque la regione, poi con una difficoltà, cerca ancora di investire su queste tematiche. E quindi speriamo di poter contribuire in qualche modo a originare quello che in questo periodo ancora diventa più grave, proprio in ragione della crisi. Quindi mi scuso ancora di non poter assistere a tutti i lavori e vi auguro veramente buon lavoro. Grazie. Grazie davvero. Credo che Laura Saperi del CUP di Pisa, Presidente del CUP, forse può venire a dare un saluto. Grazie. Sì, in effetti all'Università di Pisa si è costituito lo scorso anno il nuovo Comitato Unico di Garanzia, di cui sono la Presidente. Niente, cosa volevo dire? Questo discorso sulle carriere... Noi, allora partiamo da quello che ha fatto il CUP proprio sulla questione delle carriere negli ultimi mesi, in questi mesi. Elaborando il piano di azioni positive noi abbiamo proprio attivato, stiamo attivando un discorso proprio sul monitoraggio, sul monitoraggio delle carriere. La progressione, ma anche e soprattutto le commissioni di concorso, gli organi di governo e anche, per esempio, anche in linea forse con l'iniziativa regionale, la presenza, la designazione di donne, di docenti o non docenti dell'Università di Pisa come membri dei collegi di amministrazione e degli organismi di controllo partecipati dall'Università di Pisa. Monitoreremo e cercheremo anche di implementare questa presenza. tutte le cose che riguardano l'organizzazione, quindi il controllo su come viene gestita la mobilità e via discorrendo. Ci sono altre cose, ma di quelle magari parleremo domani, perché dovrebbe essere giunto qua a compimento del lavoro sul bilancio di genere e quindi quando sarà pronto avremo anche già alcuni dati più precisi su come funzionano queste cose. Le carriere, due parole sulle carriere. Le carriere all'Università non c'è da essere molto allegri, non che voglio dire dalle altre parti ci sia brutta brutta via nulla. Il problema forse è ovviamente davvero, si è parlato molto a proposito dell'Università e qui parlo dei docenti, ma anche sui non docenti la situazione è un po' migliore, anzi è molto migliore insomma da un certo punto di vista. Se parliamo dei docenti, qualcuno si ricorda quando si parlava della piramide rovesciata, della clessidra, eccetera, eccetera, se si tratta di docenza femminile è una piramide non rovesciata. Cioè si parte da una fase appunto di ricercatori che sono ormai intorno al 45% che forse potrebbero anche aumentare, ha un 30% di intorno, poco sopra il 30% tra gli associati e poco sopra il 25% degli ordinari. Ed è quello che viene chiamato il... Mentre, se guardiamo i dati italiani che in questo caso sono in sintonia tra l'altro con quelli europei, i dati europei non sono moltissimo migliori che questi, anche se poi è difficile comparare visto che ogni nazione ha la sua struttura del personale docente, in Italia tra le meno rigide, diciamo così, ecco, le studentesse superano il 50% e quando si va a vedere i dottorati c'è un bilanciamento tra i due generi. Poi quando si deve scegliere, insomma, ora noi appunto in questo bilancio di genere abbiamo chiesto di vedere anche gli ultimi, anzi i primissimi ricercatori a tempo determinato il genere, quindi già lì vedremo se questa cosa ha come il tema, ha dissuato forse un pochino di più per le ragazze, vedremo, non lo so, ecco, può darsi di no, vediamo insomma, vediamo se la situazione è cambiata. Le carriere, dicevo, sono un problema, se guardiamo i vertici maggiori, certamente non è che in altri settori ci sia molto da godere, però bisogna anche dire che laddove, io ho studiato le poste, laddove si partiva uguale da zero per quanto riguardava la dirigenza, già nel 2007 eravamo oltre il 26% dei massimi dirigenti, non funziona proprio a livello di dirigenti, quindi nel privato è un po' peggio in realtà. Comunque, quello che credo si, e quindi, io credo che non sia così stupido forse il problema della, cioè così snog, facciamo così forse il problema veramente dei dirigenti a più alto livello, è vero che l'occupazione femminile è un universo in cui bisogna partire proprio dalla base per considerarla in una situazione non proprio allegra, l'Italia è al risultato della media europea con l'occupazione femminile e tutto quanto, però io credo anche come recente insomma a dimostrare la vicenda del Parlamento e della legge elettorale, ci sia una, ci sia lì da, insomma, sia importante chi c'è al vertice, non perché faccia poi politiche più favorevoli a l'Italia, non è questo il punto, ma il punto è perché la struttura stessa del potere in qualche modo finalmente è bisessuata, forse anche tri se vogliamo, che è qualcosa che secondo me già è un risultato, ma magari possono anche essere più stronti, non è neanche quello il punto, possono essere anche che non portino qualche cosa diverso, le indagini sulle aziende invece parlano di una maggiore efficienza, di alcune caratteristiche delle donne, diciamo, dirigenti che hanno portato dei miglioramenti, ma anche se questo non fosse, cioè quello di dire almeno viene rappresentato la varietà della condizione umana, ecco. E poi ora, l'ultima cosa, credo che anche nei comitati unici di garanzia ci sono tante, hanno una pesantezza, direi, di impegni sicuramente superiori a quello che era prima, ricordiamoci però che il discorso delle pari opportunità sta nella Costituzione all'articolo 3, cioè quando si parla di rimuovere di fatto, quindi tutto il discorso era... L'avevo messo qui per fare l'eveola e con questo chiudo, cioè tutto il discorso, cioè bisogna rimuovere di fatto le discriminazioni che colpiscono non solo uomini, le donne, ma tutti quei soggetti che sono storicamente, si sono determinate nella storia come più deboli, meno rappresentati. Io ho finito. Bene, molto grazie a Laura per questa esposizione fondata sull'attività del CUP dell'università. Non so se Erika Panderini è presente, noi non ci conosciamo di persona, sono molto contenta di venerti adesso, benvenuta anche... Erika viene come presidentessa del CUP della Scuola Superiore Sant'Anna che è la nostra sorella gemella. Grazie, e sì, io effettivamente solo un saluto perché il nostro CUP si è costituito da pochissimo, da novembre, abbiamo cominciato i lavori a dicembre, io sono appunto il presidente, quindi sono felicissima di che questa iniziativa si sia tenuta qui a Pisa, io sono venuta per ascoltare e per imparare tante cose sperando di poter poi portare qualcosa di questo nell'attività del nostro CUP. Senz'altro sono convinte, ne avranno già parlato per telefono con la professoressa Santoni e mi fa piacere di vedere qui anche la professoressa Savelli dell'opportunità di potremmo essere anche delle attività, delle strategie congiunte in quanto diciamo siamo le tre realtà universitarie presenti a Pisa e credo questo potrebbe contribuire a dare una forza e un'intensità maggiore alle nostre attività. Grazie a tutti. Per finire e veramente vorrei essere breve ho promesso al mio direttore Fabio Beltram che in questo momento è a Napoli di dargli un benvenuto a nome suo ma lo faccio con parole mie perché sono io che parlo. Dunque intanto appunto ho ringraziato Patrizia ma volevo ringraziare tutti voi perché questa conferenza per la mia dal mio punto di vista diventa veramente valida proprio nella misura in cui ognuno di voi è venuto qui a portare le sue esperienze. Io ho scoperto in CTO solo perché il mio direttore mi si ha nominato mi sembrava Ville pur essendo un antifista tirarmi indietro e non provare a fare qualche cosa e quindi ho accettato e ho cominciato a informarmi un po'. La prima cosa che vorrei dire ma la sapete è che noi siamo rispetto alle istituzioni in cui dobbiamo agire organismi non giovani giovanissimi e giovani il CTO è giovanissimo il CTO e siamo organismi del ventunesimo secolo cioè siamo nati su ispirazione e recezione di direttive europee anche se le nostre finalità sono scritte nel DNA della nostra costituzione come diceva Laura Sabelli prima e il passaggio per di più da CTO a organismi con finalità non coincidenti con composizioni non coincidenti hanno invitato le diverse istituzioni a trovare soluzioni diverse in più l'attuazione delle finalità per cui siamo nati ho visto un po' indagando ha prodotto progetti molto diversi nelle varie istituzioni allora questa è una ricchezza come dire di esperienza in cammino che è veramente fruttuoso per tutti mettere in comune io spero che parlando a mezza nell'assemblea di domani avremo opportunità di fare questo io prendevo nota delle osservazioni di Maridù sul CUC del comune perché noi che siamo ancora in mezzo al guado e siamo ancora con un CTO e un CUC che non non riesce a nascere è un difficile parto io penso che abbiamo molto da imparare a vedere che soluzioni hanno scelto gli altri e che cosa noi vogliamo fare prendendo anche idee dagli altri direi che questa forse è la cosa più bella della conferenza scusate vi vorrei anche ricordare che chi vuole venire alla cena di stasera durante la pausa caffè dovrebbe contattare qualcuna delle ragazze delle persone dell'organizzazione così ci contiamo e poi no voglio soltanto augurarvi buon lavoro perché vedo che i tempi stanno andando non più per le lunghe grazie a tutti chiamerò Patrizia Tomio come presidentessa a presiedere questa mattina grazie a tutti bene allora dopo questi interessanti credo già punti che abbiamo ricevuto durante questi primi saluti introduttivi io direi che possiamo davvero entrare nel vivo della trattazione dei nostri temi e quindi chiederei innanzitutto al professor Paolo Rossi dell'università di Pisa quindi gioca in casa ma anche componente del CUR di raggiungerci si sente si sente spesso parlare dell'espressione capitale umano anche recentemente l'Istat ha condotto una rilevazione statistica insieme all'Opse proprio su questo tema del capitale umano capitale umano che non va naturalmente sprecato ed è per questo che ci sembrava davvero importante trattare di questo tema delle carriere e Paolo Rossi in questo senso ha sviluppato uno studio una ricerca assolutamente importante sulle carriere universitarie analizzando come sostanzialmente gli attuali metodi e i numeri anche che sono relativi all'ingresso sostanzialmente nell'università permettano poi di elaborare sostanzialmente una proiezione che va a esaminare anche il medio e lungo periodo facendoci vedere uno scenario che forse non è così tranquillizzante anzi quindi forse dobbiamo cominciare ad immaginare anche qualcosa di diverso e parlare di carriere e di carriere e anche valutazione darei a questo punto la parola quindi a Paolo Rossi per il suo intervento mi sentite? Buongiorno a tutti grazie innanzitutto per l'invito che è sempre gradito perché l'occasione di parlare di questi temi è sempre un'occasione importante e penso che sia bene conoscere gli elementi di fatto per cui io cercherò nella prima spero breve parte del mio intervento di presentare appunto alcuni dei dati che emergono dall'analisi statistica della situazione del sistema universitario direi negli ultimi decenni e soprattutto negli ultimi anni ma non vorrei vedete qual è il titolo non vorrei diciamo con questo occupare la maggior parte del mio intervento che preferirei dedicare al tema dell'impatto della valutazione e dei sistemi di valutazione sulle carriere femminili perché in realtà il torno ha preso per le corna e se non si capisce perché cioè con quali dinamiche le donne vengono scelte o non scelte in sede di valutazione non si capisce neanche quali correttivi si possono mettere in atto per evitare che le dinamiche attuali che come vedete sono certamente non positive si perpetuino per sempre quindi per cominciare vorrei semplicemente illustrarvi qual è stato l'andamento della presenza femminile nel sistema universitario italiano nelle tre fasce e ovviamente già questo primo grafico mostra un fenomeno di cui siamo tutti più o meno conscienmente a conoscenza se non a livello quantitativo a quello qualitativo cioè che da alcuni anni a questa parte la presenza complessiva di personale docente nel sistema universitario e anche di personale tecnico amministrativo devo dire sta precipitando sta precipitando nelle tre fasce come vedete qui è semplicemente la presenza femminile nelle tre fasce la precipitazione della presenza complessiva è addirittura maggiore di quella della presenza femminile e di questo c'è un motivo molto semplice siccome le donne sono entrate più tardi nel sistema in maggioranza intendo ci sono ovviamente anche donne che sono entrate prima ma la maggioranza delle donne presenti nel sistema è entrata più tardi della maggioranza degli uomini che sono entrati nel sistema le donne non hanno ancora cominciato a uscire dal sistema con la stessa intensità con cui stanno uscendo gli uomini il che però non risolve il problema perché determina lo vedremo fra un attimo una fittizia crescita percentuale della presenza femminile che però come avete visto dal grafico precedente non è dovuta al fatto che ora ci sono più donne ma è dovuta al fatto che ora ci sono meno uomini e questa non è una grande consolazione cioè voi vedete e poi oltretutto attenzione bene questa crescita percentuale per quanto fittizia la vedete soltanto nella fascia delle ordinarie questa è la presenza femminile percentuale nelle tre fasce la linea scura è la media ma coincide con la media della presenza percentuale e coincide con la presenza percentuale delle associate e gli associati rappresentano un po' la media del sistema su tutti i parametri ora però come vedete diciamo sembra che la percentuale delle donne cioè percentualmente sta crescendo la presenza femminile nell'ordinariato ma ripeto ancora una volta perché questo è un punto estremamente importante non cresce per aumento per non dietro un attimo anzi c'è un calo della presenza femminile tra le ordinarie perché molte sono andate in pensione e poche sono state assunte ma siccome anche molti ordinarie sono andate in pensione ancora di più sono andate in pensione apparentemente le percentuali danno in questa indicazione quindi in realtà la cosa che bisogna andare a vedere sono le percentuali di reclutamento per fasce ma le percentuali di reclutamento per fasce attenzione sono assolutamente basse non è che uno potrebbe dire e l'ho letto in molti in molti pubblicazioni certo sono fenomeni lenti perché chiaramente ovviamente si assume una piccola percentuale di persone all'anno una piccola percentuale se ne va ci vorranno comunque decenni per raggiungere la parità ma prima o poi la parità si raggiungerà attenzione questo sarebbe vero se il reclutamento fosse al 50% allora se il reclutamento fosse al 50% probabilmente nel giro di vent'anni peraltro non meno si riderebbe al 50% anche delle presenze quando tutti gli attuali saranno andati in pensione e tutti i reclutati saranno stati reclutati al 50% si sarà saranno più o meno lo stesso numero maschi e femmini ma se questo se il reclutamento fosse al 50% ma così non è il reclutamento è tuttora nelle fasce alte molto più basso nella componente femminile che nella componente maschile questo significa che siamo in presenza di un processo e il grafico delle ricercatrici è quello più illuminante perché nel grafico tra i ricercatori almeno fino al 11% del reclutamento c'è stato quindi se ci fosse stata una dinamica positiva quella linea gialla in alto che voi vedete non sarebbe orizzontale avrebbe ancora un segno di crescita magari più lenta ma avrebbe un segno di crescita la crescita c'è stata e qui ci vediamo molto bene al titolo del convegno negli anni prima della crisi vedete che le impennate in queste curve sono tra il 2000 e il 2005 quando c'erano diciamo relativamente talmente tante risorse che i maschietti del sistema universitario potevano permettersi il lusso di reclutare anche donne pensate e quindi ovviamente avevate queste curve in crescita che segnavano un miglioramento oggettivo in questo caso non c'è alcun dubbio anche se torniamo ai grafici precedenti lì addirittura ci sono delle impennate nei tre grafici ovviamente molto maggiore l'impennata nel grafico delle ricercatrici perché di una scampia le facce alte devono sempre essere molto prudenti però in ogni caso diciamo c'è un fenomeno positivo che ha visto notate dov'è che cambia il segno di queste curve cambia nel 2008 l'anno della crisi da lì in poi e tutto si tiene siamo al capo e siamo all'appiattimento delle curve percentuali oppure a una crescita fittizia per i motivi che spiegavo prima vogliamo consolarci? magra consolazione facciamo un confronto internazionale e ci accorgiamo che in effetti non è che nel resto di Europa almeno non so gli Stati Uniti ne hanno dati le situazioni siano molto migliori che da noi però anche da questa tabella c'è qualcosa da imparare beh certamente possiamo essere orgogliosi del fatto che cosa sono gradei di si e di e questo è importante sono la classificazione internazionale dei profili di docenza gradei corrisponde in buona sostanza ai nostri ordinari e anche nel resto d'Europa c'è una figura analisi a quella dell'ordinario gradei corrisponde quasi ovunque ai nostri associati salvo che in Francia dove ci sono i metodi di conférence infatti vedete che il grade B francese è molto più alto di quelli del resto d'Europa perché è una figura di mezzo tra l'associato ricercatore una figura di più vasto profilo e quindi ci sono più donne questa è la realtà grade C è la figura del ricercatore che in Francia non c'è quindi non è che ci sono poche donne perché ce l'hanno non vogliono donne tra i ricercatrici semplicemente che non fa statistiche mentre negli altri paesi siamo più o meno sul livello italiano salvo la Germania la Germania è terra bruciata dal punto di vista accademico per la presenza femminile in complesso abbiamo un dato di grandissima consolidazione grandi sono i precari e lì vedete che le donne sono la maggioranza in Italia pensate che meraviglia abbiamo un sistema che garantisce la maggioranza delle donne nel precariato e qui si comincia a aprire un elemento di analisi fondamentale che cosa significa poi ci tornerò verso la fine questo dato significa che chiaramente quello che viene sempre chiamato soffitto di vetro soffitto di cristallo qui si manifesta allo stato puro allo stato bravo direi nel fenomeno per cui le donne si prendono fin tanto che costano poco e non chiedono niente e poi quando invece bisogna promuovere non si promuovono questo è il dato cioè il salto da 51 a 45 è in certo senso più grave di quello tra 45 e 34 e tra 34 e 20 perché quegli altri salti riflettono dinamiche storiche i tempi sono tempi lunghi quindi il cambiamento delle percentuali comunque va sui tempi lunghi anche se tutto andasse bene per arrivare con una quello che dicevo prima anche se si reclutasse il 50% di donne nella fascia degli ordinali da oggi in poi ci vorrebbero 25 anni prima di arrivare al pareggio delle percentuali quindi quel 20% in sé riflette la storia più che non le dinamiche sociali attuali ma il passaggio da 51 a 45 è un passaggio che avviene tutti i giorni non è un passaggio che riguarda il futuro è un passaggio che riguarda il presente e indica che oggi si sta facendo una selezione durissima di genere nel passaggio tra precariato o non precariato questo è il primo dato che vorrei portare alla vostra anzi l'ultimo in realtà anche d'ora in poi non vorrei più farvi vedere le tabelle e i numeri ma entrare un pochino più nel merito no forse no ce ne ho ancora uno scusate che è questa che è importante è della composizione delle aree scientifiche perché ovviamente abbiamo fatto dei discorsi generici ma poi i discorsi vanno specializzati anche con le singole differenti realtà allora voi vedete che la presenza femminile scusate che sono i colori convenzionali dei bambini dell'asilo nido ma tanto per capirci io poi sono della scuola della Zonini Belotti cioè in realtà i colori andrebbero indertiti andrebbero vestiti di rosa i bambini per fargli capire che non però diciamo qui è stata la forza dell'inerzia che mi ha fatto prevalere questa scelta e dicevo vedete che il colore rosa cresce impressionantemente da sinistra verso destra sia nel 98 che di nuovo con lo stesso andamento numeri più alti percentualmente ma l'andamento è lo stesso nel 2008 quando si passa dalle cosiddette scienze dure vedete nell'estrema sinistra trovate l'ingegneria e la fisica posso essere orgoglioso di miei colleghi l'ingegneria civile la geologia la medicina la gradia poi l'economia vi leggo perché molti di voi conoscono benissimo questi simboli ma ve li converto per comodità anche di disposizione la giurisprudenza poi la matematica che è un po' meglio delle altre scienze le scienze politiche la chimica dove la presenza femminile invece è significativa la storia la filosofia la biologia e le lettere dove chiaramente c'è addirittura una maggioranza oggi come oggi ma c'era già nel 98 di presenza femminile questo andamento ovviamente è un dato culturale qui non siamo tanto nell'ambito della sociologia della sociologia diciamo del lavoro quanto la sociologia della cultura ed è il problema di un sistema in cui evidentemente la capacità di orientare disciplinarmente che già è bassa per tutti perché noi siamo assolutamente incapaci di dare un buon orientamento ai nostri ragazzi che infatti vengono all'autorizzità fanno una scelta sbagliata poi se ne pentono e o non finiscono o finiscono male e in particolare e questo non è un problema soltanto di orientamento preuniversitario ma di orientamento direi torno a ragionini veloce di orientamento in fasce non siamo capaci di dare un orientamento alle ragazze di questo paese verso quelle discipline che in altri paesi sono invece tranquillamente frequentate dalle donne allo stesso titolo con cui sono frequentate dagli uomini io ero l'anno scorso a Mosca a una presentazione a un salone in cui si presentavano le università italiane e c'era un'affluenza ai bant delle discipline scientifiche di donne quanto di uomini forse più donne che di uomini in Russia che è un paese che noi consideriamo un po' strano sempre un po' diverso un paese dove le donne fanno esattamente quello che fanno gli uomini almeno in campo universitario e questo è vero anche in molti altri paesi qual è il problema e torno indietro ad un passo nel ragionamento qual è la gravità rispetto a quelle tabelle europee della situazione italiana è che mentre negli altri paesi europei questo pattern questo andamento che riflette sicuramente dei dati culturali ma riflette soprattutto dei dati culturali del mondo accademico in Italia e le donne però fanno le professioni con cui si trova lavoro e quindi le donne che non sono in questa tabella però sono a fare l'ingegnere a fare le medichesse a fare qualunque altra attività chiunque può fare ovviamente e che quindi può aspettare le donne quanto gli uomini in tutti i settori dell'attività in cui c'è il mercato del lavoro e forse un po' meno nell'università il problema è che da noi l'istituzione è cattiva nell'università e peggiora nel resto del mondo del lavoro questo è il vero problema dell'Italia che le nostre ragazze non vengono a fare non vengono a studiare quelle professioni che poi potrebbero tradursi in prospettive reali nel mondo del lavoro prospettive di cui il paese ha bisogno non solo le donne hanno bisogno ma il paese ha bisogno quello che diceva la collega e assessora che offrono prima è sacrosanto non è non è se lo tengo a vedere se è il 6, 7, 5, 4% del PIB ma qualunque analisi economica seria mostra che uno dei problemi della bassa produttività del sistema produttivo italiano è la scarsa componente femminile nel lavoro non solo nel senso che pure è vero lo diceva l'archeofalo o qualcun altro prima che ci sono dati forse la sarebbe che la presenza nel mondo produttivo aumenta la produttività per la pura presenza femminile ma è anche una questione di numeri assoluti sono tutte persone che non lavorano o meglio che fanno altri lavori socialmente utili sicuramente ma che sono lavori che non hanno un uomo riflesso nell'economia misurata perché se tutte le nostre se una grande parte delle nostre donne è impegnata nella cura quando la cura invece dovrebbe essere un problema che va socializzato e che dovrebbe quindi razionalizzato e tramite diciamo sistemi di welfare e di strutture che possano anche rendere meno onerosa in termini di capitale umano la cura tutte quelle donne impegnate nella cura parcellizzata nelle singole famiglie sono donne sottrate al mondo del lavoro che sono danneggiate sul piano personale nella propria realizzazione individuale e sul piano collettivo nella realizzazione economica del paese qui siamo di fronte a una follia collettiva social che non è soltanto un problema di vita di genere è un problema che ci stiamo facendo del male come paese non soltanto come genere comunque questo è un discorso molto più ampio che non posso sviluppare in questa serie o no questa distribuzione ovviamente come poter un attimo dopo a specificare è effetti di feedback negativo perché più donne ci sono in certi settori più le vengono prese meno donne ci sono in certi settori meno le vengono prese e su questo punto tornerò quando parlerò dei problemi della valutazione inizio subito a parlarne e a questo punto smetto di far vedere le figure e di dare i numeri cioè i numeri di continuo a darli ma non le dimostri più la valutazione chiaramente incide in maniera fondamentale nel processo a due facce che secondo me possono essere separate abbastanza bene nell'analisi gli elementi oggettivi della valutazione che creano una discriminazione di genere e gli elementi altrettanto gravi se non di più ma soggettivi della valutazione che a loro volta supportano la discriminazione di genere degli elementi oggettivi è abbastanza facile parlare si è quello di farlo anche abbastanza rapidamente anche perché se no non mi poteva a scadere e sono è molto facile fare degli esempi il primo quello che secondo me salta più clamorosamente agli occhi è il fatto che specialmente negli ultimi tempi si è instaurato un criterio quantitativo e relativo di valutazione che ha provato la sua massima espressione nelle famigerate mediane della veritazione scientifica nazionale ma anche nei criteri dell'UQR un criterio quantitativo che decide che per essere bravi bisogna essere meglio della metà della popolazione ora lasciamo perdere il fatto che l'idea che necessariamente la metà della popolazione non è brava che è un'idea che mi è totalmente stranea e non dico capire chi l'ha concepita come possa sostenerla seriamente di fronte a un pubblico dibattito ma anche ammesso non concesso che questo è il criterio adesso un qualunque significato questo è un criterio che diventa discriminatorio a livello di genere perché per il semplice motivo che un criterio quantitativo comporta una produttività quantitativa che per gli scorsi che sono già stati fatti in questa sede e in infinite altre è ovviamente una produttività che va a pesare negativamente sul profilo femminile perché nella società italiana in particolare con la mancanza del welfare con il tipo di struttura familiare con i modelli interiorizzati ancora nella testa di molti maschi e purtroppo anche di molte donne di ruolo sociale e familiare la capacità della donna di impiegare altrettanto tempo quanto alcuni uomini impiegano nella produzione scientifica può comunque essere sia il suo valore perché poi qui c'è l'aspetto del fatto che la produzione quantitativa non significa necessariamente produzione qualitativa beh questa capacità è sicuramente oggettivamente ridotta e quindi è oggettivamente discriminante usare un criterio quantitativo relativo del tipo delle mediane o qualunque altra cosa che li assuma qui esistono alternative? beh diciamo come Consiglio Universitario Nazionale la nostra linea e lo dico qui perché mi sembra il caso anche di debba dirlo ancora una volta è quella che i criteri ai fini di qualunque tipo di ammissione a una valutazione come sono le abilitazioni o qualunque altra cosa che assomigli dovrebbero essere criteri di sogna cioè criteri in cui si dice meno di tanto ma non rapportato relativamente a cosa fatto alla metà meno di tanto definiti in termini assoluti non puoi aver fatto se no è inutile che tutti presenti ma chiunque abbia fatto più di tanto e il tanto deve essere avevamo fatto delle stime quasi alla metà delle attuali mediane ha il diritto di essere valutato poi la valutazione che deve essere fondata fondamentalmente sulla qualità è compiuto del valutatore il quale esprimerà in quella sede la sua capacità di giudizio la sua competenza la sua intelligenza e possibilmente la sua capacità di non discriminazione ma se la discriminazione avviene a monte con un meccanismo pseudo-oggettivo che dice tu non sei arrivato alla metà e la metà ripeto è pesantemente condizionata dal genere allora questo è un meccanismo che al di là di tantissimi altri aspetti per cui andrebbe condannato è condannabile anche da questo punto di vista corollario a questo stesso principio è ad esempio è un altro elemento oggettivo di discriminazione proprio nelle carriere universitarie è questa idea peregrina della età accademica per cui vale solo quello che uno ha fatto negli ultimi dieci anni ma allora se vale solo quello che uno ha fatto negli ultimi dieci anni definiamoli bene questi dieci anni se in questi dieci anni un soggetto e qui ha avuto degli elementi che in qualche modo hanno fatto sì che i suoi dieci anni in termini di lavoro fossero meno o addirittura molti meno teniamoli conto ora già nella norma qualche elemento c'è perché ci sono elementi legati alla malattia e alla maternità ma è un po' poco perché non c'è soltanto la malattia e la maternità c'è la cura ci sono altri elementi diciamo di realtà sociale che fanno sì che i dieci anni di un maschio che non fa altro non siano la stessa cosa di una donna che fa molte altre cose nel frattempo allora l'età accademica si è definita sembra un criterio oggettivo ancora una volta sembra un oggettivo dire ah ma devi aver lavorato negli ultimi anni se hai fatto qualcosa prima che se ne frega ti sei lasciato andare ma non è oggettivo è qualcosa che ovviamente mette in gioco anche degli elementi e delle relazioni sociali che in questo paese più che in altri ci sono di un certo tipo e che discriminano discriminano anche altri soggetti perché discriminano handicapati discriminano una serie di profili ma discriminano in modo particolare credo le donne che ovviamente hanno mille ruoli per cui di umane di moglie di sorelle di figli tutte quelle cose che nella realtà sociale pesano molto di più della voglia di scrivere un verità lo stesso ci sono c'è un ultimo elemento di cui farò bravissimamente ma che anche quello mi ha dato molto fastidio nella analisi di come elementi pseudo-oggettivi di valutazione possono discriminare ed è quello dell'internazionalizzazione non è che sia così ovvio che andare all'estero e passarci degli anni è una cosa che non discrimina discrimina socialmente credo ma discrimina anche a livello di comunità di genere perché non è così ovvio che mentre ho visto molte famiglie in cui il maschio andava all'estero e si portava dietro la moglie ne ho viste ben poche in cui la moglie andava all'estero e si portava dietro il marito ne ho visto una sola in cui la moglie andava all'estero e lasciava a casa il marito a ballare i bambini una sola nel mio vissuto che è un po' poco diciamo e quindi voglio dire stiamo accettenti anche a questi criteri apparentemente neutri e che neutri non sono per niente si potrebbero dire molte altre cose io vorrei finire con una considerazione e la leggo come l'ho scritta perché mi sembrava mi suonava bene come l'avevo scritta e non vorrei dirla male la ricerca della qualità di chi opera nel mondo dell'alta formazione e della ricerca non dovrebbe mai andare a scapito del mantenimento di livelli di umanità che non raramente vengono sacrificati alla carriera ancorché scientifica in una competizione che spesso enfatizza più dei risultati proprio la disponibilità a sacrificare qualunque altro interesse io credo che almeno delle mie capacità questo esprima il concetto che volevo trasmettervi cioè che veramente si perde l'umanità nella logica di gara con che oggi sono amministrate le carriere e si perdono anche molte altre cose elementi soggettivi anche gli elementi soggettivi sono tanti e ripeto certe volte sono anche più gravi c'è degli elementi di soggettività dei valutatori in questo caso poi nell'ultima parte parlerò anche della sua gestività dei valutati che entra nel gioco che tendono a far sfavorire le candidate rispetto ai candidati e non sto parlando di elementi dolosi cioè favorevole il candidato perché è mio amico o favorevole il candidato perché siamo d'accordo ma neanche di elementi consciamente discriminatori a questo punto non posso annunciare raccontarvi io mi occupo anche di storia della fisica e di recente ho scoperto un epilogio della prima età del novecento che quindi non è di grande attualità ma è esemplare nella lucida perversione ed è quello di un rettore o decano o professore della facoltà di scienza non ricordo dell'università di Palermo che non accettò la chiamata di una professoressa di fisica non si trisse dalla cattedra quindi doveva solo essere chiamata a Palermo anziché altrove ed essendo siciliana si teneva anche con la seguente motivazione probabilmente incapace di mantenere l'ordine in un ditoglio di giovani maschi io l'ho trovata veramente raccapricciante pur se datata però sintomatica ve l'ho citata per questo perché questa è l'esplicitazione di qualcosa che se non riguarda l'editorio di giovani maschi riguarda però qualcosa che nel profondo lavora nella testa di tanti valutatori adesso è probabilmente incapace di fare qualcosa anche se non mantenere l'ordine di un'editorio di giovani maschi mi riferisco a quei comportamenti che non arrivano mai a livello cosciente sono dettati però da un pregiudizio talmente radicato che non prova neanche le forme della manifestazione esplicita ma si mantiene testa nel concreto e qui ho un altro episodio che non è un aneddoto questo ma un test di psicologia sociale particolarmente interessante hanno provato a costituire una commissione di esperti musicisti col compito di selezionare giovani musicisti al fine di decidere quali assumere in un'orchestra di alto livello che poi era tutto finto però loro non lo sapevano e venivano fatte due tipi di selezioni una in cui il candidato suonava davanti ai valutatori e un altro invece qui era mascherato stava dietro una tenda dietro qualcosa ora quando il candidato era selezionato e si vedeva chi era la prevalenza della scelta era orientata verso i maschi quando il candidato non era visibile la prevalenza della scelta era orientata verso le effetti questo è esattamente il segno di come il condizionamento inconscio del valutatore lì non posso pensare che ci fosse una volontà discriminatoria conscia nel momento della prima selezione quella fatta vedendo in faccia i candidati e che queste cose agiscono a livello che è difficile controllare e attenzione io vorrei segnalare che i modelli sono interiorizzati da tutti anche da molte donne quindi anche alcune donne nelle commissioni possono cadere in questa perversione può scattare la competizione all'interno del genere ci esiste non per legarlo è per scattare invece il meccanismo dell'assimilazione dei modelli maschili che tutti e due hanno come effetto finale che la valutata è valutata peggio del valutato a parità di merito se non a lettura con merito superiore certo però di cui torno a questo grafico in un a caso l'ho lasciato in evidenza che laddove la presenza femminile è forte prevale anche la capacità di non subire questi condizionamenti o di subire di meno e quindi prevale anche la capacità di fare un reclutamento femminile quindi ovviamente stiamo di fronte a un feedback negativo a una situazione che si morde la coda e sulla quale è anche un po' difficile identificare autentici correttivi che non siano manunitari perché a me tante volte voglio di dire ci devono essere per forza donne in commissione nelle commissioni poi conosco le obiezioni che sono state fatte mille volte capisco che laddove c'è un 10% di donne dire che ci devono essere per forza da un'incommissione può sembrare punitivo a quel punto rispetto agli altri che hanno ugualmente titolo su un piano di parità che esistono ad andare nelle commissioni in quel 90% di massa se però non si fa niente non si fa niente io non mi sto proponendo una soluzione mi sto ponendo un problema io sono convinto comunque che il problema esista anche a livello di valutatori e non solo di valutati ed è che esista a livello di soggettività dei valutatori e quindi anche di genere dei valutatori in una misura non trascurabile a questo proposito tra l'altro faremo presto un test importante io sono in questo vorrei mandare avanti un lavoro che sta partendo in collaborazione con la rete WISP che qualcuno di voi la sentite da nominare che fa parte dell'associazione stati generale dell'innovazione vorremmo scrutinare tutti i risultati di tutte le abilitazioni e vedere intanto il rapporto tra candidati e candidati che è già un dato significativo e poi il rapporto tra abilitati e abilitati che temiamo perché i primi campioni ce lo indicano che sia molto diverso dal rapporto tra candidati e candidati molto diverso ovviamente in senso sfavorevole alle donne ultimo punto e poi concludo perché veramente non riguarda troppo tempo c'è il punto dell'atteggiamento dei candidati e delle candidati in particolare rispetto alla orientazione che non è irrelevante ai fini di visita della loro decisione stessa è chiaro che qui gioco fuori casa nel senso che qui stiamo facendo forse della psicologia spicciola però credo che alcune cose diciamo che vi dirò risuoleranno anche in voi c'è qualcosa nell'atteggiamento di chi si fa valutare che condiziona il valutatore un atteggiamento che è anche esso socialmente e culturalmente condizionato ma che poi influenza negativamente gli esiti stessi della valutazione a mio parere e sembra parodostale del valutatore il singolo elemento che in sé dice più pesantemente a sfavore di una valutazione positiva delle donne è un tratto comportamentale che dovrebbe essere invece apprezzatissimo sul piano umano cioè la disponibilità in cosa si traduce la disponibilità si traduce in comportamenti che sono molto semplici sono quelli di accettare il ruolo che ti viene indicato di fare le cose che ti vengono chiesti di fare indipendentemente dal fatto che potresti tu fare delle cose meglio che ci sono altri meno bravi di te che sono chiamati a fare le cose più qualificate però accetti perché sei disponibile perché stai al gioco perché hai una logica di squadra non una logica individualista non una logica di autoaffermazione non una logica di assertività tutte queste cose come si riflettono sulla valutazione in due modi uno che se sei precario resti precaria perché tanto maschio si afferma si butta avanti dice quanto sono bravo e qualcuno lo sta a sentire tu non ti affermi non ti butti avanti non dici quanto sei brava e nessuno ti sta a sentire e resti precario ci sono episodi io tendo a scendere in anedotica ma certi episodi mi lasciano veramente paralizzato di fronte anche alla fracotanza diciamo questo è un episodio quasi familiare perché la sorella di mia cognata che vedendo vincere un concorso dopo dieci anni che lavoravo in un laboratorio come precario vedendo vincere un concorso uno è arrivato a due anni e meno bravo di lei per l'unico posto disponibile ha trovato il coraggio di andare dal capo e dire ma perché è passato lui e non me e la risposta del capo è stata è perché lui se no andrà via se lui no se no andrà via capito cioè non parlare del capo vuol dire poi non so se si è andato via o no ma chi se ne frega se era meno brava che l'andasse via cioè va bene tutto è lui ma erano tantenni entrambi adesso avrà anche avuto una famiglia a mantenere non mi interessa ma anche lei è una famiglia a mantenere perché il marito l'aveva scaricata per un'infermiera e quindi il marito l'aveva anche lei quindi non scendiamo adesso in un truculento mi sembra che però alla base veramente spesso nel valutatore sia un calcolo delle probabilità qual è la probabilità che la persona accetti il ruolo a cui la sto confinando ovviamente più alta per una donna ma questo è per questo atteggiamento che è un atteggiamento ripeto che umanamente non si può che lo dare però che si traduce in questo risultato come si scarica ulteriormente questa sua valutazione si scarica nel modo in cui vengono evidenziati o non evidenziati i contenuti femminili ad esempio nelle collaborazioni nelle collaborazioni dove finisce la firma del donna ma il terzo poi ad esempio in quei settori come la biologia e la medicina dove conta moltissimo la posizione del nome nella lista dei collaboratori che magari sono tanti l'ultimo posto è il capo che si inizia il comando io al primo posto quello a cui va dato il merito al secondo quello che l'ha aiutato e dal terzo in poi quelli che passarono di lì compresi tutti gli amici del capo e nel mucchio le collaborazioni di solito questo è un effetto del ruolo e dell'accettazione del ruolo e della condiscendenza della mancanza di essertività io credo che lo dico senza ho scritto nella presentazione non vorrebbe che è il psicologismo però io in realtà ne sono convinto non riesco a spuggire all'idea che ci siano molte carriere che sono di colleghi anche che sono dovute semplicemente alla capacità del collega di mettersi in mostra non è il suo emerito intensivo penso quindi viene in mente un collega che io considero un emerito imbecille se voi andate a leggere la sua pagina di wikipedia che ha probabilmente scritto lui stesso sembra che sia in attesa del premio anodario ce n'è tante questo è un caso estremo ma ce n'è tante allora quanto questo gioca quanto questa soggettività del valutato e della valutata nell'altro segno con l'altro segno gioca nell'esito finale della valutazione io temo pari temo pari quindi anche questa è una cosa che voglio segnalare alla vostra attenzione come una delle tematiche della valutazione declinata in un'ottica di genere perché non sto consigliando alle donne di cambiare atteggiamento ma sto consigliando semplicemente di gridare queste cose cioè sappiate che noi siamo buone e care ma perché siamo buone e care non perché sia giusto così e volevo solo concludere con questa cosa che è stata scritta vedete nel 1769 da un storico dell'arte e pittore il quale ha scritto questa curiosissima frase in un'epoca che giustamente si chiamava epoca dei lumi lumi che si sono spenti in morguitari purtroppo e che viveva nella stessa città la prima professoressa di fisica credo nel mondo forse non solo in Italia ed è anche la prima donna Laura Bassi di cui non voglio neanche citare il nome del marito perché è adegorante anche se è conosciuta anche quei due nomi Laura Bassi non solo è stata la prima professoressa di fisica nella storia credo dell'università mondiale ma è stata anche la prima professoressa di comunità di Sabrina che alla morte è stata succeduta nella catena dal marito una cosa che mi ha veramente dire profondamente ed è un mio mito Laura Bassi devo dire sinceramente anche come fisico non solo come cultore di questi diciamo studi perché veramente dice che va bene la storia procede molto lentamente perché se nel 1700 si potrebbero dire fare quelle cose scrivere quelle cose che nel XXI secolo nel terzo millennio ancora siamo a questo punto è veramente triste grazie per l'attenzione grazie per questo splendido e appassionato anche l'intervento che ha mostrato non solo una situazione non solo predidati ma ha voluto anche inquadrarli credo in maniera molto molto interessante non solo sul piano scientifico ma anche su un piano come dire di equità di ragioni economiche di ragioni sostanziali di giustizia anche se vogliamo sociale però noi siamo qui intendiamo lavorare assolutamente su questo fronte credo che iniziative come quella di oggi servano anche per portare dentro nei nostri atenei sollecitazioni proposte attività e dal cubo io credo anche verso i nostri territori di riferimento delle azioni assolutamente di presenza in questo senso e di richiamo giusto ieri sera eravamo con alcune amiche a cena e si ricordava che alcuni atenei ad esempio hanno posto negli statuti la famosa quota all'interno dei CDA il mio ateneo è uno di questi Milano è uno di questi e guarda caso le donne da mettere nel CDA si sono trovate si sono trovate e sono persone che stanno lavorando e dando un contributo essenziale per i nostri atenei quindi quando si vuole si può dobbiamo forse mettere anche le nostre istituzioni nelle condizioni di volere detto questo adesso abbiamo un momento di pausa caffè brevissimo vi chiedo anche puntualità quindi pochi minuti e poi riprendiamo anche per non rubare poi spazio agli acceleratori e soprattutto ciò di basta previsivamente le problematiche che ho detto oggi e i dati sono stati in rete non è ancora il diritto di posta diciamo se andate al sito del dispartimento fisico e cercate le pagine personali che avevi invitato alle mie pagine personali ancora grazie ancora grazie bene allora io direi che proseguiamo con i lavori la seconda parte della nostra mattinata dopo l'intervento di Paolo Rossi continuiamo diciamo con questo approfondimento su questa tematica e ne approfittiamo anche per una visione che va a guardare un po' le origini di questo fenomeno come dicevo stamattina e abbiamo qui un interessante credo contributo di Anna Santoni che ci parlerà di donne lavoro e carriere stranamente nella tema classica grazie grazie sì prima di questa dico subito ho dimenticato una parola importante quando ho dato il benvenuto il benvenuto più grado è agli uomini che sono qui perché non si faranno cambiamenti senza la collaborazione con gli uomini quindi la loro intelligenza e disponibilità non è apprezzata è indispensabile ormai sono qui dunque io sono un'antichista come ho detto prima di mestiere la mia disciplina è essere rigorosa e storia greca ovviamente come dovere d'ospitalità ma anche come piacere personale volevo contribuire in qualche modo ma posso contribuire solo parlandovi del mestiere mio cioè di un mondo che conosco un po' di più che allora vi parlo di donne ma vi chiedo di andare parecchio lontano nel tempo di donne sì del loro lavoro delle loro carriere se così si può dire e anche delle crisi che hanno passato prima di cominciare vi darò tre pensieri sulla donna tre modi di pensare sulla donna che sono caratteristici di questo tempo e che il tempo che qui non è detto il quarto il quinto secolo avanti Cristo ma il tempo dell'età d'oro di Atene cioè quello che conoscono tutti a scuola e in tutto il mondo il primo pensiero che chiuderà poi le mie considerazioni sono considerazioni che Aristotele ha messo nella politica e che mi sono immediatamente venute in mente quando Paolo Rossi citava quel professore di Palermo che non ha voluto l'insegnante di donna di fisica per dire gli storici tra voi lo sanno bene quando si guarda il passato si porta il nostro presente anche se non si vuole ne guardare il passato e alcuni di noi cercano di sottolineare più le differenze altri più le continuità in questo caso ci sono per fortuna differenze enormi ma ci sono dei fili di continuità di resistenza davvero molto forti allora cosa dice Aristotele Aristotele dice presso i barbari che sono i non greci donna e schiavo sono sullo stesso piano e la ragione lui la trova bene la ragione è che ciò che per natura rende capaci di comandare né schiavi né donne ce l'hanno lui lo dice con una parola sola to'a chiudio che qui in greco si vede mi ha insegnato un mio collaboratore che è qui che avrei dovuto salvare il pdf comunque to' chiudio vuol dire proprio la capacità di comando senza discussione è il potere assoluto che hanno i magistrati quello lì la donna non ce l'ha come diceva Paolo è collaborativa è disponibile e ancora sempre nella politica nelle relazioni del maschio verso la femmina l'uno è per natura superiore e l'altro inferiore l'uno comanda e l'altro è comandata allora per senso di giustizia vi devo ricordare almeno un intellettuale aristocratico isolato tutto quello che volete che è stato capace di vedere le cose un po' in un altro modo nella costruzione del suo stato ideale uno stato che doveva essere ben governato e felice uno studio che per lui veniva dalla disperazione degli esiti del presente compresi i suoi tentativi di fare politica in questo stato ideale lui afferma un altro principio e cioè che ci sono è vero che gli uomini sono sempre più bravi delle donne ma ci sono donne che sanno governare meglio degli uomini e queste donne qui devono governare insieme agli uomini nel suo stato perfetto le donne che sanno governare bene devono governare insieme agli uomini il problema è che questo stato ovviamente è uno stato di totale utopia presuppone prevede la comunanza dei beni addirittura la comunanza dei figli insomma prevede cose che gli hanno attirato l'ostilità e lo sberleffo e tutti i contemporanei anche dopo però in qualche modo con un equilibrio suo su un piano forse solo teorico però lui arriva a riconoscere che ci sono molti uomini incapaci di governare e molte donne capaci di governare è già un passo infine delle parole che vengono da un autore di tempo di crisi vi dico la verità questo mi è venuto in mente ascoltando un'intervista di un giornalista credo del Corriere a un'economista donna mentre parlavano questo giornalista forse voleva fare il femminista non so dice commenta il fatto che ci sono alcuni grandi organismi internazionali a cui capo finalmente siede una donna e lui citava due casi che sono Jane se dico bene il suo nome Yellen alla Federal Reserve è una signora che comanda ora la General Motors e lui diceva ma non sarà un caso che una donna è stata messa a governare queste istituzioni in un momento in cui la crisi è enorme come se solo nel momento di crisi più disperata si fosse disposti ad accettare la carta di una donna mi è venuto in mente che ad Atene è successo un po' questa cosa qui sia pure scherzando ma non troppo e cioè che un comico che si chiama Aristofane che ha vissuto un periodo fra la metà del quinto e la metà del quarto secolo ha visto di tutto cioè ha visto prima una guerra di trent'anni che li ha dissanguati peste compresa cioè li è capitato di tutto poi un dopoguerra che è cominciato con un governo straordinario che ammazzava tutti i ricchi per pigliare i quattrini e i quattrini non ce n'erano più fa almeno due commedie che ci sono rimaste in cui mette le donne a protagoniste di progetti per governare e rimediare i danni fatti da donne allora vi ho messo la frase di un personaggio che in una di queste commedie che è la lisistrata che di fronte all'impegno di queste donne che si sono occupate la propria fanno molto sul serio lui dice stiamo attenti non bisogna cedere perché se diamo a queste donne il minimo appiglio non ci sarà più un mestiere che queste con la loro ostinazione siamo miti ma siamo ostinate non riusciranno a fare e giù fa gli esempi anche con battutacce di quattro ordine bene questi tre pensieri ve li do come premessa per andare un po' a vedere le donne d'Atene questa è l'acropoli la conoscono tutti sono studiosi giapponesi va bene non c'è problema l'acropoli di Atene viene subito in mente che in questo periodo qui da queste parti si sono formulati straordinari pensieri basi scientifiche per un sacco di discipline si va dalla logica che è quella che andrebbe insegnata di più nelle nostre scuole si va alla matematica l'astronomia la meteorologia la psicologia la politica la storia non come descrizione di fatti ma come ricerca delle cause che hanno prodotto questi fatti non parlo delle acquisizioni delle arti figurative perché sono enormi e così contributi in letteratura il teatro c'è un concentrato qua dentro che forse nella storia umana succede abbastanza dirato non so trovare paragoni ma tutti questi prodotti sono prodotti di maschi tutti allora che fanno le donne Atene mentre questi maschi fanno la filosofia studiano come governare gli eserci che quello che volete voi ve lo dico con le parole di un grandissimo governante atenese responsabile e ostinato anche di queste costruzioni qua ma purtroppo anche di quella guerra di cui vi dicevo prima che si chiama Pericle allora in una delle poche occasioni in cui anche le donne stanno in pubblico che è un funerale questo è un funerale stato di caruti in guerra del primo anno di questa sciagurata guerra alla fine di tutte le sue considerazioni congeda i presenti e che cosa dice alle donne? vi dice non essere più deboli di quanto comporta la vostra natura sarà un grande vanto per voi cioè la donna piange però non pianga troppo e poi sarà una gloria se di voi si parlerà pochissimo tra gli uomini in lote o in biasimo cioè non è questione di essere bravo o no è questione di non farsi sentire chi sono queste donne a cui parla Pericle? ovviamente non sono Atene ci sono varie categorie di donne una si dimentica sempre sono le schiave l'economia di Atene è un'economia fondata sulla schiavitù e quindi ce ne sono tantissime però non contano nulla ovviamente non esistono ci sono anche le prostitute tra queste donne che gli uomini liberi usano però sono appunto strumenti poi ci sono le donne libere che non sono cittadine ce ne ho descritto un numero che sono le morogli o le figlie di quelli che si chiamano i metenici che sono gli stranieri con diritto di residenza però anche queste contano poco qualcuno di loro serve nell'esercito ma non importa le donne a cui Pericle si rivolge sono le donne libere e cittadine un po' di inciso vi dico subito che la vita di Pericle non ha seguito questi modelli e questi discorsi ha scelto una donna di tutt'altro tipo ma lui stava parlando da governante al suo popolo e gli ha detto quello che il suo popolo voleva sentire quindi è così allora che cos'è una donna cittadina ad Atene? una donna cittadina ha i seguenti diritti può sposare un uomo cittadino se no non potrebbe con rarissime eccezioni i loro figli sono cittadini bene può partecipare alla vita pubblica solo in alcuni ambiti religiosi basta poi A non può ereditare cioè il patrimonio della famiglia alla ronda non gli arriva mai c'è un istituto di diritto attico che ha un po' lungo da spiegare si chiama i piclerazzo insomma detto in sostanza breve se una donna rubi gli muore il padre il parente più vicino della famiglia maschio si fa avanti e se la sposa se è sposata ma non ha figli si cerca di fargli avere il figlio ma addirittura il parente può pretendere che lasci il mariso e venga con lei perché è lui che piglia il patrimonio insomma la donna è patrimonio di famiglia non lo può gestire il curion veramente la donna tenese non ce l'ha non solo che ovviamente non gestirà nemmeno la donna perché quella la gestisce il mariso poi vi faccio vedere secondo me che gestisce infine non ha diritti politici allora io quando guardo questo posto un po' mi commuovo questo posto così sto spiaglio spellacchiato è in realtà un luogo che si chiama Punisce sta qui questa è l'Atene antica qui c'è la piazza del mercato un po' di tribunali vari affari qui c'è l'acropoli questa è la Punisce ha uno spazio che calcola all'incirca 6.000 persone dentro e questa che vedete qua è una tribuna si salva in gradini e si salva qui allora questo è il primo spazio nella storia che noi conosciamo in cui una comunità in questo caso maschi adulti dai 20 anni in su decide di risolvere i propri problemi riunendosi qui non affidandosi né a un re né a una piccola oligarchia ma affidando a tutti loro che hanno in comune una prelogativa fondamentale portano le armi e difendono la comunità questi qui hanno diritto a uno diritto che si chiama Isegoria cioè chiunque tu sia purché tu sia fra questi puoi salire questi gradini salire qui e dire quello che pensi sui problemi della città e poi si vota allora a me questo mi pare un gran gradino nella storia dell'evoluzione umana fermo restando che questo gradino lo stiamo ancora salendo non è che l'abbiamo risolto e fermo restando che qui riguarda un piccolo numero di maschi adulti però è un passo che a proposito di pari opportunità chiede a ogni individuo che fa parte della comunità di usare il proprio cervello e portare i propri contributi allora nessuna donna ad Atene ha mai salito il bema questo si chiama bema la figura nessuna salvo una donna travestita da uomo in una commedia di Aristofane di cui vi dirò che si chiama le donne a parlatento cioè per ridere ridere ma non troppo perché quello che dirà è una ripassata contro i maschi unicidiale dunque andiamo avanti allora queste donne stanno nell'ombra le donne per bene ad Atene ad Atene ci sono quattro classi sociali economiche basate economiche ma la ricchezza corrisponde anche alle capacità che hai di servire in guerra la penultima sono i cavalieri che si possono allevare i cavalli poi ci sono i ricchissimi e i sopporti la prima classe comprende quelli che non possiedono niente si chiamano teti allora le donne che vivono di salario le donne di questi qui non fanno tanto parte del mio discorso vanno in giro liberamente perché sono più o meno come le schiave cioè devono accampare vi farò un esempio c'è una vedua in una commedia di Aristofane che dice che il marito l'ha lasciata solo a cinque bambini morendo a Cipro e lei si guadagna ad accampare intrecciando corone che vende nel lavorato cioè queste donne qui vanno in giro ma le donne rispettabili diciamo medio, basso in su come eccento devono stare molto, molto a casa anzi devono stare talmente nell'ombra che una storica americana che si chiama Sara Bomberley ci ha fatto notare che molte volte è una regola che quando si parla della moglie di qualcuno non si dice il suo nome ma si dice solo la moglie di un esempio ve lo do qui perché voglio farvi conoscere una di queste donne a tenessi modello questo è un testo scritto da Senofonte siamo nel quarto secolo Senofonte è un cavaliere come status quindi molto ricco tradizionale molto tradizionale e scrive questo dialogo sulla gestione del patrimonio economico e rappresenta Socrate a discutere con un signore che si chiama Scomaco lo incontra per la strada e gli dice scolta Scomaco io ti vedo sempre a giro sei in piazza sei al pireo ma a casa tua chi ci pensa e Scomaco risponde chi ci pensa sua moglie tutto il discorso sarà molto lungo me l'ho portata al libro non so perché me l'ho trovato lì tutto il discorso ha come protagonista l'insegnamento di Scomaco alla moglie eppure voi cerchereste in vano il nome di questa donna che non c'è mai lei è solo la moglie di Scomaco ma vi posso fare molti altri esempi allora vi cito l'inizio perché mi ha colpito sempre allora quando Socrate gli ha detto ma tua moglie era già brava a gestire la casa quando l'ha presa Scomaco risponde ma no è arrivata a casa mia che non aveva neanche 15 anni ed era stata educata con sorveglianza seria perché vedesse sentisse e chiedesse il meno possibile cioè è già un miracolo dice lui che questa sapesse tessere una veste o un mantello se gli davi la lana e sapesse quale quantitativo di lana si deve dare a una serva da tessere le serve devono produrre nella casa lei era di una famiglia evidentemente abbastanza giata gli aveva insegnato quanta lana deve dare alla serva e che la serva può fare in un giorno questa è la moglie di Scomaco che io mi immagino mi raffiguro nella mia fantasia questa che vedete è una stelle funeraria naturalmente me la immagino un po' così cioè una donna vestita il cui abbigliamento postura la sedia tradisce una condizione economica piuttosto elevata però anche una certa sobrietà nell'abbigliamento nella capigliatura perché ve lo faccio vedere perché c'è la schiava qui la serva che le porge un cofanetto probabilmente lei aveva in mano un gioiello che sia un po' spezzato nel tempo questa donna si chiama Igesori e io ve lo faccio vedere perché questo cofanetto rappresenta l'unico bene materiale vero che la donna attica può gestire i suoi gioielli personali possono essere gioielli anche di un certo rilievo ma forse la sua unica vera ricchezza libera quindi se dovessimo chiudere qui dovremmo dire subito che a una donna tenese di cento medio alto di buona condizione rispettabile il massimo della carriera che ci si può aspettare è quello che può fare all'interno della casa cioè dimostrare al marito che è una brava amministratrice così il marito le cederà le redini di questa casa cioè la cura degli schiavi se gli mancano vestiti le dispense una serie di piccole spese anche le affiderà del denaro questo è una qualità che ho scoperto preparandovi per voi i maschi atenesi apprezzano moltissimo il letteratura è sempre apprezzata questa capacità amministrativa ma perché? perché corrisponde anche a una divisione di ruoli che piace moltissimo agli amici atenesi forse non solo atenesi che vogliono andare a giro vogliono stare a lavorare vogliono andare a pireo vogliono fargli affari loro vogliono cavalcare controllare le proprie terre non vogliono stare a contare le scappe di servi quindi questa è una qualità che gli piace tantissimo e lo vedrete che poi Aristofane quando rappresenta queste donne che vogliono governare loro grideranno forte che loro sono in grado di gestire lo Stato perché sanno già gestire la casa quindi è proprio riconosciuta dovete anche pensare che a teatro anche quando si rappresentano ruoli femminili parlano solo maschi quindi questi sono proprio discorsi tutti maschili e vi ho messo qui in fondo un breve discorso di un oratore formidabile famosissimo si chiama De Mostene il quale attribuisce alle mogli quale funzioni appunto di avere figli legittimi e di essere guardiani fedeli delle loro case questa è proprio la condizione massima poi ci sono altre donne come vedete di due livelli e se avanza tempo delle terre parleremo le prostitute poverine sono quelle schiave che dicevano che gli servono come dice lui per fare ginnastica per tenersi in fondo allora questa donna passa donna attenese rispettabile di certo medio forse sa leggere e scrivere appena appena poco più passa il suo tempo a casa se è veramente rispettabile non uscirà mai da sola sempre accompagnata e comunque uscirà poco nella mia gioventù lontana ho riso fino alle lacrime oggi non riderei tanto di quello che ci racconta Ofilese Ofilese è un cittadino attenese di buone condizioni ci dice che ha una casetta a due piani a dei campi insomma se la cava bene ma non è ricco e pronuncia un discorso che un altro ha scritto per lui perché un cittadino attenese è obbligato a difendersi da solo se non sei in grado di difenderti in tribunale il cittadino sei però se non sai parlare in atto bene magari paghi qualcuno e scriva per te e questo è il discorso che lui pronuncia è stato citato il tribunale perché ha fatto secco scusate ha ucciso cogliendo l'infragrante la madre della moglie il diritto attico prevedeva questa possibilità ma prevedeva anche come succede in evoluzione normalmente nei diritti civili che appunto il fedifra offrisse una somma di denaro magari molto alta e quella cosa finisce lì e Ofiletto non ha voluto i soldi l'ha voluto proprio togliere il mezzo lo descrive come uno sciupa femmina seriale ma la cosa che il nome della moglie in tutto il discorso non c'è mai alle solite non lo sapremo mai come si chiama la cosa che mi ha fatto rire moltissimo è che Ofiletto racconta come è cominciata sta storia e dice che è cominciata la sua disgrazia la mia disgrazia è cominciata quando è morta la mia mamma quando io ho letto ecco un altro militerraneo no? come perché quando è morta la mamma si è dovuto fare il funerale e la sua moglie è dovuta uscire al funerale perché è stato lì nel funerale della suocera che Eratostene l'ha vista passare e se ne è diciamo invadita naturalmente non la poteva avvicinare c'è tutta una strategia cioè Eratostene si apposta vicino alla casa aspetta che la schiava che va al mercato a fare la spesa non la donna che non esce esca fuori la botta perché tanto le schiave si possono abbordare in tutti i modi anche nella casa il padrone ne fa quello che gli pare e manda una serie di messaggi ma così è arrivato alla donna questa era la vita della donna per farti vedere devi aspettare che ti vuoi alla suocera e ora arriviamo un pochino all'amministrazione quello che vi dicevo vi ho già detto di Aristofane e di come le donne nella sua commedia in diversi casi veramente emergono con delle capacità con dell'intelligenza sì per ridere ma non solo e allora vi parlerò dell'Isistrata la figura dell'Isistrata Aristofane l'ha costruita sull'unica donna atenese che aveva un ruolo pubblico di importanza veramente straordinaria e cioè la succedotessa del tempio di Atena Polias che è la dea che protegge la città allora la religione di Stato Atene è una mosa serissima se tu vai contro rischi la pena di morte è importantissima Atene è il progetto da una divinità femminile e dai tempi dei tempi il culto di questa divinità lo fa una donna è eccezionale se pensiamo come i maschi dominano tutto questa donna però da dove viene viene scelta all'interno di una famiglia nobile antichissima che risale prima dell'unificazione non si sa che si chiamano metteo buttati e abbiamo testimonianze di sacerdotesi di Atene che si fanno vive prendono posizione in scelte politiche ci abbiamo questa si chiamava l'isimarche l'isistrata vuol dire la stessa cosa come nome noi diciamo che questi due sono nomi parlanti perché hanno un significato vogliono dire tutte e due la stessa cosa cioè è quella che distrugge fa finire gli eserciti con le battaglie ispirandosi a questa donna Aristofani costruisce un personaggio di grandissima forza quasi non sembra una donna normale dell'attica ma non lo è perché è ispirata alla sacerdotessa lo si vede poi gli mette accanto altre figure che riconosciamo come sacerdotesse questa donna organizza un mega sciopero incontrando le donne dei nemici che sono le spartane le corinzie è uno sciopero e comunque vuole costringere gli uomini a far finire la guerra Aristofani su questo è pacifista senza mezzi termini non l'ha mai voluta questa guerra naturalmente in che modo costringono gli uomini queste donne nell'unico modo che Aristofani può pensare e cioè con uno sciopero di sesso queste donne valgono questo ma non ci dobbiamo stupire tanto perché come ho messo tra parentesi ho visto dei manifesti con dei ragazzi ugrani che con la maglietta scrivono ragazze non andate ve lo dico gentilmente a letto con i ragazzi russi beh forse si può fare di meglio comunque non fa solo questo Lisistrata abbiamo messo qui un'immagine di sacerdotessa questa è una stella di una sacerdotessa che si chiama Poirine riconoscete sempre le sacerdotesse perché hanno le chiavi del tempio questo è il modo con cui si riconosce la sacerdotessa la Lisimanche aveva le chiavi del Partenone e dentro al Partenone ci stava il tesoro della città ecco perché c'è una religione di Stato che è fortemente legata naturalmente non l'amministrava lei questo tesoro c'è un comitato di tesorieri che si chiamano Tami ha i scelti con cura fra quelli ricchissimi perché non rubassero non era lei però lei aveva le chiavi di tutto ciò allora a un certo punto Lisistrata la fa occupare l'acropoli occupare l'acropoli è molto facile ora se riesco a farvelo vedere molto facile insomma si può fare ancora più avanti è molto facile perché è stata fatta apposta per essere imprendibile se bloccate qui che sono i profili e l'accesso siete a posto ma perché la fa bloccare perché qui c'è il tesoro e quando arrivano le guardie cittadine la polizia cittadina che ad Atene non è fatta di Atenesi ma di schiavi scisi i comandanti Atenesi le donne li ricacciano e il comandante ha una lunga discussione con Lisistrata molto bella questa discussione e vi do solo un pezzettino lui dice a Lisistrata oh cosa volete fare della fortezza la fortezza appartiene a noi e lei gli dice vogliamo mettere al sicuro il denaro che voi non dovete usare mai più né per la guerra qui ho tagliato né per le vostre varie pastette politiche si sta preparando un corpo di stato allora dice il comandante che può fare di questi soldi vogliamo amministrarli noi e non ti devi meravigliare perché noi a casa vostra i conti li abbiamo sempre fatti questo è uno degli argomenti che veri che non sono il sesso e i figli che queste donne portano per avere il diritto di comandare e non so quanto tempo ho preso stringerò la Brassagora che prende che è l'altra protagonista di un'altra commedia ancora più bella anche questo nome ti invita all'azione vuol dire Brassagora organizza le donne perché la mattina prestissimo si alzino prima di mariti gli rubano i vestiti i mantelli si stravestono da maschi e vanno ad occupare quello spazio che vi ho fatto vedere prima in modo che poi a un certo punto viene chiusa da un nastro l'assemblea quando è piena in modo che le donne siano una maggioranza e votino la proposta di Brassagora che è di dare il potere alle donne allora il discorso che fa Brassagora ha una tale attualità che ti fa impressione perché Brassagora comincia e dice le cose del nostro Stato vanno malissime voi scegliete i governanti che sono uno peggio dell'altro fanno più danni che non si può poi li appella proprio dice il popolo la colpa è tutta tua perché tu vieni qua prendi l'opolo a un certo punto nella storia di Atene si veniva compensati di andare all'assemblea con una piccola somma ma le decisioni che prendi le prendi solo pensando al tuo immediato interesse pensando di guadagnare qualcosa e qui ci troviamo nelle feste in cui ci avete portato io propongo per salvare la situazione dare il potere alle donne e lo propongo perché le donne già amministrano benissimo le nostre case l'abbiamo già fatto possiamo continuare naturalmente le donne presenti la cosa e quindi ci riesce poi ormai Aristofano mostrerà le contraddizioni la presa in giro però questo argomento di fondo mi pare un'unica competenza femminile che emerge per queste donne use in casa oltre appunto l'avere fatti i figli questa donna dice voglio anch'io dare il mio consiglio a lavorare il principio dell'esegoria il diritto di parola voglio anch'io dare il mio consiglio per fare per fare di meglio e questo diritto me lo sono pagato perché gli uomini ve li ho dati io ve li fornisco io e qui vi avevo messo un po' di donne implicate nelle questioni di culto ma andiamo veloci come vi ho detto una donna può uscire ed essere visibile quasi esclusivamente in cerimonie religiose c'è una ragazza sempre in disistrata che dice voglio aiutare la mia città prima città mi ha viziato a sette anni mi ha scelto per portare il peplo della dea davanti a tutti poi altre cose poi quando ero ragazza e bella mi ha fatto portare i canestri con gli otetti sacri questa è una processione questo è un vaso che si trova al museo di Spina che è uno dei più importanti del mondo per la ceramica greca perché gli etruschi importavano qui ve l'ho fatto in dettaglio come potevo vedete la ricchezza della veste come è abbigliata è pettinata questa è una delle poche occasioni che lei aveva di farsi vedere quindi cercava come dire a tirare marito e a tirare attenzione e a farti notare e gli uomini stanno intorno questa non è una situazione normale sacerdotesse altre sacerdotesse sempre con le chiavi finiscono saltiamo saltiamo finisco con le poche eccezioni poche eccezioni a queste donne per bene sono pochissime donne che studiavano filosofia ne conosciamo due ad Atene di cui sappiamo solo i nomi non erano atenesi e la tradizione non ci ha salvato altro e certo il loro peso era inesistente poi ci sono le etere Perecle di cui vi ho detto prima che si era sposato secondo le tradizioni una donna ricchissima atenese conoppe questa etera se ne innamorò trovò la moglie un altro marito perché si piazzava la donna solo doveva stare e si prese questa donna con cui passò tutta la vita e lei è un ultimo figlio allora a volte si pensa che l'etera sia uno stato che permette delle libertà in più allora io vi voglio togliere poesia e romanticismo su questo lei chi è l'etera scusate non ve l'ho detto è una bambina che è stata abbandonata esposta o venduta e che viene addestrata non a fare prostituzione ma a intrattenere i maschi quindi sa suonare sa cantare è una donna di una certa intelligenza gli uomini la portano con sé o la invitano al simposio il banchetto per gli uomini greci esclude le mogli e le donne di casa certo che possono dire queste donne anche di fare conversazione non possono dire niente sono escluse a più l'etera no perché l'etera regge il confronto nella conversazione allora Aspasia e poche altre sono davvero un'eccezione e io voglio chiudere parlando invece di un'etera più normale da una commedia di Menandro poco più giovane di Aristofane c'è un vedovo si chiama Demea che ha preso in casa sua una donna un'etera che viene da Samo raramente sono atenesi le etere forse non mai crisis si chiama questa donna questa donna è rimasta incinta c'è un lungo percorso che vi risparmio quando torna Demea la trova con un bambino e capisce che questo bambino non è suo ma è un figlio quindi si rabbia moltissimo e prima pensa di cacciarla questa donna sulla base legale perché questa etera non aveva diritto di tenere il bambino lo doveva abbandonare lo doveva esporre lei non l'ha esposto io l'ho butto fuori per legge poi si riscalda ancora di più nella sua gelosia e va a parlarle e le dice le seguenti cose sai che faccio? ti butto fuori casa e ora vai in città e fai vedere quanto vale le altre che non hanno avuto la fortuna che hai avuto te di venire a casa mia per dieci dracmi che a quei tempi è una miseria vanno di corsa ai banchetti degli uomini e bevono fino a morirne oppure fanno la fame quindi il mito dell'etera come donna speciale va molto ridimensionato chiuderò con le parole di Aristotele dell'inizio perché come anche il discorso di Rossi ne ha fatto pensare questo è un figlio che viene da lontano che forse non è solo nelle teste degli uomini a volte anche nostro quando l'ho letto la prima volta ho pensato che Aristotele era un cretino perché ci sono altri modi di comandare che non sono la clava e il potere assoluto oggi sono più flessibile l'impressione che ci siano situazioni in cui il potere vada usato in maniera veramente assertiva in ogni caso con questa citazione di Aristotele voglio chiudere perché la mia amica e collega Maria Pia Paoli adesso vi mostrerà un altro dato della persistenza di questi pensieri vecchi di 2500 anni quando le donne furono escluse dagli studi in questa istituzione e vedrete che gli argomenti che furono usati sono molto apparenti di questi quindi il cammino è lungo e le donne grazie a Danna che non vedesse non ascoltasse e chiedesse il meno possibile mi sembra talmente terribile se parliamo di un'altra tra l'altro mentre parlare anche di queste le line di un'altra che è una che è una che è una che è una ricerca di stereotipi di genere e da questa ricerca emerge che c'è un'ampia consapevolezza da parte degli italiani cita il fatto che uomini e donne non stanno in una condizione di parità e che ovviamente le donne sono discriminate eccetera però la domanda è giusta l'attuale suddivisione dei ruoli eccetera anche le donne sono d'accordo quindi come dire è talmente dentro di noi questa cultura forse proprio perché anche i religioni lontani perché siamo arrivati a pensare che vada bene ad accettarlo pienamente a condividere quasi questa dimostrazione quindi persone come questa assolutamente ci aiutano io credo a riflettere senza altro così come ci aiuta oggi diciamo ad approfondire questo pensiero anche in una visione storica l'intervento di Maria Pia Paoli che ci parlerà un po' di storia delle donne dei percorsi di carriera delle donne all'interno della scuola normale superiore sono donne che hanno avuto anche percorsi diversi ma credo che anche raccontarci oggi come dire un pezzo di questa storia aiuti come dire a fare delle impressioni che sono valide non soltanto per i miei ma per oggi e soprattutto per i domani grazie 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 di essere qui anche ad alcune colleghe della scuola più presenti e ad Anna Santoni che mi ha invitato a parlare un po' della nostra storia perché sia io che Anna siamo lavoriamo in questa istituzione e la storia veramente presenta quello che abbiamo sentito anche da Anna Santoni elementi davvero di lunghissimo periodo milionari ora l'economica di Senofonte è un trattato che viene utilizzato in tutta la cosiddetta età moderna nei secoli del 400 500 600 oltre quando si sviluppò nell'occidente una trattatistica sterminata che riguardava il comportamento di uomini e donne ma soprattutto di donne e mogli e madri e in questo caso anche di monache che è l'unica differenza che posso riscontrare con la teme di cui Anna Santoni ci ha parlato perché le monache in quel contesto non esistevano quindi una trattatistica una elementi veramente di lunghissimo periodo però quando nel 2010 abbiamo celebrato i due centinaari di scuola normale e con altri colleghi della scuola abbiamo intrapreso una storia di questa istituzione ed io mi sono dedicata ai percorsi di genere all'interno della scuola fra il 1889 il 1929 e poi tra il 1952 e il 1955 vi spiegherò fra brevi perché queste date così lontane fra loro ho fatto anche delle scoperte interessanti e che non vanno incontro alla tesi diffusa della differenza di genere per forza di cose all'interno di un istituto di didattica e di ricerca come la scuola normale superiore gli esordi delle donne alla scuola normale furono piuttosto defilati la prima allieva Erminia Pittaluga entrò alla scuola normale nel 1889 defilato ma con un crescendo interessante un crescendo interessante che è una presenza interessante che mi ha suggerito un paragone con la sorella francese con l'école normale francese e soprattutto con l'école normale di Sèvres che era dedicata appunto alle allieve alle donne e qui c'è una fondamentale differenza con i cugini francesi sempre portati a modello di avanguardia intellettuale e sociali ma in questo caso direi con qualche passo indietro rispetto alla scuola normale pisana la differenza è fondamentale perché le allieve della normale francese vivevano separate dagli uomini ma non separate tanto come collegio separate come insegnanti cioè i corsi professori a cui accedevano le normalie francesi erano diversi avevano docenti e corsi diversi da quelli dei loro compagni uomini qual è la differenza invece che mi ha colpito rispetto alle allieve pisane e alle allieve francesi il fatto che le allieve francesi le normalie francesi hanno redatto anche delle loro autobiografie perché la vita collegiale consentì anche questa riflessione e non solo quindi abbiamo per esempio nel 1912 Marguerite Aron scrive questi ricordi di una sevrienne cioè di una normalista francese che aveva seguito le con di sempre e narrando poi i suoi percorsi futuri di insegnante nei licei parigi da noi questa autobiografia manca cioè non ci sono ricordi prima persona di allieve della scuola normale nei primi anni del novecento e non ci saranno dopo anche negli anni successivi mentre sono frequenti e prorompenti al tempo della direzione di Giovanni Gentile che lui stesso appunto ha lasciato ricordi in questa esperienza normalistica di questa normale descritta come una famiglia dove tutti sono accolti a prescindere dal centro sociale e dove si sviluppano solidarietà all'insegna dell'inerito ora tutto questo ha un riscontro effettivamente vero se si analizzano le fonti del nostro archivio qui della scuola dove spesso e volentieri troviamo casi di allunne di allieve che hanno raggiunto punteggi massimi nel loro ingresso quindi hanno raggiunto punteggi superiori a quelli dei compagni degli allievi e che vengono e vengono privilegiate con la concessione di un sussidio economico cosa che invece non era prevista inizialmente per gli allievi della scuola che erano aggregati e non avevano un loro collegio dovevano vivere oppresso pensionati istituti religiosi oppresso famiglie un altro dato interessante che mi pare che getti un pochino di diciamo così di novità in questo panorama che abbiamo visto di understatement è quello della prevalenza della prevalenza di allieve che si dedicano fra le due prima della seconda guerra mondiale alla scuola normale agli studi scientifici alle scienze e dirò di più che nella storia dell'università di Pisa che è stata fatta anche quella contemporanea risulta che rispetto alla Francia ad esempio le allieve della nostra università pisana e anche quelle della scuola seguivano un gran numero i corsi di matematica e di fisica anche se poi a lungo quelli di lettere come abbiamo visto fino ai giorni nostri sono stati prevalenti quindi questo dato come l'ho interpretato cioè che cosa poi mi ha fatto riflettere su questo dato è che essendo la scuola normale superiore destinata sia per l'uomo che per le donne per sua istituzione alla formazione di insegnanti negli istituti di istruzione secondaria la maggiore carenza era proprio nell'insegnamento delle discipline scientifiche quindi era questo afflusso diciamo così questa domanda di apprendimento nel campo delle discipline nelle matematiche nella fisica rivela anche questo bisogno che la scuola dell'Italia liberale aveva di questo tipo di insegnamento quindi quando si comparano i dati vedete che si trova anche qualcosa che va contro questa tendenza che si diceva prima di questa diciamo così di questa mancanza della considerazione del merito delle donne o così via oppure della propensione a studi non letterali e un altro e a questo riguardo appunto ci va la pena sottolineare un'altra un'altra due carriere che sono state piuttosto luminose alla scuola di due Rita Brunetti di due scienziate che hanno che sono state scritte alla scuola normale prima che nel 1939 Giovanni Gentile escludesse le donne dalla scuola Rita Brunetti e Maria Pastori ora questa esclusione delle donne come ha accennato prima Anna Santoni derivava dal fatto che come Gentile ha scritto come è stato detto da tanti che hanno studiato questa cosa le donne erano tenute non adatte a un insegnamento robusto cioè per insegnare ai ragazzi più grandi non ai bambini in realtà ci vuole un temperamento robusto perché l'educazione vuol dire anche il saper dominare quindi non si possono dominare delle classi di ragazzi più grandi tanto più se maschi la donna non è in grado di fare questo educazione uguale dominazione questo era un binomio considerato all'epoca inscindibile però nonostante questo il trappello degli allievi alla scuola normale si infittisce anche nella classe di scienza e soprattutto negli anni della prima guerra mondiale non è un caso perché i ragazzi vanno a combattere quindi in quegli anni lì fra il 15 e il 18 c'è un numero di allievi superiore a quello degli allievi nel 18 si iscriverà alla scuola anche Enrico Fermi quello che invece va è molto interessante e che vi proviene da una fonte che abbiamo qui presente che è proprio l'inchiesta che Giovanni Gentile istituì nel 1932 e poi trosseguì fra i vari allievi e allievi della scuola per sapere che cosa avevano fatto una volta usciti dalla scuola per sapere quali erano stati i loro percorsi e analizzando le tante schede che abbiamo qui nel nostro archivio viene fuori un dato forse scontato che la maggioranza degli allievi si sono dedicate all'insegnamento scolastico ma una cosa interessante è anche questo linguaggio questo lessico ispirato appunto alla modestia che di lunghissimo periodo e vi leggo un brevissimo brano di una lettera di una normalista che risponde a questa inchiesta di Gentile in questo modo si tratta di Maria Rigetti ex-aluna della classe di lettere e poi insegnante di materie letterarie storia e geografia nell'istituto magistrale Giannina Mildi di Teramo scrive a Gentile rievocando con nostalgia questa appartenenza alla sana e lieta famiglia questa idea della scuola normale come famiglia normalistica seppure vissuta appunto con quella deferenza e understegme dimostrata da molte altre ex-allieve di cui conserviamo le lettere illustre maestro grazie grazie di cuore la normale si è ricordata anche di me ed io applaudendo e bene augurando mi affretto ad inviare la scheda l'ho ricevuta stamane a scuola e il candido foglio mi è sembrato insieme saluto e monito quanta luce quanto fervore di propositi e di opere ci viene ancora dalla nostra carissima normale punto esclamativo ognuno di noi al suo posto di lavoro sia pure il più umile nella scuola e per la scuola si sente come investito e vivificato da quella medesima luce da quel medesimo fervore sentiamo noi normalisti di appartenere ad una sana e lieta famiglia i cui figli anche lontani non si sentono dispersi e dimenticati ma accompagnati sempre confortati vigilati direi quasi dalla memoria buona della normale la comune madre alma insomma la retorica abbonda e come abbonda anche il riferimento che alcune allievi rispondendo a questa inchiesta fanno e si sentono lusingante di poter rispondere a questa inchiesta però appunto dicono che la famiglia i figli eccetera non li permette di elencare tante pubblicazioni come potrebbero fare i loro compagni i loro compagni uomini quindi si scusano di questo e descrivono una vita sì familiare ma anche a volte professionale sempre però all'interno dell'istruzione secondaria istituti magistrali istituti tecnici licei più raramente quindi questo però appunto dicevo poi un altro elemento interessante e che perdura fino ai giorni nostri nella scuola normale è stata l'endogamia le parenteli l'endogamia i matrimoni fra i lievi e gli lievi che durano fino a ora però un'altra cosa invece che emerge e che non ci lusinga troppo è che quando dopo la chiusura della scuola normale alle donne che riaprì solo nel 1952 l'unica docente donna in questa scuola per molti anni è stata la lettrice d'inglese la signorina e sottolineo signorina Beatrice Giglioli lettrice d'inglese come la sorella entrambe perché ci sono anche molte coppie di fratelli e sorelle che hanno studiato qui allora come oggi ha studiato alla normale ha fatto la lettrice d'inglese e basta perché non c'è qui oggi giorno 2014 Arna ve lo può confermare su 50 docenti solo due sono donne ordinari in questa scuola e con questo si dice tanto un'altra cosa però bella che voglio concludere è il ricordo di una normalista rientrata nel 1952 la professoressa Elena Fasano Guarini recentemente scomparsa la quale mi infrì con molta generosità e con molto slancio una sua intervista io la intervistai proprio su come era nato questo suo interesse per venire a studiare a Pisa e alla scuola e lì è venuto fuori che fu la professoressa di liceo che la consigliò e poi gli ho fatto domande sulla vita la vita collegiale il suo è venuto fuori il suo rammarico di dover stare dalle suore cosa che non gli piaceva e che però all'epoca appunto non esisteva ancora un collegio femminile ma la cosa più impostante è venuta fuori e che vale tutt'oggi ed è una delle cose più positive il rapporto fra compagni e compagni fra compagni più giovani e compagni più anziani d'età che diventano i veri maestri degli allievi che entrano e degli allievi e lei ricordava il grande rapporto con Marino Berengo un grande storico che entrò come allievo di Deglio Cantimori in questa scuola come perfezionando e da cui lei disse io ho imparato molto e a questo riguardo concludo citando le parole di un altro normalista linguista famoso Giulio Leschi il quale nel nel 1991 in una sorta di retrospettiva dei cordi di questa esperienza così dice condotta alla normale alla normale tanto quanto i maestri e a volte di più contano i compagni le conversazioni intense e inesoribili non erano limitate agli studi ma affrontavano con una passione che forse solo quell'età consente ogni aspetto della cultura dell'ideologia della politica che allora erano sentite con particolare vemenza in Italia e delle scelte di vita ricordo vivamente fra i compagni di dialogo di quegli anni Cesare Molinari storico del teatro Jacopo Tomasi chimico Giorgio Gargani filosofo Peppino dell'Agata slavista Alfredo Stussi filologo italiano docente alla scuola Carlo Ginzburg storico e poi Paola Vallardin Gioia Troncon Carla Forti Paola Palaretti grazie a Bianca Tomasi mi sono usciti dalla penna sei nomi maschili e sei nomi femminili le donne non erano intellettualmente meno vivace e creative degli uomini ma solo questi poi sono diventati professori universitari mi colpisce retrospettivamente che i temi di tipo femminista non fossero particolarmente vivi nelle nostre conversazioni di allora grazie grazie mille anche per questa prospettiva storica e anche per queste ultime parole significative quindi come dire possiamo ricordare anche la presenza diciamo femminile all'interno di questa scuola però poi le carriere delle donne sempre hanno faticato come faticano oggi anche in questo ambito darei quindi la parola ad Alessandra Pescarolo dell'Istituto regionale di programmazione economica toscana e diciamo che il titolo della sua relazione è giovani donne nel nuovo secolo spesso infatti quando si parla di giovani si tende ad utilizzare una categoria generica neutra dimenticando magari di parlare di questi temi in una maniera riferita anche al genere che parli quindi non solo di giovani ma di donne giovani di uomini giovani e quindi lascerei la parola ad Alessandra Pescarolo giovani donne nel nuovo secolo emanciparsi in tempi di crisi ringrazio molto dell'invito a questo incontro interessantissimo veramente devo dire che per ora ho sentito delle relazioni di grande interesse specifico subito che nonostante che io venga da un istituto appunto che si occupa di lavoro di economia in questo contributo non mi concentrerò su un'emancipazione che avviene nella sfera del lavoro anche perché sapevo che ci sarebbero stati altri interventi come in particolare quello dell'Addis su questo tema mentre invece quello che vorrei far vedere è nell'ambito di un discorso sui giovani negli anni 90 e 2000 che è un discorso che ha una sua specificità di analisi da tanti anni insomma i giovani sono una categoria che è emersa all'attenzione soprattutto negli anni 90 e 2000 proprio perché la crisi che è diventata generale e esplosiva diciamo per tutti i gruppi sociali e anagrafici nel 2008 per i giovani è cominciata molto prima ecco in quest'ambito io come diceva la presentatrice ho cercato di specificare però una differenza tra gli uomini e le donne che ci permette di vedere che i comportamenti non sono stati simili anzi le donne hanno mostrato in questo periodo una capacità di cambiamento e di presa di distanza dai modelli tradizionali del femminile in varie sfere è un avvicinamento se vogliamo anche a modelli europei più rapido dei loro coetanei più rapido in assoluto su alcuni piani più rapido nell'avvicinamento su altri naturalmente tutti sappiamo che le donne dagli anni 90 hanno scavalcato le giovani donne hanno scavalcato gli uomini in termini di istruzione universitaria però ecco questi dati che poi vedremo ci faranno vedere che li hanno superati anche nell'ambito della partecipazione sociale un aspetto che poi sottolineerò nella comunicazione è anche quello dell'apporto delle donne con la pratica religiosa che è tradizionalmente un ambito iperfeminalizzato si dice tradizionalmente un ambito di cui le donne sono state protagoniste e noi vedremo che appunto questi dati cominciano a sgretolarsi in questi anni comunque ritornando al discorso sui giovani in generale la generazione degli anni 90 è stata una generazione che è stata vissuta e narrata nei media come una generazione invisibile poco partecipe c'è un libro di Diamanti che Ilbo Diamanti che pur criticamente voi sapete che Ilbo Diamanti forse è un editorialista di Repubblica abbastanza attento ai cambiamenti sociali lui ha scritto un libro che si chiamava La generazione invisibile negli anni 90 che pure nei testi superava questo periodipo ma tuttavia questo era il titolo ma nello stesso testo Eugenio Scaltri si spingeva a parlare di una generazione inesistente invaludata in un eterno presente tecnologico e astorico effettivamente anche se appunto quello di una generazione invisibile è uno stereotipo questi sono stati anni in cui ha stupito un po' gli osservatori il fatto che i giovani investiti da processi di riforma che li svantaggiavano come appunto la riforma delle pensioni nel 92 e la riforma del mercato il pacchetto di riforme treo che rendevano più facile usare la flessibilità del lavoro e precarizzare i giovani non hanno avuto una reazione diciamo subito forte e per esempio da questo punto di vista efficace la riflessione autobiografica di una giovane storica che questa l'ha anche messa prescritta in un volume recente che diceva che lei aveva prestato scarsa attenzione da studentessa al pacchetto treo del 97 e ci parla di uno sguardo ancora doppio incapace di assimilare un cambiamento troppo repentino questo discorso specifico di Barbara Ribello ma poi è molto interessante perché lei è una storica che ha studiato le mondine convinta all'inizio di studiare un gruppo sociale molto svantaggiato rispetto a lei e convinta alla fine invece di aver studiato un gruppo sociale avvantaggiato rispetto a lei per i diritti che aveva potuto costruirsi attraverso il lavoro facendo leva sul lavoro comunque appunto i giovani degli anni 90 sono visti come una generazione che rifluisce nel privato rispetto ai giovani delle generazioni precedenti e effettivamente è vero che c'è un declino della partecipazione politica altri fenomeni che colpiscono l'attenzione degli istituzionatori sono soprattutto il rapporto con la famiglia cioè i giovani è in quel periodo che si accentua il fenomeno dei giovani che restano con la famiglia di origine che non escono di casa e questo fenomeno si accentua soprattutto al femminile e le donne infatti possiamo dire che mentre la corte delle donne nate nel nord ovest fra il 1944 e il 48 le cosiddette sessantottine usciva di casa intorno ai 22 e 23 anni le ragazze degli anni 90 nate fra il 69 e il 73 uscivano di casa intorno ai 28 anni quindi un grosso salto ma e poi appunto anche i confronti con gli altri paesi ci dicono insomma che la differenza era andata veramente ad accentuarsi in misura importante però quello appunto che gli osservatori non colgono fino in fondo è che per queste giovani il non uscire di casa faceva parte di un adeguarsi a una strategia per così dire tanto moderna cioè una strategia che valorizzava la scelta la scelta personale loro potevano costruirsi così una sfera di libertà sentimentale e anche di accumulazione di conoscenze che avrebbero poi potuto usare successivamente e infatti le protagoniste di questo processo sono appunto le giovani del centro nord le giovani che hanno delle famiglie non deprivate e quindi ancora si guarda questo fenomeno ma poi ci si stupisce andando a vedere che i giovani e le giovani che ne sono protagonisti dicono agli intervistatori che rindagano il fenomeno lo facciamo per avere più autonomia in casa stiamo benissimo cioè non c'è ancora un dichiarato elemento di disagio economico nella motivazione di questo processo un altro aspetto caratteristico di questi anni è la lentezza e la contraddittarietà del processo di secolarizzazione uno studioso che si chiama Enzo Pace ci parla di un indicatore sintetico di religiosità dicendoci che l'Italia e l'Irlanda raggiungevano ancora i livelli di 30 e 40 mentre il resto di Europa stava molto più in basso ora non vi dico come è costruito l'indicatore ma posso dirvi come invece un altro elemento o più semplice percezione che la percentuale di giovani che dichiarava di non frequentare mai le funzioni religiose era ancora del 23% fra i giovani uomini e solo del 12% fra le giovani donne c'era ancora questa differenza di genere che è un elemento di lungo periodo e ancora era nettamente visibile per giunto i giovani si staccavano diciamo da un modo di vivere la Chiesa come autorità indiscutibile ma nella direzione di avvicinarsi a ideologie New Age e questo in questo bel saggio è ben documentato cioè che cosa vuol dire il 39% dei giovani di 18-29 anni dichiarava a metà degli anni 90 di credere nell'astrologia e il 34% di credere in forze spirituali diverse da Dio Santi Angeli ma capaci di influenzare la vita delle persone le stesse credenze centrali del Cattolicesimo vengono emendate da nuove visioni prese dalle religioni orientali quindi la credenza nella reincarnazione cioè anche se cede l'idea della resurrezione della carne che invece parte della religione cattolica però invece appunto si va verso una diffusa idea che invece appunto l'idea delle religioni orientali di una reincarnazione possa essere fatta propria quindi c'è certamente una maggiore articolazione del quadro ma anche una certa ambiguità e in fondo la visione religiosa dei giovani è abbastanza compatibile con una sorta di fatalismo e poi appunto non vi parlo per non allungare troppo il discorso della partecipazione politica e sociale perché anche qui c'è un cambiamento c'è un andamento oscillatorio anche se non c'è subito una diminuzione però appunto quello che invece voglio arrivare a dirvi è che gli anni a mio avviso di netto cambiamento sono gli anni del 2000 c'è una svolta col 2000 in cui i giovani prendono davvero coscienza del cambiamento e ne prendono coscienza soprattutto delle giovani donne vi è innanzitutto appunto un cambiamento che riguarda il processo di secolarizzazione la percentuale di giovani maschi e femmini di 15-34 anni che dichiara di credere nella religione cattolica declina fra il 2000 e il 2004 dall'80 al 69% che è un dato grosso ma per quanto riguarda la pratica religiosa che è un dato a cui ho potuto accedere perché è un dato che fa parte dell'indagine moltiscopo e che ho potuto anche scorporare per genere dei giovani che non frequentano mai le funzioni religiose diventano il 26 virgola per cento nel 2008 e in quell'anno addirittura le giovani che non frequentano mai la pratica religiosa diventano più degli uomini può darsi siccome io non ho potuto avere un anno successivo ho dovuto fermare la mia indagine dal 2008 vuol darsi che questo sia un anno speciale però nel 2008 noi vediamo per la prima volta comunque un dato in cui le ragazze che frequentano regolarmente le funzioni religiose sono meno dei ragazzi poi abbiamo altri cambiamenti che illustrano appunto che qualche cosa è cambiato e sono il modo di fare famiglia il modo di fare famiglia abbiamo che è abbastanza stabile nel corso di questi anni se lo guardiamo in modo aggregato ma proprio le ragazze del centro nord ricominciano a uscire di casa prima e mentre invece diventa il sud il territorio italiano in cui si esce di casa tardi e cambiano le motivazioni che diventano di tipo decisamente economico cioè si esce di casa tardi perché non si hanno i soldi per mettere su una propria famiglia per affittare una casa o per entrare in qualche modo in possesso di una casa e soprattutto si rovescia l'affermazione che avevamo segnalato prima sto bene così mantengo la mia autonomia che diviene minoritaria il quadro però è molto diseguale appunto in questo momento storico emergono grandi diseguaglianze anche nei modi di fare famiglia l'ultimo punto però che vorrei trattare è che e allora le ragazze in questo periodo superano i giovani anche nella partecipazione sociale cioè nella partecipazione a associazioni di tipo ad esempio di volontariato abbiamo questo scavalcamento per quanto riguarda la politica è chiaro che se guardiamo ai modi tradizionali di misurare l'interesse per la politica per esempio la partecipazione a riunioni politiche il gap tra giovani donne e giovani uomini si diciamo diminuisce ma però non si azzera però noi possiamo per esempio vedere che nell'ambito di una ripresa di interesse per la politica che è generale per i giovani in questo periodo e che si manifesta in vari modi e che di cui il disgusto per la politica non è un indicatore adeguato perché è un disgusto che mostra rabbia mentre invece appunto c'è voglia di una di una nuova politica possiamo dire che per esempio le donne nato dopo il 47 in generale quindi dalle 68 in poi diventano le maggiori sostenitrici dei partiti nella sinistra cambiando completamente atteggiamento rispetto a quella generazione precedente che è stata quella che le famose casalinghe che sostenevano Berlusconi quindi le donne si spostano a sinistra e diventano le maggiori sostenitrici di questi partiti che trovano a questo punto un sostegno non più come era tradizionalmente vero perché ora non lo è più negli operai ma proprio nelle giovani donne e spesso nelle giovani donne istruite poi naturalmente voi conoscete meglio di me altri fenomeni di questi anni dai movimenti come quello di Senonora quando al fatto che poi questa cosa ha cominciato a diventare visibile anche in un Parlamento trasformato ossia attraverso il canale del Movimento 5 Stelle che attraverso quello del PD e quindi molto più affollato di donne a questo punto appunto io concludo queste mie osservazioni non voglio dare una valutazione qualitativa sulla presenza delle donne e sul loro impegno o negli organi politici di oggi quello che però mi sembra il caso di sottolineare anche per dare un dato che è successivo alla crisi è che in generale appunto questo tipo di emancipazione avviene in un contesto che diventa sempre più duro che è quello della crisi economica che è quello ed è un un attivarsi in un contesto che offre scarse speranze quindi qui per darvi un dato che può avere che è un po' interogeneo rispetto al quadro di tutta questa comunicazione ma che può avere un senso anche più generale vi posso dire che anche dopo la crisi del 2008 anche dopo la crisi del 2008 le donne continuano le donne hanno un forte aumento del tasso di attività hanno un forte aumento del tasso di attività che dal punto di vista delle ragioni è motivato soprattutto dal diminuire delle ragioni di inattività che erano proprio quelle consustanziali al modello femminile tradizionale non sto parlando in questo caso di giovani ma questo processo riguarda certamente le giovani le donne italiane in particolare dichiarano meno che in passato di doversi dedicare sia ai bambini sia ai loro figli che a altri tipi di cura familiare come causa di mancata presenza nel mercato del lavoro tutto questo avviene in un periodo in cui aumenta la disoccupazione femminile quindi noi abbiamo in tutte le sfere un grande processo di attivazione di aumento del protagonismo femminile in un contesto in cui le potenzialità diventano sempre più a rischio anche se non sappiamo come andrà a finire questa storia grazie 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 anche per questo escursus questa fotografia della società con particolare con particolare riferimento a quelle che sono le giovani generazioni questo esame insomma molto ampio da diverse punti di vista sotto diversi profili adesso diciamo concludiamo la macchinata con l'intervento di Serenella Martini del Dipartimento delle Pari Opportunità che ci parlerà di donne nella ricerca obiettivi di crescita sviluppo e innovazione grazie Patrizia prima di tutto porto i saluti e ringraziamenti del consigliere Monica Barrella che è il direttore generale della direzione del Dipartimento Pari Opportunità a quale appartengo ed è una direzione per gli interventi in materia di Pari Opportunità che mi ha chiesto di incontrarvi l'indicolo in Contro a Roma presso il Dipartimento perché ha apprezzato in modo particolare l'iniziativa io sarò un pochino noiosa purtroppo il mio ruolo è istituzionale quindi appartengo appartengo all'istituzione del Dipartimento Pari Opportunità e ho cercato di inquadrare un pochino più intervento anche in un'ottica europea all'interno di un quadro un pochino più generale all'interno del quale si muove chiaramente tutto il discorso dell'innovazione e della ricerca inizierei dal fatto che l'innovazione e la ricerca sono elementi centrali degli obiettivi di sviluppo e di crescita definiti nella strategia Europa 2020 tale centralità emerge in modo distinto se consideriamo le attuali condizioni sociali legate alla crisi economica e finanziaria l'innovazione e la ricerca diventano necessari a fine di competere con successo a livello mondiale e con le altre economie comprese quelle protagoniste che in sempre maggiori livelli di consolidamento e di crescita l'Unione Europea nell'ambito della strategia Europa 2020 si è posta all'obiettivo di raggiungere una quota pari al 3% del PIL per la spesa relativa alla ricerca e allo sviluppo in tale prospettiva l'iniziativa diciamo faro di Europa 2020 l'unione dell'innovazione individua alcuni punti di forza ma anche di debolezza della stessa Unione Europea rispetto al legame tra innovazione e ricerca e la ravita evoluzione dell'economia mondiale la scassità la frammentazione e la mancanza di stessi facilità dell'intervento in Europa per l'innalzamento e il progresso della conoscenza che invece sotteresse le condizioni fondamentali in considerazione sia del contesto di crisi che in presenza di ridimensionamento dei bilanci degli salimenti e della stessa Unione infatti è necessario riservare e o è possibile potenziare gli investimenti in istruzione ricerca e sviluppo innovazione nell'ambito di un processo di riforma che sia volto alla sistematizzazione strategica degli investimenti europei e nazionali incrementando in tal modo il patrimonio conoscitivo tali processi non possono prescindere da un'azione volta alla modernizzazione dei sistemi educativi dove c'è la necessità di rendere le eccellenze ancora più marcate ed attraenti nel panorama globale è una prospettiva che ci indica peraltro la necessità di rendere possibili e facili gli scambi e le collaborazioni tra le persone che lavorano nella ricerca e nell'ambito dell'innovazione donne e uomini devono essere coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi di sviluppo e riforma e loro contributo per collocarsi in sistemi che sfruttino pienamente le potenzialità offerte da ciascuna e ciascuno e che permettono loro di sviluppare i percorsi di studi e ricerca ugualmente percorribili la partecipazione delle donne tuttavia segnata da diverse problematiche e criticità che oltre a determinare uno scenario di iniquità infuiscono pesantemente il suo raggiungimento degli obiettivi di strategia Europa non diventi sul quale non vi voglio soffermare perché ci sono altri interventi nel corregio che andranno nel dettaglio è quindi imprescindibile un potenziamento del lavoro volta alla parità di genere del settore e si rende così evidente la necessità di ragione ragionnette incessiva a fine di raggiungere risultati significativi in tempi più rapidi di quanto è avvenuto nel passato le modalità attuative delle organizzazioni che operano si mostrano ancora aspettatamente segnate dalle matrici degli stereotipi di genere con risultati di una presenza femminile insufficiente per attrezzare da forti elementi di debolezza la presenza femminile di donne in posizioni organizzative abitari ha inoltre effetto di ridurre l'aspettativo successo delle ragazze e delle donne si tratta dunque di delineare un'azione volta a supportare e a promuovere la loro presenza nelle filiere formative che preparano all'ingresso nel mercato del lavoro tecnologico e scientifico nonché creare condizioni affinché le donne non siano ostacolate nell'accesso e nella permanenza in tale ambito lavorativo e possano raggiungere i livelli più alti delle raggiere considerando come possibili tali percorsi diversi dunque sono gli elementi di differenziazione e problemicità legate al genere che in questo settore assumono caratteri peculiari nel panorama delle politiche comunitarie l'avvio di un processo specificatamente volta a sostenere la particolazione femminile ai settori può essere collocato alla fine degli anni 90 stiamo parlando di una programmazione che in questo settore è partita molto più tardi rispetto alle altre politiche nel 93 le conclusioni di un importante studio sulla posizione delle donne nella ricerca scientifica ha messo in luce gli elementi discriminanti mentre è individuato una necessità di un lavoro di sensibilizzazione rivolto alle donne stesse in termini di empowerment che alle istituzioni scientifiche rispetto a necessità di perseguire un maggiore equilibrio di genere soprattutto nelle posizioni abitarie ma l'anno 1999 l'anno risolutivo terapia che un processo politico volto a sostenere la partecipazione delle donne il primo decennio di impegno politico europeo per la promozione e per la presenza femminile porta dunque ad un consolidamento della consievolezza circa la necessità di un cambiamento strutturale dei sistemi formativi e lavorativi si abbandona così l'esperienza dei progetti pilota il porto prages il primo progetto coordinato nel dipartimento varie opportunità e anche uista l'approccio del gender mainstreaming deve trovare piena assunzione anche nel settore delle ricerche e dell'innovazione nel quale esso è iniziato ad affermarsi più recentemente rispetto al quadro generale della strategia politica comunitaria come vi ho accennato quel soltato quindi meno eccessivo e diffuso ciò migliorerebbe il sistema di politiche e pratiche organizzative legate al ricordamento alla promozione e alla permanenza sia delle donne che degli uomini in tal settore la sistematica promozione di varie opportunità per lo sviluppo professionale consiglierebbe un pieno uso e valorizzazione di tutti i talenti presenti nelle organizzazioni così da ottenere i migliori risultati possibili in una prospettiva di lunga durata le attuali pratiche gestionali e organizzative non sembrano essere sostenibili e si incidono negativamente sul livello di competitività e quindi di conseguenza di sistema talia anche sul resto dell'Europa e del contesto globale il cambiamento dunque deve passare attraverso l'assunzione di un impegno specifico da parte degli organismi abitari delle organizzazioni e dei sessori formativi attraverso azioni sul piano legislativo e l'assunzione di specifiche misure volta a promuovere la parità di genere e la sensibilità relativa al ruolo del genere nel lato della ricerca la considerazione del genere nella gestione del risorso umano deve divenire uno degli elementi principali del processo di modernizzazione delle stesse e dei sistemi scientifici della ricerca con vantaggio sia delle donne che degli uomini non parlo soltanto del bilancio di genere parlo della maggiore trasparenza e oggettività nelle procedure e nelle decisioni legate alla gestione dei gardieri al maggiore di guido tra tempi delle vite attivate e quella lavorativa la Commissione Europea nel 2011 ha individuato una serie di elementi che declinano il concetto di cambiamento strutturale partendo dalle considerazioni delle principali problematiche che caratterizzano l'ingresso il reclutamento la permanenza e lo sviluppo delle gardiere e poi alcune possibili strategie di azione di intervento affichettare le problematiche possono essere superate e possono essere un certo grado di opacità nei processi di presa di decisione ancora oggi centrati spesso su modalità definite nelle scene passate dunque in un'epoca nella quale la presenza femminile nel settore scientifico era molto ridotta pratiche istituzionali che limitano le opportunità di carriera creando ostacoli e facilitazioni differenziati secondo il genere distruzioni inconsapevoli nella valutazione delle eccellenze fondate su aspettative ed elementi stereotopici secondo il genere come abbiamo ascoltato questa mattina uno spreco di opportunità ed errori cognitivi nella sfera della conoscenza della tecnologia e dell'innovazione con conseguenze indebolimento di impegno per implementazione della strategia Europa 2020 e quindi di conseguenza del paro dell'unione e dell'innovazione alle politiche e delle tradite per l'impiego laddove il lavoro scientifico continua ad essere organizzato secondo schemi di genere che rendono difficoltoso per le donne avanzare nelle loro carriere si tratta di criticità la cui soluzione come evidente comporterebbe miglioramenti per il sistema nel suo complesso del quale traevebbero il beneficio non solo delle donne ma anche i uomini implicati nel settore allo stesso modo non agire per contrastare tale criticità comporta conseguenze in un ciclo sul livello di sviluppo e di competitività dell'intero sistema scientifico incrementando il livello di istituzione sociale nei confronti della scienza e delle sue situazioni con una conseguente riduzione del supporto al loro destinatario in completo utilizzo del carriere umano legato a non pieno convergimento dalle donne scienziate sappiamo incidere anche negativamente sulla qualità della ricerca e quindi di conseguenza sulla competitività sono questi pertanto gli ambiti di criticità su quale necessità leggere in particolare attraverso una promozione delle eccellenze che si è centrata sulla valorizzazione della diversità e il miglioramento della ricerca che passa attraverso l'integrazione di una prospettiva di genere l'uguaglianza il streaming nella scienza sono tra le proprietà del programma di riforme promosso per il completamento del sero ovvero dello spazio totale della ricerca nell'ambito del quale gli salimenti sono invitati a definire e implementare dispositivi legislativi e politiche volte alla promozione della presenza delle donne nel settore lavorando sulle decità sovra descritte le organizzazioni della ricerca sono invece incitate a definire e adottare modalità gestionali innovativi e sensibili nella questione di genere monitorandone l'impatto attraverso le definizioni di specifici indicatori chiaramente tale lavoro è auspicabile che parte che sia accompagnato da azioni di valutazione e odita che permettono di evidenziare le distruzioni connesse al genere nelle pratiche di management il cambiamento strutturale quindi culturale ed è un processo con esiti possibili ed è necessario lavorare affinché tale consapevolezza sia posseduta da chi è personalmente coinvolto nella sua passione esso deve poggiare in primo luogo su una solida base conoscitiva relativa alle caratteristiche dei percorsi di carriera delle donne e degli uomini ingresso permanenza sviluppo professionale e differenze salariali è necessario in tal senso conire il supporto necessario al managgio delle istituzioni e delle organizzazioni scientifiche prendendo partecipi le persone nella definizione introduzione e monitoraggio di politiche e pratiche gestionali sensibili rispetto al genere un lavoro di sistematizzazione messo in trasparenza delle requisite dell'attivo svolgimento della propria scelta alla produzione delle performance alle decisioni organizzative alla gestione dei carriere potrebbe portare benefici non solo per le donne ma per gli uomini è necessario a ogni caso considerare le implicazioni che tale passaggio avrete sulle pratiche di gestione delle carriere delle stesse donne l'impegno europeo si pone all'interno in un quadro organico articolato e complesso fondato sulla priorità relativa al portamento del servo e sugli elementi di un problema quadro di ricerca e di innovazione in un gran sondentimento dall'altro appena partito dove il contributo dell'attratività delle carriere nel settore della ricerca si traduce in una serie di misure che comprendono tra le altre azioni per l'eliminazione degli ostacoli apprezzettimento di carriere scientifiche da parte di donne in particolare la Commissione si impegna per raggiungere una quota di partecipazione femminile nelle sue strutture di conserenza pari al 40% garantendo una leguata considerazione delle differenze di genere inizia a presentare proposte nei processi di donazione anche attraverso l'utilizzo di specifici incentivi in più era attesa già nel 2013 una direttiva in tal senso che potesse facilitare i cambiamenti strutturali non so perché abbiamo partecipato a delle consultazioni verso la legge di ricerca già nel 2012 in tal senso ma poi non abbiamo avuto più sentore di una raccomandazione a breve termine noi come dipartimento pari opportunità come ci siamo mossi rispetto a queste criticità noi ci siamo mossi già nel 2010 e credo che la conferenza e la stessa valezza possa testimoniare come abbiamo preso in presso il dipartimento pari di opportunità carico di queste criticità cercando di presentare già delle proposte all'inizio del 2011 e all'inizio anche con i vari cambi di legislatura queste proposte perché fossero in qualche modo sostenute portate avanti trasformate in delle proposte di legge però questi processi questi continui cambiamenti a livello legislativo purtroppo non ci hanno usitato nel 2010 è stato siglato un protocollo di intesa fa il dipartimento pari di opportunità e mi ho visto protagonista anche la conferenza dei comunicati universitari è stata un'esperienza bellissima per vista la partecipazione di molte donne in maniera molto generosa e di lavoro veramente effettivo però purtroppo non c'è stata la copertura politica io ve lo devo dire e noi ci riproveremo ancora ho fatto cegno ho riproposto al consigliere Parrella di riprendere in mano anche questa parte che chiaramente riguarda anche le scorse delle quote adesso stiamo aspettando stiamo aspettando che ci sia anche un ministro un sottosegretario che abbia l'idea di dare opportunità perché in questo momento è tutto vero ancora mi è stato promesso che prenderà in considerazione anche questo stacco grazie 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 la martini di quest'ultimo intervento che testimonia conciuta anche la vicinanza delle istituzioni in particolare del dipartimento pari opportunità al lavoro che stiamo passando avanti anche come conferenza degli organismi di parità a posto due problemi importanti uno quello della sostenibilità siamo partiti questa mattina con la proiezione qui sul video dell'articolo 3 della costituzione quindi abbiamo parlato di quello che è un principio un valore però giustamente con il suo intervento Serenella ci ricordava che è anche un problema di sostenibilità di lungo periodo nella mattinata abbiamo parlato anche di prospettive per le giovani per le giovani donne sulla necessità ce lo diceva anche prima Serenella di poter dare una speranza di un futuro e quindi di dover fare anche delle politiche attive che rendano credibile e poi anche concreto questa possibilità di accesso di permanenza di sviluppo e non soltanto di come dire ottenere e poter progredire all'interno della carriera ma anche di avere una qualità del proprio lavoro e quindi nella mattinata si è parlato anche spesso della necessità che queste politiche per la promozione delle carriere femminili vadano di pari passo con altri interventi prima di cura tutti il tema del welfare e della conciliazione questo ovviamente non esclude come dicevo con qualcuno prima anche un ragionamento che deve proseguire su cui credo che i comitati di paio-opportunità o i comitati di garanzia abbiano un ruolo fondamentale anche di una disseminazione culturale perché comunque il lavoro culturale rimane comunque sempre la base anche la base del nostro impegno detto questo io lascerei se c'è qualche domanda qualche richiesta di approfondimento sui temi che abbiamo trattato durante la mattinata dopodiché vi arrotiamo per il pranzo e riprendiamo i lavori del pomeriggio ma tutti i ragazzi che vanno domani uomini che partecipano ai riti religiosi alla chiesa più delle donne come lo spieghi? ho capito bene? c'è un processo di convergenza verso livelli più simili che in passato questo è molto visibile e nel 2008 c'è un dato che può essere anche il dato di un anno che può essere insomma c'è sempre una variabilità che andrebbe poi controllata negli anni successivi quindi io a questo punto non mi azzarderei a dare una spiegazione quello che è sicuramente vero è il trend cioè che la partecipazione religiosa dei ragazzi la pratica religiosa dei ragazzi che era più vasta è rallentata più lentamente quella delle ragazze è controllata rapidamente nell'ambito di un prollo omossivo quindi poi a questo punto della crisi si bisogna anche essere il papà più predibile quindi non sappiamo che un papà particolarmente evitibile particolarmente falinoso può dare che queste cose cambino di nuovo diciamo c'era qualche altro intervento io perché si è una identica all'ultima della ricerca nella scusa mi pareva in quella dell'ambione che ci fossero citate delle diciamo delle vitture delle buone pratiche delle opportunità che magari noi come università possiamo cogliere dal ministero però mi sono un po' persa perché allora io l'ho detto altre cose a proposito anche delle iniziative che le università possono cogliere il dipartimento cioè questo lo posso dire e vi chiede scusa che non l'ha fatto stanno per partire altri due bandi che sono città grazie ci sono due bandi che stanno per partire e verrà nuovamente rifinanziato il bando su un bando di istituzioni credo che molti di voi lo conoscono ma verrà aggiunto un ulteriore bando su donne e finanze e saranno tutti due bandi dedicati all'università questi sono gli aspetti almeno per quanto riguarda il dipartimento paghi opportunità di politiche immediate che stanno per essere pubblicate il suo bando esistitivo la politica di paghi opportunità che stanno per essere pubblicati quindi te lo accorgi come 7 e mezzo perché stanno chiudendo le procedure interne dei bandi per quanto riguarda il NUR questo è il programma di dicevo raggio 2020 io avendo anche lavorato da questo punto di vista un pochino con il NUR occupato un pochino di convenza del NUR c'è una strategia chiaramente che appartiene alla ricerca della funzione europea sì qui ci sono i bandi basta andare sia sul sito del NUR o sul sito proprio della rigi ricerca ci sono anche i bandi in lingua italiana e è possibile accedere scusa puoi ripetere perché io non sono molto avvezza a sentire questo linguaggio c'è la rigi ricerca della funzione europea DG direzione generale c'è il sito per Orazio sì c'è il sito per Orazio Orazio 2020 è un sito specifico Orazio 2020 magari mi ne dico ma magari con Artimento non diciamo non ha delle strategie per aiutare le università italiane a fare progetti di ricerca sui temi del genere so che ci sono temi e che ci sarebbe bisogno io credo anche di convergenze magari con il ministero con la università tra dipartimenti con competenze specifiche perché queste tematiche di genere sono multidisciplinari e la multidisciplinarità è molto difficile da raggiungere anche all'interno della io confermo io confermo e ho combinato il tavolo insieme abbiamo lavorato insieme a Patizio insieme a altre persone che sono qui il tavolo il protocollo con il MIUR e con il Dipartimento Pari Opportunità non solo politica se c'è la volontà politica si va avanti se non c'è la volontà politica non lo possiamo farlo perché le competenze chiaramente sono diverse sì il Dipartimento Pari Opportunità e il Ministro per Pari Opportunità ha la deleghe anche sul settore della ricerca ma in ottima religione è chiaro c'è un libro però perché non possiamo il nostro punto e la nostra iniziativa c'è bisogno del protocollo per fare il protocollo c'è una volontà politica sia il Ministro Profumo sia il Ministro Fornero erano stati informati del protocollo e le direzioni interessate che erano la direzione del consigliere Palma a cui appartenevo da parte del Dipartimento sia la direzione della dottor Maria Litte e l'interessazione della ricerca hanno rinnovato l'ospicio del rinnovo del protocollo a relativi Ministri ma noi non abbiamo avuto conferme né da parte del Ministro Fornero né dall'altro quindi poi c'è stato il cambio di governo attualmente non ci sono deleghe attualmente non c'è proprio reggioramento noi non abbiamo così è un rischio ma non è più semplice perché è un effardo una ristrutturazione di tutta la pubblica amministrazione io credo credo che il Dipartimento verrà accolpato verrà il Dipartimento vale opportunità questo è quello che abbiamo sempre all'interno si farà un grande dipartimento per le politiche e le politiche sociali all'interno della presidenza del Consiglio dove si recuperano famiglia fossico dipendenza varie opportunità se non si le dire se si mette in attività di questo in virtù della stessa in un'inizio che hanno i prossimi problemi e quindi si pensa ma veramente questa è delle cose che la delega andrà a nuove i sottosegretari all'interno della presidenza del Consiglio io credo che sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni per cui siamo in questa fase di lingua anche noi poi conosceva la collega Horizon della Digit c'è proprio il silbo e vi dico anche c'è proprio il silbo però noi siamo soci lei capisce io sono presidente di un pub già il pub dentro un'università non so qual è l'esperienza delle colleghe non è che conti molto io ho l'impressione che il mio lettore mi ha nominata presidente perché aveva proprio l'idea di mettermi sul lato e non vedermi mai più sarebbe da parlare sarebbe da parlare però quello che trovo molto quindi è molto diciamo noi avremo un ruolo di di politica di mettere insieme questi questi progetti che necessariamente sono disciplinati allora se noi attraverso il dipartimento delle varie comunità io non dico che abbiamo bisogno di chissà che ma che qualcuno ci dica invece che avere l'intero pacchetto di tutto di tutto di più ci dica ci sono queste chiamate per il genere qui c'è bisogno di ci sai il senso sai è chiaramente se abbiamo un altro se prendiamo l'altro noi riusciamo fa a collegare sai lo sai abbiamo questo allora chi ha questa competenza chi ha questa stanza mettiamoci a terra mettiamo la parola nell'ordine richiesto scusate se prendo la parola non voglio usurpare però abbiamo l'università di ferrare Silvia vorrei l'università di ferrare io sono un po' impulsiva ho preso la parola perché abbiamo appena analizzato un seminario su horizon 2020 e già da ricordi i materiali saranno a disposizione su un sito interno che sono già a disposizione sul sito internet di unife di genere se voi andate su google unife di genere si trova l'indirizzo si chiama equality and diversity il sito quindi trovate tutto esiste le slide vi illustrano come il sito di horizon 2020 presenta le politiche di genere in maniera trasversale e verticale per cui science society riguarda il settore verticale quindi quando ti occupi solo di genere ma in realtà quello che è molto interessante è che la ricerca di genere il fattore genere è trasversale rispetto a tutti gli altri fattori una cosa che chiederei però al ministero ho detto i piedi ormai ho iniziato così l'agenzia di ricerca europea Apre fa un lavoro che è molto interessante raccoglie raccoglie le idee raccoglie le proposte per cercare dei partner in Europa ora questo ovviamente lo fa per tutti per tutti i progetti di ricerca sarebbe molto utile se il dipartimento per opportunità raccogliesse i progetti che già ci sono quelli che vogliono essere iniziati sul tema ugualianza di genere esempio noi vogliamo lavorare sul bilancio di genere lo facciamo già nel nostro teneo vogliamo sviluppare un progetto a livello europeo abbiamo bisogno di partner Apre ci mette sul sito internet la nostra proposta e ci aiuta a trovare dei partner sarebbe molto utile già a livello nazionale avere un lavoro di coordinamento del dipartimento per opportunità su alcuni progetti di ricerca in modo tale da fare rete intanto all'interno dei Cug delle università italiane innanzitutto Apre lavora per gli atenei che si sono associati perché Apre è un'associazione quindi come dire non è che tutti possono andare da Apre e dire solo gli atenei associati quindi questo solo per chiarezza dopo di che come dire la volontà e anche l'auspicio vorrei dire della conferenza è sicuramente quello di progredire sui lavori di quel tavolo quel tavolo che era stato fatto aveva secondo me due caratteristiche fondamentali uno nasceva finalmente dal fatto di mettere intorno al tavolo il MIU e il dipartimento delle pare opportunità e quindi trovare un tavolo comune di lavoro per noi università è assolutamente fondamentale che i due ministeri lavorassero insieme secondo la seconda caratteristica importante c'è stata ribadita con molta chiarezza e molta fermezza fin dal primo giorno mi ricordo fin dalla prima riunione è un tavolo permanente quindi dovrebbe essere una cosa che passa attraverso tutte le onde e i malosi che possono caratterizzare magari anche la nostra storia politica istituzionale e quant'altro quindi quello che io mi sento di dire ma che dirò perché ho ricevuto questo invito dal dipartimento appunto ad andare a Roma nelle prossime settimane quello che io vorrei proporre ma le parleremo anche domani è proporre e portare questa voce in questo senso ti prego che da parte della conferenza c'è una forte richiesta in questo senso perché quel modo di lavorare ha prodotto dei risultati e ha permesso anche di presentare la proposta italiana per il programma quadro europeo e di portarla a livello europeo e internazionale di presentarla come dire come una capacità esatto di innovazione di portare la best practice da parte dell'Italia sul piano internazionale e questo come università è stato assolutamente un aspetto fondamentale altrettanto è vero e questa è la seconda richiesta che le università in questo senso la conferenza come dire può essere un soggetto che media anche l'informazione le università i comitati hanno bisogno di sapere quali iniziative si stanno muovendo per capire dove ci possiamo muovere e lavorare in sinergia altrimenti come dire ciascun ateneo può avere delle bellissime attività in corso pensare progetti ricerche eccetera che però rischiano innanzitutto di essere isolati quindi di essere vissuti in una dimensione pur importantissima che è quella del proprio ateneo senza mettersi invece in rete quindi sarebbe molto importante la conferenza c'è anche per questo e quindi in questo senso ti prego di portare questa istanza insomma di ritorno da questa trasferta di ritorno che quello che sta emergendo questo discorso di coordinamento è già stato avanzato ed era nelle mie idee avendo coordinato più di tre progetti all'interno dell'amici ricerche ed era quello che era la mia volontà il problema è un altro è un problema noi come dipartimento siamo chiamati a fare politiche non a fare gestione di progetti la gestione di progetti è nata dalla scassità delle risorse semplicemente quindi il tentativo politico che si sta facendo la riforma della pubblica e l'amministrazione in questo momento deve portare il Dipartimento e tutta la presidenza del Consiglio a fare politiche non a gestire progetti quindi cioè io ho risposto no 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 queste sono politiche voglio dire le politiche quando le mette a sistema allora il discorso cambia cioè non bisogna fermarsi nelle gestioni principali ma bisogna mettere a sistema i progetti sono due cose di grazia informazioni intrecciano le informazioni lo so però e lo so ma il punto è esatto non possiamo fare e lo so però tra gestione politica e c'è il male siamo la politica i progetti di ricerca sono una cosa che vengono dopo quando si confrontano le idee ma se non confronti ci vuole anche un processo legislativo comunque normativo che poi vada non è così ma in questo senso la conferenza può assolutamente svolgere e ha svolto anche rispetto a questo tavolo questo ruolo come dire di raccolta da una parte e di trasferimento poi dall'altra rispetto alle istituzioni c'era un altro intervento di Ferra che avevo visto qui scusa eri tu Laura si si no quello che stavo dicendo sempre un po' brevi perché poi non era semplicemente questo poi però mi rispondeva se non era che è una cosa un po' più complessa comunque si però se riuscisse anche solamente appunto sul sito niente di più a dare quelle informazioni che chiedevano di cui parlava la collega di Ferrara secondo me è anche un modo per far vedere che c'è ed è vivo il soggetto i soggetti vogliamo fare il bilancio di genere si fa un sito in cui ci sono i progetti sui bilancio per esempio anche partendo da alcune cose concrete l'altra cosa scusa mi fai finire un secondo grazie l'altra cosa che volevo dire è ancora questa quella riguarda l'Orizo cioè effettivamente è stato notato io ho visto i progetti eccetera eccetera sono andata direttamente sul sito di l'Orizo 2000 in ingresso come la CAU allora lì c'è un problema però sono progetti che stanno sì a parte ma che stanno dentro un quadro di un certo tipo psicopedagogo sociologico che non so quanto è l'interdisciplinarità invece che caratterizza spesso gli studi la riflessione sul genere eccetera eccetera non ci si ritrova tanto bene si può provare ma è proprio una fatica insomma ci vuole mesi solo a vedere a come dire a gabellare a intradettare alcune cose che sono magari di storia di riflessione fisiologica in un'altra disciplina così c'entra e tanti saluti cioè voglio dire e questo è un po' un po' un po' un po' un po' Daniela Pancinelli scusate Daniela Daniela Pancinelli dell'Università di Milano che è un po' uno dei nostri io volevo solo dire una cosa prendevo un po' una mano serenella perché io credo che bisogna riportare al Dipartimento o al Dipartimento di Politee Sociali quel che intera insomma oggi scusate un gran raffreddone Dipartimento Dipartimento di Politee Sociali le politiche poi questo non ha tanto a che fare con le politiche nel senso i progetti di Horizon vedi sintetizzo in 5 minuti sono 4 quelli sono 4 quelli che ci saranno quelli che lei diceva con il genere come priorità e stanno in Science in Society adesso si chiama Science in for Society e sarà settembre 2014 uno sulla valutazione e uno sui piani di azione ottobre 2015 no ottobre 2014 valutazione e piani di azione e settembre 2015 ancora piani di azione proprio perché la commissione abbandona quella logica dei progetti di pilota e sempre di più sta sviluppando dei programmi strutturali tra cui oggi poi Rita Bianchieri presenterà Trigger io presenterò Stages in questo momento Trento a Garcia l'università di Padova a Gender Time c'è qualcosa a Roma insomma veniamo la settimana scorsa a Bruxelles in cui c'è stata una riunione di tutti questi progetti cambiamenti strutturali in Europa e la commissione sta andando avanti in questo senso poi ci sono le altre priorità sono 6-7 adesso non ricordo bene in cui ciascuna delle discipline scompaiono le humanities e le social sciences e il gender trasversale c'è un'ottica di gender mainstreaming in cui questa è una sfida perché mettere il gender mainstreaming per poi non applicarlo è un danno perché se scompare e non ricompare sotto forma di gender mainstreaming è un danno lì c'è tantissimo spazio perché già solo nella medicina c'è i progetti il seno nerro che hanno un'ottica di genere a livello di settimo programma quasi sono stati solo il 28% i bandi ci sono basta andare sul sito Horizon 2020 mettere la parolina gender o la parolina multidisciplinare che è chiave e li trovate il problema è creare veramente delle sinergie prima di tutto all'interno dei vostri atenei con gli scienziati perché altrimenti non si riesce a partecipare a certi tipi di bandi poi a livello nazionale si può fare rete poi Patrizia è fantastica e questo eccetera però non credo che l'istanza del mettete sul sito risolverà la questione grazie grazie bene ricominciamo questa sessione con il comune di Diana sono tre viti delle interventi che ci permetteranno di incontrare la discussione che era immersa nella parte multidisciplina della mattinata in particolare la riflessione sulla questione del salire femminili nell'anno particolare della ricerca scientifica e di condurre il piano di questa riflessione in una prospettiva europea comparativa e transnazionale e infatti in questi interventi ci verranno presentate delle esperienze di ricerca nel quadro di un'europea e in particolare cominciamo da Elisabetta Addis economista di Sassari che penserà delle riflessioni che emergono da una serie di difficoltà di ricerche condotte in quadro europeo e in particolare gli effetti di una ricerca su metanalysis on gender in science and research condotto nell'ambito del settimo programma quadro buongiorno io voglio innanzitutto ringraziare moltissimo Anna Santoni e il CBO della Normale che mi hanno consentito di fare questa per me veramente personalmente molto felice rimpatriata a Pisa perché di solito non metto i miei credenziali nella presentazione ma io oltre che insegnare l'economia l'università di Sassari e politica l'economia dell'università all'ambito di Roma mi sono laureata a Pisa nel 1907 con diploma da qua normale anche se credo che da quando ho lasciato Pisa nel 78 forse ci sono tornata a 4 o 5 volte quindi per me è una grande felicità essere qua e rivedere tutti allora io vi parlo delle carriere del lavoro delle carriere delle donne nell'accademia perché siete un CPO dell'università e cerco di inserire diciamo il discorso di quel che succede alle carriere delle donne nell'accademia all'interno più in generale di ciò che succede alle donne nell'economia e nella società sia in generale cioè in tutte le economie e società per me nei paesi avanzati sia in particolare in quella italiana la parola è già stata introdotta da Sandra Pescarolo noi adesso sappiamo cosa che non sapevamo all'epoca in cui io ho lasciato Pisa che esistono numerosi gender gangs cioè che le persone dei due sessi dal punto di vista socio-economico hanno posizioni diverse ottengono risorse in quantità diverse decidono in maniera diversa ora lo sappiamo appunto una prima battaglia che è stata fatta quando io ho cominciato a occuparmi di dono dell'economia che è quando sono tornata in Italia nel 1985 è appunto il primo tema quando partecipavo ai primi club europei era dare visibilità alle donne perché molti dati allora non erano neanche raccolti per sesso per cui di gender gaps non si poteva parlare perché non esistevano i dati adeguati a misurare per esempio è stato un risultato riuscire a misurare il gender gap nelle retribuzioni perché fino a 1994 la labor force survey non aveva in una stessa regolazione ore di lavoro e salari quindi diventava impossibile stimare esattamente quanto fosse il gender gap per cui negli ultimi 30 anni noi abbiamo fatto degli importantissimi passi avanti nello studio delle relazioni di genere e abbiamo scoperto che questi gender gaps sono pervasivi esistono ovunque però esistono ovunque in alcuni luoghi e in alcuni tempi di più e in alcuni luoghi e in alcuni tempi di meno e in più cambiano nel tempo cioè mano a mano che più sappiamo su gender e sulle relazioni fra i sessi ci rendiamo conto che molte cose sono cambiate e molte altre invece sono rimaste le stesse e tardano a cambiare quindi dobbiamo diciamo così creare un discorso abbastanza articolato per cercare di capire che è una cosa che vogliamo che cos'è che deterno da questi gender gaps e quali politiche possiamo adottare per appuntarli i gender gaps dell'accademia avvengono nello stesso contesto dei gender gaps dell'intera società hanno le stesse origini ma non sappiamo ancora esattamente quale siano e poi però hanno anche delle specificità connesse alla attività scientifica e alle sue particolarità l'ultima cosa che vorrei dire è che se questi gender gaps oggi sono documentati sono documentati anche grazie al fatto che è esistita ed esiste una cultura politica femminista dei movimenti delle donne una cultura politica trasversale a tutte le altre culture politiche la cultura politica cristiana quella socialista marxista quella liberale quella nazionalista regionalista eccetera eccetera in tutte queste culture politiche in forme diverse la questione femminile negli ultimi trent'anni ha acquistato visibilità e si sono creati discorsi femministi ma diversi e specifici a queste culture politiche sono stati conquistati spazi istituzionali non necessariamente quote ma anche semplicemente il fatto che le donne devono essere riconosciute che ci deve essere una donna nel gruppo eccetera eccetera la cosa che secondo me va affrontata in maniera più square direbbe l'america più chiara e più a viso aperto è la relazione tra i movimenti delle donne e le culture politiche femministe che aprono spazi per le donne e le donne che poi effettivamente li vengono ad occupare e a portare avanti tutte dinamiche che secondo me anche nell'ambito dell'università e dell'accademia possono essere studiate raccontate in maniera aperta in maniera aperta allora dicevo dati su quello che succede alle carriere femminili in Italia e in Europa ormai ne abbiamo molti infatti io non ve ne presenterò tanti in parte perché ha già fatto un continuo lavoro il professor Rossi stamattina per quanto riguarda l'Italia e mi dice poco da aggiungere in parte perché come probabilmente molti di voi sanno dal 2003 ogni tre anni viene pubblicato questo meritevolissimo oggetto dalla Commissione Europea che praticamente è tutto quello che volevate sapere su se in università non avete mai usato a chiedere cioè ci sono le percentuali di donne in tutti i livelli della carriera accademica di donne tra le ricercatrici ci sono dati su quanto guadagnano le donne nei vari livelli della carriera e quindi consente veramente di approfondire dal punto di vista statistico di descrivere che cosa sta succedendo alle donne nella carriera quindi noi dobbiamo mettere diciamo acquisire questo che abbiamo ottenuto una buona visibilità sulla base di un discorso che riguardava l'equità tra i sessi cioè abbiamo detto sospettiamo che le donne vengano trattate in maniera uniqua raccogliamo dati per renderle più visibili questi dati li abbiamo raccolti abbiamo ottenuto un buon livello di sofisticatezza nell'analisi di statistica abbiamo fatto studi econometrici centometrici eccetera eccetera di come crescono le donne tutto questo lavoro a mio parere questa è la tesi principale del mio intervento oggi è quella sulla quale però non ho conclusioni forti da tutto questo lavoro sono emersi alcuni fenomeni nuovi che richiederebbero dei discorsi nuovi per esempio l'ha citato anche il professor Rossi stamattina ma l'avrei citato anche io il lavoro di Golden and Rouse 2000 quello in cui sono stati analizzati i giudizi di coloro che devono assumere i musicisti per le orchestre e si è scoperto che avere un corpo femminile costituiva un handicap rispetto all'essere selezionati è stato uno dei lavori che ha messo l'accento su quel problema che io chiamo discrepanza tra percezione e performance un altro lavoro è il lavoro di Marta Foschi molto importante in cui l'esperimento invece era che uomini e donne entravano in un'arena dove degli attori recitavano dei curvitua il loro curvitua e poi quando uscivano le persone gli venivano chiesto cosa si ricordavano le persone che uscivano sia che fossero uomini sia che fossero donne si ricordavano di più quello che gli uomini i maschi avevano detto si ricordavano di più il curriculum dei maschi anche se il curriculum venivano svittati cambiando i nomi cioè quasi biologicamente ecologicamente uomini e donne danno più importanza a quello che gli uomini dicono in un contesto piuttosto che non a quello che dicono le donne ecco tutto questo tipo di studi hanno messo l'accento sul problema della discrepanza tra percezione che uomini e donne hanno degli uomini e delle donne percezione secondo la quale le donne sono viste come inadeguate insufficienti incapaci o capaci di altre cose e misure della performance in cui invece poi si scopre che se si va a misurare con criteri oggettivi cosa fanno gli uomini e donne in determinati contesti la produttività delle donne risulta non essere inferiore questo l'impatto che gli studi resi possibili dalla raccolta dei dati sulle donne abbia consentito di spiegare questo gap percezione e performance ha anche provocato uno spostamento del discorso dall'equità all'efficienza cioè si è passati dal dire bisogna occuparsi di donne per fare giustizia fra donne e uomini a dire bisogna parlare di donne perché il fatto che vengano selezionati imposti decisione e responsabilità più persone sesso maschile che femminile significa che stiamo sprecando potenzialità femminile quindi si è spostato l'accento sull'efficienza questo è uno spostamento ma secondo me le nuove cose che sono emerse richiederebbero anche ulteriori passi avanti nell'anarrazione ulteriori passi avanti nel cercare di capire che cos'è che effettivamente sta rende diversa la posizione di uomini e donne nell'accademia allora le cose che io i fatti diciamo così le aporie della teoria le cose della teoria che non tornano che non sono secondo me ancora comprese nel discorso che tutti facciamo per tutti quelli che sono credo presenti qui rispetto ai genderi nascono io diciamo le ho scoperte partecipando a due progetti uno che ha dato origine alla pubblicazione Gender Indexed in Sydney in 1994 che era una conferenza tenuta presso l'istituto europeo di Firenze organizzata dalla Weaver and Science Unit della DG Scienze di Dussel e l'altro che ha già indicato introducendo la mia domanda che si chiamava A Meta Analysis of Gender and Science Research che era un progetto del settimo programma quadro nel quale noi eravamo 17 persone abbiamo analizzato in 27 paesi tutti i prodotti scientifici di articoli in lingua originale quindi italiano bulgaro isantese eccetera che studiavano le donne nella scienza le donne e la scienza la scienza e le donne abbiamo fatto ricerca con una serie di parole chiave per chi cercasse di coprire qualcosa abbiamo di questi articoli che abbiamo trovato abbiamo fatto gli abstract in inglese questi abstract ce li siamo letti e abbiamo fatto un rapporto per ciascuna nazione poi un rapporto per aree geografiche io ho fatto quello del sud Europa poi un rapporto per argomenti io ho fatto quello sull'eccellenza e sulla base di questo abbiamo sviluppato una visione complessiva di quello che chi ha studiato le donne la scienza e la scienza ha prodotto in questi anni dall'80 a oggi sulla base del lavoro di questo rapporto tra l'altro io sono oggi parte del ad hoc gruppo di gender che raccorda gli advisory groups di Horizon 2020 quindi ci rilievo a Pussel per cercare di approfondire e vedere in quale maniera si possano meglio orientare i futuri progetti di ricerca che appunto verranno proposti nell'ambito di Horizon 2020 che da questo punto di vista è molto innovativo perché ha proprio previsto appunto lo diceva la signora scusa la professoressa prima in trasversale a vari a vari incontri e questo mi porta lateralmente allora appunto le cose che dirò risultano da questi progetti appunto ci sono dei fatti stilizzati che le teorie sulle donne e la scienza le teorie sulle donne e l'occupazione devono spiegare e questi fatti sono che i tassi di occupazione femminile sono più bassi ovvero nell'accademia i tassi di presenza femminile nell'accademia sono più bassi che non di quelli maschili che esiste segregazione orizzontale esiste nella società le donne sono imprimiere gli uomini i camionisti e così via esiste nell'accademia le donne sono letterate e i uomini sono fisici l'ha mostrata poco fa il professor Rossi esiste una distribuzione ineguale di molte risorse economiche esiste un gap definitivo le donne guadagnano di meno sia in totale sia come salario con le distribuzioni orarie lavorano un po' di meno quindi parte della differenza è dovuto al fatto che lavorano meno uomini però anche con salario orario guadagnano di meno c'è una distribuzione ineguale della ricchezza c'è una distribuzione ineguale del tempo di lavoro c'è una distribuzione ineguale nelle nazioni tutte queste cose sono vere nell'economia e vengono replicate nell'accademia secondo forme secondo forme specifiche in più in Italia tutti questi problemi sono esacerbati sono esacerbati perché in Italia ci sono bassi tassi di attività alti tassi di occupazione per entrambi i sessi e quindi i tassi di attività delle donne sono ancora più bassi e quelli di disoccupazione delle donne sono ancora più alti che non negli altri paesi europei in Italia c'è un evidentissimo effetto Heckman che cos'è l'effetto Heckman l'effetto Heckman è quello per cui lavorano solamente le donne che hanno una maggior possibilità di guadagno lavorano le altre lavorano quelle per cui la distribuzione può permettere di comprare sul mercato o assumere qualcuno che le sostituisca nei lavori di cura perché altrimenti non vengono fatti per cui in Italia risulta che i salari di donne e uomini non sono molto diversi ma il fatto che le donne che lavorano siano così poche se noi controlliamo appunto come la metodologia che ha entrato Heckman se noi controlliamo per il fatto che le donne non andiamo a poco stanno a casa troviamo che il gap di retribuzione in Italia è uguale a quello europeo c'è il problema nord-sud come sapete l'Italia ha il sud da tutti i punti di vista dei gender gap emesso peggio del nord compreso nelle carriere universitarie e ci sono bassi tassi di istruzione e di laureati di materie scientifiche rispetto agli altri paesi europei non volevo farvi vedere molti dati però questo ve lo voglio prevedere questa tabella ve lo voglio prevedere questa tabella mostra è il fatto dalle professoresse casalico e profeta dell'università Bocconi questa tabella mostra un gap particolare in Italia che cosa mostra mostra in questa colonna le donne laureate sul totale e sono il 12,83% sono dati 2010 se non vado erano gli uomini laureati sul totale sono l'11,02% quindi stiamo parlando sui colpi vedete che sono dati bassi sia per gli uomini che per le donne rispetto agli altri paesi europei mostra il gap di laureati cioè quanto più nell'Italia le donne sono laureate più degli uomini c'è 1,81% in più di laureate femmini e questo non è così raro certo ci sono paesi come l'Austria in cui i laureati sono più maschi però per esempio ci sono paesi come l'Islanda in cui le donne sono addirittura del 6% maschi quello che è straordinario in Italia è il gap tra laureati occupati uomini e donne cioè nonostante ci siano più laureate che laureati tra gli occupati tra gli occupati laureati i maschi sono il 14 94% in più questa cosa questo numero è enorme guardate gli altri non succede in nessun altro paese cioè c'è una vera e propria accumulazione di capitale umano femminile che viene sprecato perché non viene utilizzato nel mondo dell'occupazione non viene utilizzato per funzionare l'economia italiana questo secondo me racconta appunto l'estrema la situazione di estrema di estrema blocco e di estrema deterioramento dell'economia italiana e del sistema di genere italiano in rapporto a quello di altri paesi le tabelle che Shifigus raccoglie sono tutte tabelle in paragone europeo questa è una questa è la percentuale di ricercatori maschi e femmine sulla forza lavoro ordinata per percentuale di donne quindi queste sono le donne ricercatrici nella forza lavoro quelle arancioni più grosse quelle rosa sono gli uomini di uomini ricercatori sulla forza lavoro queste sono le medie europee a 28 e a 15 questa è l'Italia donne e uomini e se guardate i paesi intorno sono tutti paesi tipo Bulgaria Cecoslovacchia Ungheria eccetera i grandi paesi europei Inghilterra Dalimarca Belgio eccetera sono tutti sopra la media l'Italia è uno dei pochi paesi fondatori dell'Europa con un grande passato con un'economia avanzata eccetera che sta in questa posizione da asino da ultimo della classe posizione da vergognarsi questa è la posizione da cui dobbiamo partire questo è il contesto da cui dobbiamo partire per ragionare di crescita della presenza femminile crescita del prestigio femminile nelle università italiane come ingrediente della crescita culturale civile ed economica totale delle parese perché di questo dobbiamo parlare questa probabilmente la conoscete tutti questa è la forbice delle carriere che è famosa in tutta Europa è contenuta in Schifigus la conoscono tutti ed è stata inventata in Italia perché sono state niente palomba nelle figlie di Minerva che hanno inventato questo grafico sono le carriere maschili e femminili per livello di istruzione laurea PECD primo lavoro scientifico ricercatore ordinario associato adesso gli aretili rossi prima appunto questi sono gli ordinari quindi le femmine che sono maggiormente laureate poi però sono sempre meno ordinarie i maschi che erano meno i laureati però sono molti più per gli ordinari tra le due linee c'è un decennio di 8 anni di differenza cioè questo è il 2002 e questo il 2010 questo il 2002 e questo il 2010 quindi c'è un piccolo restringimento della forbice nel tempo la situazione sta leggermente migliorando ma come peraltro appunto ha detto anche stamattina Rossi ce ne vorrà per recuperare una divaricazione di questo genere cosa abbiamo fatto in meta-analysis of gender and science research nella foto che vi ho presentato abbiamo fatto abbiamo letto tutta questa massa di abstracts che avevamo raccolto e li abbiamo ordinati facendo vari rapporti tematici e i temi erano la segregazione orizzontale e verticale la paga e i fondi di ricerca i problemi riguardanti gli stereotipi e la identità i problemi riguardanti la scienza di attività lavorativa e quindi anche la carriera le ore di lavoro la conciliazione lavorativa e familiare l'eccellenza scientifica perché se voi guardate le donne nei corrispondenti dell'accademia di vincei non ci sono praticamente quei livelli sono impensabili per le donne e anche per le poche per le poche binarie quindi ci siamo posti il problema del perché le donne non ragiongerono l'eccellenza scientifica e i studi di genere c'è chi li fa non li fa perché non li non vengono fatti eccetera abbiamo fatto tutti questi rapporti sono online se fate digitate su google meta-analisi o gendered science trovate tutti questi rapporti topics adesso sono nel 2010 quindi non sono recentissimi però non è che sia cambiato così tanto vi dico le cose più interessanti che sono venute fuori da meta-analisi intanto è venuto fuori che ci sono tre grandi classi di modelli uno è il modello che racconta la carriera delle donne con una pipeline cioè come un tubo in cui passa l'acqua e ogni tanto l'X ne perde un po' per cui le donne entrano in massa poi alle varie giunzioni se ne perdono un pochino e chi ha introdotto questo modello è stato in 1983 è stato in 1983 mi pare che ma se c'è davvero ma non lo so comunque la citazione la vedete poi c'è il lavoro che abbiamo fatto in gendered excellence che metteva molto l'accento sui filtri cioè noi abbiamo messo molto l'accento sui filtri che consentivano o non consentivano il passaggio da uno stadio all'altro della carriera e abbiamo cercato di vedere in che maniera la forma dei filtri distorceva la presenza femminile e eliminava le donne a ciascun passo della carriera infine c'è un lavoro di appunto Xi and Schaumann della Stanford University degli Stati Uniti che è un lavoro monumentale che riguarda benissimo uno meno il pipeline model che fa vedere appunto le carriere come che passano attraverso un tubo il modello della selezione che cerca di individuare i filtri e come vengono attuati ai diversi livelli della carriera il modello di Xi e Schaumann che prende dati da 17 database diversi e praticamente fa una serie di stime statistiche con cui riesce a misurare il peso di ciascun un fattore nel determinare la probabilità del risultato di diventare disordinario oppure direttore di ricerca eccetera per cui il lavoro di Xi e Schaumann è veramente monumentale perché permette definitivamente di distinguere fattori di offerta e fattori di domanda uno può dire che le donne non fanno carriera perché non ce ne sono abbastanza che dedicano più di loro tempo come diceva stamattina Rossi al lavoro che non prendono i tcd in ingegneria non fanno certe cose ecco è vero per un certo momento si può misurare si può anche misurare invece se è vero che le donne a parità di merito non vengono selezionate per le posizioni di professore l'università è importante sapete che l'America ha un'università più gerarchizzata delle nuove per cui se le donne non riescono ad entrare all'arbrac ma entrano solo all'arbrac già sono discriminate quindi si riesce a far pesare si riesce a misurare di quanto questa discriminazione che le donne subiscono conta nella carriera si insomma dipingono un enorme affresco in cui a tutto viene dato un valore si sa quanto ti costa fare figli quanto ti costa cambiare università e città perché le carriere sono anche in America favorite all'interno di una stessa istituzione cioè chi fa la carriera in fretta la fa in questo posto chi va in giro vuol dire che deve lavorare di più quanto vale una pubblicazione in più per la carriera e quanto invece è il fatto di non pubblicare la carriera quindi fanno veramente un affresco totale misurano meticolosamente sui 17 database tutti i fattori ingredienti che differenziano le carriere maschili da quelle femminili risolvono il puzzle della produttività femminile è vero che nei dati grezzi le donne pubblicano meno dei uomini però se noi controlliamo tutte le caratteristiche personali avere avuto figli aver cambiato città e le caratteristiche istituzionali non essere prese in posti migliori essere discriminate eccetera la differenza scompare cioè provano al di là di ogni dubbio veramente che non è una differenza di capacità originaria che frena le donne non c'è mai bisogno non lo so ma forse non lo si che frena le donne nella carriera ma un insieme di caratteristiche personali istituzionali la loro conclusione pagina 193 del loro libro gli uomini e le donne si trovano di fatto vuoi perché li perseguono o vuoi per sempre che siano spinti by choice o because they are pushed in due diverse carriere in due diverse tracce di carriera sono collocati in diverse strutture accademiche con diversi incentivi e diverso accesso a risorse cruciali l'eccellenza femminile mancante secondo Sue and Scheinman è il risultato sia della discriminazione sia delle scelte fatte dalle donne anche di fronte a questa discriminazione e tutto questo può essere misurato e loro lo misurano quindi questo è lo stato dell'arte diciamo da la pipeline passando attraverso i modelli della selezione dell'eccellenza fino a questo grande appresco che è stato fatto per l'America che andrebbe fatto anche per l'Europa per l'Europa è più difficile farlo perché ovviamente ci sono differenze istituzionali tra paese e paese quindi non avrebbe la stessa chiarezza che ha in America in cui il sistema perimico è uno per tutti gli stati abbiamo avuto alla conferenza finale di questo progetto abbiamo avuto Sue e Scheinman che ci hanno presentato ecco ma nel corso di questo lavoro in conclusione io vi voglio e potremmo accontentarci di questo dal punto di stato teorico potremmo accontentarci di quello che Sue e Scheinman ci hanno dato cioè di una teoria statistica delle donne all'interno dell'accademia di una grande descrizione di un grande appresco dal punto di vista delle polisi però del lavoro di Sue e Scheinman si è racionato a un certo punto perché appunto descrive in maniera statistica ma non in maniera teorica e causale quando poi scopriamo che ogni figlio ti penalizza come se non avesse scritto due articoli cioè perché un make-up per un figlio dovresti scrivere due articoli in più su riviste di fascia alta perché se no quando scopriamo questo non abbiamo ancora la soluzione perché non è che puoi rinunciare a fare il figlio per pubblicare due articoli in più di fascia A quindi questo grande quadro di affresco che corrisponde un po' alla scienza moderna che è una scienza statistica che descrive però a noi a me almeno che la femministra storica voglio occuparmi di far crescere la presenza delle donne nell'accademia far crescere il loro contributo della ricerca far crescere la presenza di categorie di la presenza sia del sesso che del genere nella ricerca scientifica e delle donne nei team di ricerca sono tre cose diverse che io voglio io voglio il genere come categoria sociale e sociologica studiato voglio nelle ricerche scientifiche presenti di medicina che si tenga conto del sesso diverso delle persone anche degli animali di lavoratorio che chiesti il sesso e infine voglio che le cose siano presenti nei consulti ecco dato il grande lavoro di Siena Schaumann che adesso sappiamo che cosa noi possiamo che cosa è rimasto fuori quali sono gli spunti quali sono le cose che ci possono aiutare a raccontare una storia del perché succede tutto questo perché guardate che tutto questo succede di nuovo come diceva Rossellina molto anche malgrado le persone c'è stato un lavoro pubblicato da Rosselli in cui gli economisti italiani veniva chiesto se le donne economisti erano discriminate l'83% degli economisti maschi ha detto di no il 79% degli economisti temi ha detto di sì questi vivono nello stesso posto vivono nello stesso ambiente c'è un problema di percezione di che cosa succede tra uomini e donne nell'accademia che non è del tutto inconscio l'accademia non è popolata da maschi che dicono le donne vanno tenute sotto vanno tenute giù è popolata da uomini di ottima volontà che vogliono tanto aiutarci e anche da donne di ottima volontà che non hanno di dati però poi sta di fatto che nella valutazione che uomini e donne il danno di uomini e donne per qualche motivo avviene quello che ci ritroviamo alla fine degli studi di allora per cercare di capire cosa succede veramente questi sono gli studi di video collezionato nel corso di questo lavoro e che vi presento il primo è che una volta che un certo numero di donne si ritirano all'inizio perché vanno a levare i film vanno a studiare la letteratura vanno a amare già e uno dei maschi diciamo tra coloro che raggiungono livelli di eccellenza diventa maggiore già allora si crea quello che gli economisti chiama il problema della discriminazione statistica cioè se è più probabile che i maschi raggiungano livelli maggiori diventa automaticamente economico scegliere la masconunità come un tratto che garantisce l'eccellenza quindi già il fatto che alcune donne si ritirino o vadano semplicemente a studiare le letture anziché ingegneria fa sì che la masconunità diventi un segnale di qualità e allora secondo me questo dovrebbe essere un primo passo che mi fa dire forse davvero bisognerebbe pensare a carriere separati cioè a classifiche separate a 50-50 a molti livelli della scala anche per evitare confusione c'è un bias inconscio c'era sicuramente quando ero giovane un bias conscio ma c'è anche un bias inconscio dei gift hitters ne abbiamo parlato già prima le donne sono viste poco avendo prima non vengono ricordate le cose che dicono gli uomini hanno difficoltà col corpo femminile in mezzo ai piedi lo diceva Peliche prima e sarete ricordate la vostra colore sarà non essere nominante né a favore né contro c'è un paese ricco da un punto di vista economico che parla del contestato che donne girano per anni io salvo la secciolina quindi la presenza del corpo femminile che suggerisce alle persone di sesso maschile pensieri sessuali da fastidio alla Nato adesso da poco alla riunione della Nato che doveva parlare dell'emergenza atomica hanno richiesto uniformità nelle persone che si dicono il caffè e per questo la ditta ha assunto solo maschile e nessuna femmina e la portavoce della Nato che ha organizzato questa cosa è che andrà bene così perché molte persone e molte partecipanti di maschile hanno gradito questa cosa perché il fatto che non ci fosse una donna tra quelli che si per il caffè non li distraeva allora qui c'è quella che Marina Terragni chiama questione maschile è una questione maschile è una questione maschile di come gli uomini devono cambiare il loro sguardo e accontentarsi di sopportare questi coppi femminili che li distraggono i medaglieri e per questo richiederà una fortissima esplicitazione di questo fatto che non è un fatto così esplicito e educazione alla convivenza tra i sessi in questo senso punto 3 onore che esclude la ritirazione questa è una cosa che è uscita fuori nel gender excellence dei miei nel dialogo scientifico pensate ai seminari pensate a quando fate un seminario sul vostro argomento qualsiasi sia di fronte a colleghi c'è un aspetto di sfida intellettuale io voglio dimostrarti che anche io sono bravo e che discutendo con te vincono a giunto questo aspetto c'è anche nelle cene e nelle conferenze nei dialoghi all'attere eccetera eccetera ma guardate che in questi scambi agiscono vecchie regole dell'onore se tu ingaggi una risoluzione scientifica se tu maschio ingaggi una risoluzione scientifica con una donna ti aspetti di vincere perché se perdi hai perso con una donna è come nelle relazioni di combattimento in guerra uno dei motivi che gli americani portavano come motivo per impedire alle donne la prima linea di combattimento era che gli arabi i soldati arabi contro le forze americane del golfo se davanti a una soldatessa combattevano fino alla morte perché non scopravano arrendere perché era troppo disonore allora quello che gli economisti chiamano matrice dei pagamenti cioè quello che ti può rendere aprire un confronto intellettuale con un collega varia a seconda che il collega con cui tu ricercatore maschio apri il confronto è maschio o femmina se apri con un maschio puoi vincere o puoi perdere se vinci hai vinto qualcosa ma con una donna puoi vincere poco perché si sa che con la donna si vince e puoi perdere molto questo significa che nello scambio intellettuale io lo so perché sono sposata una persona che fa il mestiere i colleghi si avvicinano a te ti chiedono come stanno i bambini e gli altri mi chiedono cosa ne pensi dell'ultimo articolo di Paul Krugman perché se poi io discutendo con loro dovessi averla meglio non hanno vinto niente se invece hanno meglio loro non hanno vinto niente hanno perso molto non hanno vinto niente e preferiscono parlare con i miei mariti per questo significa che le donne rimangono fuori da reti di relazioni importanti in cui si scambiano informazioni di contenuto scientifico minori ricompense per le donne questo secondo me è fondamentale le donne che raggiungono un posto di potere avete presente Maria Elena Boschi è diventata ministra per il ritorno sul Parlamento per trovare il suo sedere modificato online di fronte di quante cioè tu donna offrezione di potere e sei odiata c'è un profondo risentimento maschile contro questa tua presenza nei posti di potere che non c'è per quanto riguarda gli uomini c'è un pezzo di Virginia Woolf che parla dei grandi uomini che si specchiano nelle donne che dice che i vari Napoleone non avrebbero fatto le cose e se non avrebbero dovuto specchiarsi nelle donne che gli riflettevano la loro ammirazione quando una donna va nei posti di potere lo specchio delle altre donne non funziona perché le altre donne si sentono fallite rispetto a lei e lo specchio degli altri maschi perché esiste anche questo non funziona perché odiano il fatto che c'è una donna in una posizione di comando questo significa che lavorare per ottenere una posizione di potere e di prestigio a me mi rende meno e che io mi dedicherò più volentieri a fare un'anitaria per le mie figlie la matrice dei pagamenti anche qua è falsata e su queste cose bisogna veramente pensare molto per capire quali politiche riusciamo a mettere in atto per far sì che questi meccanismi che sono sottilissimi non abbiano luogo differenze di interesse e di punto di vista c'è un un grafico in quest'altra pubblicazione che si chiama Gender and the Innovations ed è una pubblicazione che cerca di fare vedere di evidenziare ciò che è di buono introdurre il genere e il sesso può portare alla ricerca la fatta Schlediger che è una professoressa di Stanford qui c'è un grafico che fa vedere che tipo di videogiochi giocano i bambini e le bambine tra i 6 e i 10 anni e sono diverse perché alle donne ci interessano cose diverse da quelle che interessano i maschi e i maschi interessano cose diverse da quelle che interessano le femmine ma allora questo vuol dire che la presenza delle donne nelle varie discipline scientifiche deve necessariamente essere accompagnata da un cambiamento nei contenuti negli interessi nelle cose che vengono studiate e invece siccome le donne non sono nei livelli gerardici di potere gli argomenti che interessano le donne non vengono finanziati non vengono approvati non fanno strada nella carriera ma questo va anche questo anche questo ha bisogno di essere raccontato e controbattuto punti focali del percorso accademico questi vi mettono bene in evidenza sia gli studi di pipeline che gli studi di student shaman c'è la diversa presenza iniziale nelle discipline scientifiche le donne sono poche dall'inizio perché sono andate a far lettere e poi c'è la rush hour cioè quel decennio tra i 25 e i 35 in cui succede tutto in cui si decide se tu sei un ricercatore eccellente oppure se rimarrai nei anni priori quelli sono gli anni in cui per le donne però c'è anche l'orologio biologico il massimo della conciliazione con i genitori anziani e i figli piccoli e quindi in quel in quel periodo perdono buona parte della strada quindi bisognerebbe pensare a una diversa temporizzazione delle carriere per uomini e donne che riuscisse a ovviare questo problema della rush hour anche questo è molto difficile da pensare perché in un mondo in cui invece stiamo ragionando a colpi di mediane sparate senza badare all'età o di età accademica che ti cosa eccetera questo discorso che il percorso di vita delle donne è diverso da quello degli uomini non puoi neanche cominciare a accennarlo mentre in Europa venivano fatti tutti questi studi mentre noi ragionavamo pensando che fossero cose importanti io penso che siano cose importanti in Italia si è riuscito a fare un rinnovamento dei meccanismi di valutazione di accesso alla carriera che non ha neanche considerato l'esistenza della differenza tra ciò che è gender neutral e ciò che è gender blind si è fatta una riforma gender blind cioè che non vede il genere che tratta tutti alla stessa maniera il risultato di nuovo come diceva Rossi è discriminatorio verso le donne ci sembra certe volte di vivere in un mondo alienato perché abbiamo un dipartimento pari opportunità abbiamo dei ministri delle ministri di pari opportunità abbiamo un discorso europeo delle pari opportunità e almeno non se ne sono più accorti ci sono anche a sparare angoli e metterci anche un paio di donne ordinarie nella cosa senza mai sfiorare questi discorsi che nel resto del mondo sono densi sono densi e sono incidono insomma e sono presenti punto numero 7 questo è uno di quelli che piace di più Guiso e Sapienza Guiso è un economista di Sassari hanno mostrato che c'è una correlazione tra risultati PISA delle ragazze in matematica cioè quando le ragazze nei diversi paesi del mondo sanno in matematica e gli indicatori di sviluppo civile cioè se votano se le donne votano se hanno diritto alle verità se quanti anni di istruzione hanno in media non quelle che vengono testate eccetera eccetera cioè il mito che le donne non sanno la matematica le donne non sanno la matematica perché vivono in contesti culturali in cui si assume che le donne non sappiano la matematica ma devono stare a casa e stare lì come perché il retaggio della vecchia concezione della donna pesa sui loro cervelli perché poi quando diventano misurare il PISA non è che stai misurando stai misurando quelle poche ragazze di Afghanistan che a scuola ci sono andate ma lo stesso l'intero contesto culturale secondo il risultato di Guiso e Sapienza pesa sulle donne sui loro risultati matematici stereotiped questo è un altro bellissimo lavoro negli esami di matematica se prima di fare l'esame si ricorda a quelli che fanno l'esame che le donne non sanno la matematica le donne performano meno e i maschi peggio se invece non glielo ricordi le donne migliorano un po' e gli uomini peggio quindi ci sono delle cose veramente sottili che influiscono sulle persone e la rivoluzione culturale che dobbiamo fare deve essere pervasiva e profonda tutto questo mi porta soprattutto a dire una cosa e questo interessa solo a me forse non interessa anche a voi ma a me interessa molto e cioè che il modello che gli economisti usano per spiegare il mercato della mamma se qualcuno di voi è partesano di economia lo sa la domanda che l'offerta di stare l'equilibrio che definisce la quantità nel mercato della produzione scientifica e nel mercato del lavoro academico non serve assolutamente a niente assolutamente a niente e che invece sia per il mercato del lavoro academico per la produzione di conoscenza sia per tutti gli altri mercati del lavoro ciò che funziona per spiegare quel che succede è un modello che ha a che vedere col cosiddetto capitale sociale e con le relazioni di network che si instaurano tra i singoli soggetti e che sono relazioni sessoate cioè che hanno un gender che non ti relazioni in una stessa maniera con una persona di un stesso sesso e non con quella di un altro e che quindi le spiegazioni del capitale sociale cosa vuol dire un tempo si pensava che c'era il capitale e il lavoro che avessi separati poi i economisti hanno cominciato a pensare che questo lavoro era un po' diverso che non era semplicemente spostare massi ma che c'era il lavoro di chi era educato e di no e allora si sono inventati il concetto di capitale umano che ciascuno di noi investiva in capitale umano quindi il ricercato del lavoro ci portava a se stesso e poi ci portava il capitale che ha investito su se stesso poi hanno scoperto che mentre si investe nel capitale umano si creano altre relazioni capitale sociale si diventa amici di qualcuno e così e che questo capitale sociale si rirende perché è quello che ti consente di trovare i primi altri posti di lavoro dell'accademia questo è vero al 1000% allora lo studio del mercato del lavoro accademico a voi non mi interesserà tanto ma a me come economista interessa profondamente serve a provare che l'economia del lavoro deve andare via dal modello marcelliano e verso il modello del capitale umano dal punto di vista delle policy che sono una cosa che ci interessa qui io ripeto ve le ho detto un po' queste cose sono così questi fatti li ho messi insieme un po' i fatti ma pervasivi che alla fine la famosa proposta del 50 al 50 cioè del fatto che bisogna prevedere un numero uguale di uomini e donne tra gli ordinari tra gli associati tra i ricercatori e tra i maestri elementari perché se fosse prescritto che dovessero essere 50% uomini e donne maestri elementari si risolverebbero una parte della crisi dell'istituzione elementare italiana secondo me è una proposta importante la seconda proposta importante e secondo me potremmo farci al carico e questo veramente potremmo farci al carico come CPO con carico opportunità sarebbe quella di sviluppare moduli di formazione dei valutatori e anche delle persone che vivono università che valutano gli studenti anche perché noi valutiamo principalmente gli studenti che facessero presente a chiunque valuta che cos'è il genere e che effetti ha nel determinare le gerarchie sociali nel determinare i poteri perché di questo stiamo parlando nel mercato della guerra poterico si vede come si determinano le gerarchie sociali i poteri sociali attraverso queste cose bisognerebbe esplicitarle formare le persone informarle ecco io credo che una direzione in cui muoversi che andrebbe considerata sarebbe quella di impegnarsi nella formazione al genere intesa in questa maniera qui nella scoperta di cosa come funziona il genere di fare la sua grammatica e di come può essere contro quattro grazie volevo aggiungere una cosa la valutazione del volume che ho presentato di 20 anni del general science report è stata zero era una che per quanto riguarda il sistema italiano non dovevo fare è stata una fetta di tempo rispetto alla valutazione grazie per questo grande intervento che ci dimostra come l'accademia che è il luogo dove si produce una conoscenza riflessiva sui fenomeni della discriminazione e anche purtroppo il luogo dove si riproducono questi meccanismi diciamo discorsivi che quindi c'è molto da fare passo la parola alla collega sociologa Daniela Cancinelli dell'Università di Milano coordinatrice del progetto STAGE Structural Transformation to Achieve Gender in Science ci presenterà i primi dati emersi dal monitoraggio delle carriere femminili nella ricerca scientifica condotta nell'ambito di questo progetto e delle prime azioni per intervenire a sanare le situazioni che metto grazie grazie posso stare in piedi allora innanzitutto grazie alla professoressa Ardis che finalmente per me ha un volto dopo averla letta per anni dal master impari opportunità in poi molte cose a questo punto le salterò perché sono state dette meglio di quanto avrei fatto io dalla professoressa e dal professor Rosso stamattina rispetto alle raccomandazioni che la professoressa auspicava il primo caso come viene in mente che io conosco a quanto meno ce ne saranno degli altri di tentative di implementazione del 50-50 è all'università di Leuven dove dall'arrivo di questa bici elettrice molto interessata al gender ha deciso che nell'action plan sul gender nei prossimi cinque anni saranno assunti un pari numero di uomini e donne e implementeranno questo aspetto che è importantissimo ovviamente mi va allora questa è la salta perché l'abbiamo già vista vi faccio vedere com'è l'università di Milano allora qui ci sono anche i primi monitoraggi sui ricercatori a tempo determinato ovviamente si parte con una grande percentuale di donne addirittura dispiarono il 60% lo superano tra gli studenti laureati arriviamo ai dottorandi al postdoc la maggior parte anche dei ricercatori a tempo determinato quando le tenor track arrivano ecco che la forbice comincia a invertirsi e cominciano a scendere fino al 27,7% di professori ordinari che a dire il vero rispetto alla media europea non è male non è male anche se questi dati sicuramente sono un po' falsati nel fatto che l'università di Milano non ha la facoltà di ingegneria quindi questo può influire un pochino certamente l'università di Milano non ha delle buone azioni in questo senso a partire come citava Patrizia stamattina dalle quote nel consiglio di amministrazione per cui ormai abbiamo un 40% di donne rappresentate nel consiglio di amministrazione da quando è stato riscritto lo statuto però se andiamo un po' più in dettaglio andiamo a vedere che cosa succede negli umani che sono le scienze sociali vediamo che non è così chiaro andamento però quello che voglio farvi vedere sono appunto le science technology e mathematics e soprattutto la medicina come vedete invece le science technology sembrano molto meritocratiche sembrano addirittura qua gli ordinari passiamo al 30% di donne e c'è proprio una linea che si sta piattendo all'università di Milano però se andiamo a vedere la medicina questo è lo scissor diagram abbiamo un 80% di postdoc e finiamo un 14,9% di donne ordinari per questa ragione all'interno del progetto Stagios abbiamo inserito una ricerca in corso nelle carriere mediche c'è un po' un gap di letteratura in Italia in generale molto difficile andare negli ospedali a studiare le carriere non ci stiamo provando con moltissime difficoltà nei primi due anni siamo andati negli ospedali collegati a Dunimi riuscivamo ad ottenere il consenso dei direttori generali una volta ottenuto stavamo partendo con il questionario il direttore generale cambiato e bisognava ripartire da casa a questo punto siamo riusciti ad ottenere il coinvolgimento della DG Sanità di Regione Lombardia e quindi sta per partire il questionario siamo a metà periodo rispetto al progetto Stagios e quindi ancora non vi so dare i risultati della ricerca però sicuramente questo dato ci fa vedere come in certe discipline ancora siano molto radicate le diseguaglianze di genere o la riproduzione delle diseguaglianze è stato detto più volte oggi la parola la domanda che spesso ci si ripete è perché così nettamente perché così pochi perché così ad un basso livello nelle gerarchie spesso gli uomini quando si portano questi dati perché tutte ci poniamo come primo obiettivo quello di avere dei dati per poter presentare la prima reazione degli uomini è sì ma sta cambiando e è solo una questione di tempo il tempo cambierà tutto in maniera automatica questa è la primissima obiezione sempre addirittura laddove ci sono dei casi eccezionali per esempio uno dei dipartimenti coinvolti nel progetto stages è il dipartimento di full sciences comunque mi sono potuta presentarmi sempre in inglese e adesso non mi ricordo a cronimo comunque ha una situazione del tutto scienze alimentari ha una situazione del tutto eccezionale abbiamo poi due poli da una parte medicina che ha una presenza così bassa una segregazione verticale così alta dall'altra un caso eccezionale non a caso dove c'è stata la prima donna preside della nostra università che ha il 53% di note ordinarie un po' la disciplina aiuta perché ovviamente essendoci in un'unità di scienze alimentari culturalmente appartengono più alle donne alla biologia eccetera però sicuramente è un risultato eccezionale perché allora dovrebbe succedere anche nelle humanities se fosse così Palomba che è stata citata anche prima ha fatto un calcolo utilizzando i dati MIUR in cui ci dice che al tasso di cambiamento attuale non è che succede tra vent'anni la stessa percentuale di uomini e donne ce l'avremo nel 2138 in Italia quindi la parità ancora non la vedremo no anche per altri la liquipipen è stata più volte menzionata quello su cui cercherò di concentrarmi un po' la parte iniziale come le mancanze di supporto nelle prime fasi della carriera non ho ancora letto il progetto Stages dove nasce in realtà nasce da una serie di progetti europei io collaboravo all'università di Milano collaboravo già al progetto Stages al progetto UIST prima ancora al progetto Universi Donna in cui abbiamo studiato le carriere dell'ingegnere aerospaziale e il centro donne a differenze di genere ha collaborato diciamo ormai ha già quattro progetti europei su donne scienza e io ho avuto la fortuna o la sfortuna non lo so ancora di coordinarli e quindi oggi ci troviamo diciamo a metà periodo di Stages in cui si cercano di trovare delle azioni concrete per poter aiutare le carriere delle donne il partenariato lo vedete se avete curiosità aggiuntive rispetto al progetto in generale c'è il sito che è www.projectstages.it invece è appena stato lanciato il nostro sito di Università di Milano che è www.stages.mi.it che cosa abbiamo pensato noi esattamente a Università di Milano poi vi faccio un piccolo confronto rispetto alle early career cioè all'inizio con la mancanza di supporto che cosa si sta facendo tra i nostri partner e cerco di presentarvi un piccolo confronto noi agiamo su tre livelli ormai il doppio binario è senz'altro quello di agire sulle carriere e sulla generalizzazione delle discipline dei contenuti e quindi da una parte studiamo le carriere a medicina e abbiamo proposto queste due scuole che sono la scuola di progettazione per questo non lo sapevo un po' di più perché è in corso la scuola di progettazione per far partecipare di più le donne ai progetti europei perché ve lo anticipo le donne non è che vincano meno dei nomini partecipano meno questo lo sappiamo da C-Figures e quando partecipano in molte discipline addirittura vincono di più per cui l'idea era questa di dati i limiti che avevamo perché ovviamente per arrivare alla definizione delle azioni abbiamo cercato di tenere in mente diverse cose un po' un approccio top down e bottom up da una parte cosa volevano quelli che ci promuovevano all'interno di noi e quindi chi aveva un ruolo di potere che poteva implementare certe cose da una parte quali erano le nostre costrizioni istituzionali come sapete c'era mentre progettavamo Stages c'era la trasformazione del CPO al Google e quindi certe cose non potevamo impegnarci a farle soprattutto perché ed è stato un buon pensiero da parte nostra perché all'Università di Milano ancora i Cug non ci sono abbiamo un ritardo di due anni a passa quindi se avessimo anche noi esatto vedete la l'Università di Milano è stato annunciato ieri anzi ve lo dico che in una settimana dovrebbe essere nominato il nuovo Cug ma fatto sta che il comitato non si rinunisce nei due anni e il nuovo Cug sarà nominato a breve per via di conflitti sindacali interni sulla rappresentanza sindacale perché la rappresentanza sindacale interna non è la stessa a livello nazionale quindi da qui si è bloccato tutto altri tipi di costruzioni la riforma Germini i progetti advanced negli Stati Uniti fanno sì che uno degli obiettivi sia l'incremento delle donne in certe fasce e come potevamo pensare di proporre una cosa del genere come progetto era pressoché impossibile sulla parte di conciliazione esiste un ufficio pari opportunità che adesso ho cambiato nome che si chiama ufficio web per le politiche di conciliazione che si occupa già di questo e quindi non ci sembrava di portare un valore aggiunto rispetto all'università quindi per le carriere delle giovani le due azioni che ho pensato potessero essere più efficaci sono la scuola di progettazione e la scuola di pubblicazione sui viste internazionali per le dottoranti sin da subito quali sono le due cose che alle giovani donne possono cambiare una carriera è che io potevo agevolare in qualche modo un gruppo di ricerca potevo agevolare in qualche modo queste due cercare di spronarle a pubblicare di più a livello internazionale e di far arrivare dei fondi dall'altra parte come rendere visibile la ricerca delle donne abbiamo pensato che Milano essendo sede di Expo 2015 avrà una grande visibilità internazionale quindi organizzeremo la settimana Donne e Scienza posso già darmi dalla data credo intorno al 21 settembre 2015 organizzeremo tutta una settimana che roterà intorno ai temi del Donne e Scienza poi sulla genderizzazione abbiamo organizzato tre diversi workshop sulla medicina di genere tentando di arrivare ai medici con una serie di sbagli all'inizio non avevamo capito che i medici si muovono solo se gli dai crediti formativi non sono i medici beh aumentò in maniera divertente le nostre conti adesso abbiamo capito con la direzione sanitaria il 13 di giugno Milano se siete interessati è aperto basterà iscriversi organizzeremo un grosso workshop sulla medicina di genere internazionale non so dirvi ancora la sala comunque la data è il 13 di giugno poi se vi interessa vi faccio sapere oppure lo toverete sul sito e i corsi per sensibilizzare sin da piccolini uomini e donne su varie opportunità e carriere scientifiche alla facoltà di Agrania e da lì ci siamo resi conto dell'assoluta mancanza della medicina di genere che ci serve un po' da ripista per la genderizzazione delle discipline e siamo andati in ciascun ospedale di Unimi a proporre i corsi sulla medicina di genere quest'anno partono a San Paolo al Policlinico al Sacco che sono i grossi ospedali legati all'università di Milano questo è in estrema sintesi il nostro piano di azione allora come facciamo a aiutare le carriere delle donne bene questa è una vignetta presa dal PhD Comics chi ha fatto il dottorato ogni tanto se lo va a vedere per capire che in tutto il mondo le carriere scientifiche i dottorandi sono messi uguali la mia preferita era I divide you level in questa però secondo me si capisce bene qual è poi la gerarchia in laboratorio allora in alto a destra il Golden Boy quello che farà carriera quello che ha sempre le idee geniali e che non farà mai una cosa sbagliata anche se non è così in basso tutti gli altri in mezzo quella che viene chiamata number two che si come vedete porta un carico è quello che il professor Rossi stamattina chiamava la disponibilità la disponibilità delle donne a far funzionare le cose a cercare di avere questo senso di responsabilità che le porta a non dire no io questo non lo faccio e sono stata la prima a fare tante occasioni ma a cercare di portare il termine le cose perché altrimenti non funzionano soprattutto quando si parla di varie opportunità dove non c'è una struttura forte dove la disciplina non è così riconosciuta e nel laboratorio succede questo io l'ho chiamata number two ero così non mi piaceva e quindi l'ho chiamata Matilda perché come sapete richiamando Rossiter è tutto il sistematico non riconoscimento del lavoro delle donne nella scienza e quindi ho preferito dargli un nome per capire che cosa noi stavamo facendo confrontandolo con gli altri partner ho mandato un piccolo questionario per capire quali azioni stavano mettendo in campo sempre sulle carriere delle giovani donne le strategie punti deboli e di forza quali sono stati i fattori che hanno facilitato e le lezioni che abbiamo imparato finora allora come vedete spesso poi avendo condotto anche con Prages le catalogazioni di tutte le buone pratiche internazionali poi le azioni che un po' si pensano sono sempre un po' quelle bisogna capire come funzionano nei vari contesti nazionali della scuola che pubblicazione è nostra ve l'ho già detto i corsi sulla genere e la ricerca in Olanda i corsi sullo gender equality in science in Romania il career counseling la scuola di pubblicazione è sempre nostra perché agiscono a diversi livelli ovviamente il database delle giovani ricercatrici i premi il mentoring i network sono un po' sempre quelle che girano in qualche modo i network si sono rivelati devo dire noi non ce l'avevamo come azione iniziale e l'abbiamo aggiunta perché abbiamo capito che era assolutamente importante che grazie all'azione del progetto questo finanziamento quindi alla possibilità di poter mobilitare grazie a queste risorse le persone e al prestigio del finanziamento era importante che loro si conoscessero tra di loro banalmente anche solo perché adesso le giovani scienziate di Uni si conoscono un po' di più e magari fanno un horizon insieme con il gender transversale è fantastico questo un po' l'ho già detto esiste un approccio sempre un po' top down di queste iniziative soprattutto per i cambiamenti strutturali che è necessario non si può fare a meno però secondo me e la nostra esperienza lo dice bene deve esserci anche un voto ma ha fatto cioè non essere anche dei ricercatrici noi quando abbiamo deciso queste azioni siamo andate ad intervistarmi e abbiamo cercato di capire quali erano i loro effettivi bisogni e tra questi venivano fuori senz'altro la necessità dell'internazionalizzazione di pubblicare in miglior modo i problemi della maternità e quindi le abbiamo incluse attraverso il network nella decisione dei contenuti di ciò che facevano io sono di sociologia di cosa facciano loro esattamente scienze agrarie alimentari o qual è non lo so quindi attraverso il network le abbiamo mobilitate e hanno deciso loro i contenuti e noi a quel punto cercavamo di realizzarlo come dire esprimo un desiderio io cerco di capire con questi soldi della commissione europea cosa posso fare e quindi dal 18 di settembre sulla scuola di pubblicazione non ho ancora dei primi risultati perché ci sarà a settembre dell'anno prossimo ma sulla scuola di progettazione in corso del 18 settembre le abbiamo preparate in tutta la prima fase con partivano da un livello quelle che sono arrivate sono una cinquantina partivano dal livello molto basso non avevano mai partecipato che era il modo per entrare in contatto con questi aspetti e abbiamo fatto una prima fase di lezione di base tra cui il gender nelle discipline proprio le call la parte di management eccetera adesso siamo alla seconda fase quella avanzata in cui per esempio è stato coinvolto l'European Research Council verrà coinvolta una società di formazione internazionale che insegnerà loro a scrivere un progetto effettivamente e quindi speriamo che poi la commissione ci ha messo un target su questo noi dobbiamo avere il 50% di donne in più che partecipano ai grant all'Università di Milano una volta una volta deciso loro cosa volevano nei contenuti noi l'abbiamo aperto anche agli uomini l'abbiamo aperto anche agli uomini perché altrimenti poi non sono venuti tanto più tanti lo sapevamo che etichettandola come gender si sarebbero scoraggiati per quella questione di onore e poi se loro non passavano il grant e le donne si come facevano quindi non sono venuti molti sono venuti quelli più giovani però questo ci ha permesso anche a livello di Ateneo di non passare per quelle che facevano stigmatizzate che facevano l'azione solo per le donne quindi in qualche modo creando dei problemi di discriminazione alla rovescia che hanno provato a tirare in campo quali sono le strategie per mobilitare le ricercatrici ovviamente quello che si diceva ormai c'è un passaggio di linguaggio verso l'efficacia cioè ormai è uno spreco di talenti quindi tutte le iniziative in tutta Europa si sta andando verso questo tipo di pubblicizzazione questo probabilmente non essendo impegnati voi in un cambiamento strutturale mi interessa meno quali sono i problemi che io vedo nel contesto italiano rispetto a certi tipi di programmi ad esempio il mentoring è bellissima l'idea dopodiché come facciamo a non riprodurre le stesse logiche nel mentoring perché da una parte per esempio questa è l'osparenza italiana e olandese da una parte il fatto che siano istituzionalmente inserite nei programmi è un punto di forza enorme questi tipi di attività dall'altra se sono le istituzioni che selezionano i partecipanti siamo appunto a capo perché come facciamo governare la selezione e poi esiste un grosso un grosso ostacolo a questo tipo di attività che è che tutte le attività sono considerate extra work come per la professoressa Adis questo non è stato valutato per me tutti i progetti europei a cui partecipare non valgono niente e così per tutte quelle persone che a livello europeo si stanno mettendo in campo per cercare di cambiare le proprie istituzioni questo è quello che succede nei dibattimenti spesso siamo assorbiti da questo è ancora P&D Comics assorbiti dal teaching la research viene un po' in qualche modo compressa da quelle attività di service che sono la ragazza che porta in parchi per far funzionare le cose la prof che sta di più con gli studenti durante l'orario di ricevimento rispetto a quanto farebbe un uomo questo è come percepito dai dipartimenti il service è totalmente fuori per cui o lo facciamo entrare all'interno delle valutazioni oppure è un suicidio e questo vabbè è quello che i professori vorrebbero non ditemi quello che devo fare questi tipi di programmi partiti nel 2012 noi credo siamo stati dei primi a partire adesso ce ne sono molti altri in Università di Pisa adesso Rita ci racconterà meglio sicuramente hanno il pregio di far entrare il gender nelle istituzioni di avere più dati disponibili ma è veramente difficile pensare e mettere in campo dei cambiamenti strutturali perché è proprio una fatica di Sissipo tu inizi ci devi tantissimo tempo e poi devi ripartire da capo io a tantissimi so che non sembra ma in questi dodici anni ho partecipato a tantissimi tavoli con sulle pari opportunità prima come di Trilice poi piano piano e beh ogni volta mi sembra che si riparta da capo è come se non si riuscisse a fare il passo successivo perché i cambiamenti sono così lenti e poi c'è tutta una matrice di fattori interrelati che è difficilissima da smantellare nelle nostre azioni quello che tentiamo di fare è di utilizzare i corsi per i top manager per le early career quelle per le early career per far entrare il gender quelli per il gender per far capire che nel top management ci devono essere più donne insomma di fare una sorta di intervento integrato che possa arrivare il più possibile ormai ci stiamo espandendo siamo partiti da due interlocutori i presidi di facoltà oggi ci sono fate conto metà dei dipartimenti coinvolti mi cercano c'è il network che continua a voler incontrarsi e piano piano ad ogni step cerchiamo di aggiungere un pezzettino però davvero con una fatica incredibile se avete delle domande su questa esperienza io sono a disposizione comunque il sito da cui poi potete raggiungere tutte le informazioni vi saranno meglio bene allora ricominciamo ringraziamo l'onorevole Valeria Valente per la sua presidenza e presidente del comitato pari opportunità della camera dei deputati ci parlerà delle politiche del lavoro politiche su condivisione e il ruolo degli organismi di qualità ci offrirà una prospettiva di vista della politica rispetto ai vari di genere in particolare intanto buongiorno a tutti grazie davvero per questo invito l'ho accettato con molto piacere l'ho accettato prima di essere qui e devo dire ascoltando le relazioni che mi hanno preceduto anzi vi chiedo scusa per non essere riuscita a venire stamattina ma ieri sera non potevo partire sui lavori parlamentari che sono i luoghi durante la serata e quindi sono dovuto per portare stamattina quindi mi avrebbe fatto piacere a dire la verità a ascoltare anche i lavori di stamattina io proverò ovviamente immagino che mi abbiate invitato anche per questo non venendo dal mondo dell'università e della ricerca quindi offrirò un altro punto di vista io insomma sono faccio politica da 37 anni faccio politica da una ventina d'anni ormai sono stata amministratrice nella mia città che è la città di Napoli ho fatto prima la consigliera comunale e poi l'assessore di pari opportunità in quantità di assessore di pari opportunità sono stata presidente anche del comitato pari opportunità del Comune di Napoli e forse anche per questa ragione poi essendo componente dell'ufficio di presidenza della Camera mi è stato chiesto di svolgere la funzione di presidente del comitato pari opportunità della Camera ma intanto credo che sia particolarmente utile il confronto di questo pomeriggio tra due luoghi tutto sommato diversi che anche rispetto secondo me alla questione di genere sono come dire in un percorso diverso in un percorso di avanzamento secondo me diverso però però dopo a spiegare perché però credo che sia utile questo confronto e se riusciamo diciamo anche ad avviarlo oggi io lo farei ovviamente molto volentieri una relazione tra il mondo in qualche modo della politica del governo delle istituzioni il mondo della cultura del sapere della ricerca sul tema appunto in qualche modo di come possiamo secondo me anche riaggiornare la questione di genere in un tempo che è attraversato da profondi cambiamenti determinati anche da una crisi che è senza precedenti che è sociale economica istituzionale e che però è una crisi che segna il tempo che viviamo e forse è una crisi proverò poi a dirlo questo è in corso il mio intervento che se per tanti aspetti presenta tratti drammatici ecco anche per la vita delle donne potrebbe addirittura in qualche modo come qualcuno ovviamente prova a dire provando sempre a vedere di schiere mezzo pieno non mezzo vuoto potrebbe anche offrire delle grandi opportunità di cambiamento e forse le donne dentro diciamo essendo naturalmente un fattore di cambiamento più forte potrebbero giocare con lo determinante e questo forse dipende anche un po' da tutti noi e dalla rete che siamo in grado di costruire e che decidiamo insieme di costruire ognuno ovviamente dalla propria parte io non mi voglio però allontanare molto altrimenti vi ho detto vi ho fatto questa premessa per vedere il quadro di insieme vorrei ovviamente partire da quello che però voi mi avete chiesto che è essenzialmente appunto una repressione anche sui percorsi di carriera sapendo che per parlare di percorsi di carriera nel mondo del lavoro in modo particolare diciamo un mondo del lavoro con gestione molto molto ampia è evidente che questa diciamo questa riflessione necessariamente intreccia tanto appunto tutto il tema delle politiche di conciliazione di condivisione così come ne intemiamo oggi ma anche tutte le cose che sono state da voi richiamate stamattina che è quella appunto legata in qualche modo alle relazioni alla logica del potere al riconoscimento all'accesso alle informazioni io vi dico che secondo me dentro questa crisi noi portiamo il rischio dico prima il rischio e poi le opportunità il rischio è che noi abbiamo avuto ovviamente le donne come tutte noi diciamo ma ormai per fortuna almeno questo credo che sia un elemento abbastanza condiviso sono state quelle in grado di compiere la più grande rivoluzione del novecento dell'ultimo secolo e tutto sommato negli anni 90 hanno compiuto grandi grandi progressi dal punto di vista anche dell'impianto istituzionale e normativo credo che possiamo dire di avere sicuramente raggiunto grandi straordinari risultati e parto da questo perché c'è qualcuno ovviamente che sostiene che quei risultati sono di per sé e adesso insomma la tutta la discussione su una democrazia formale una democrazia sostanziale che sono due cose diverse la prima forza è raggiunta almeno a grandi linee la seconda ancora molto lontana c'è qualcuno che dice che appunto quei passi davanti sono stati passi significativi c'è qualcun altro e quindi dice attestiamoci su quel terreno lì e proviamo in qualche modo semmai a verificare che rispetto a quel terreno non si faccia un passo indietro c'è qualcun altro che probabilmente insomma prova a dire tutto il resto deve venire un po' da sé e se c'è qualche ritardo è perché semplicemente questo ritardo è dovuto al fatto che appunto gli avanzamenti sono arrivati un po' dopo quelli delle donne io dico questo perché secondo me dentro questa crisi c'è il rischio che queste considerazioni possano portare almeno per qualcuno alla convinzione che adesso non è più il caso di fare in qualche modo declinare una questione di genere perché la crisi è una crisi che riguarda tutti che penalizza tutti più o meno allo stesso modo che adesso il punto non è più che c'è qualcuno che può pagare un prezzo più alto ma che c'è un prezzo di tutti quanti stiamo pagando ed è altissimo e fare passare in qualche modo il secondo piano io vedo questo rischio ovviamente mi fa fatica farlo perché credo di essere in un contesto nel quale siete voi a poter dire tante cose a me però lo dico anche perché forse non avendo ascoltato gli interventi di stamattina probabilmente queste cose le avrete già detto però io qualche dato diciamo solo per comunità della mia riflessione ve lo sottopongo perché per dire che dentro questa crisi non è assolutamente vero che gli uomini e le donne almeno rispetto al mercato del lavoro pagano lo stesso prezzo e che invece c'è una differenza profonda e abissale tra come attraversano questa crisi almeno rispetto al mercato del lavoro uomini e donne e che quindi guai a pensare che in qualche modo non ci sia un fattore ancora di di progresso al quale noi non siamo ancora aggiunti che ci fa pagare dentro questa crisi un prezzo alto allora l'apporto Istaco 2013 ci dice che il tasso di occupazione femminile nel 2012 è ulteriormente sceso al 47,1% il punto più basso toccato dal 2008 anno a partire dal quale iniziata l'inversione di tendenza rispetto al precedente ciclo positivo per l'occupazione femminile nel 2008 si erano registrati 1.694.000 occupate in più rispetto al 93 punto 2 la gravissima situazione delle aree del mezzogiorno del paese vedono scendere la propria forza lavoro femminile addirittura al 30,5% un terzo punto il fenomeno della riduzione dell'occupazione inqualificata e del contestuale incremento di quella non qualificata nel periodo 2008-2012 colpisce in misura nettamente più elevata delle donne l'occupazione non qualificata femminile cresce del 24,9 a fronte di un 10,4 di quella maschile la dilatazione numero 4 la dilatazione nel medesimo periodo dei meccanismi di segregazione verticale orizzontale femminile il 23,3% delle occupate risulta aggregato in attività che richiedono titoli di studio meno qualificati rispetto a quelli posseduti contro l'incidenza del 20,6 del medesimo fenomeno per la componente maschile la crescita numero 5 la crescita esponenziale nella componente involontaria del part-time soprattutto nel terziario e con il corso del 2012 diminuiscono i contratti a tempo pieno e aumentano di 199.000 unità le donne impiegate part-time numero 6 l'espansione dei fenomeni di precarizzazione del lavoro colpisce ovviamente le donne in misura maggiore rispetto ai uomini le occupate con contratti a termine raggiungono sempre nel 2012 il 20,5% con un incremento dell'11% oltre il doppio di quello registrato nella componente maschile segmento di contratti adittici vede la componente femminile crescere il 4% in più rispetto a quello maschile numero 7 il mantenimento di gap salariale di professione di carriera ovviamente in media l'attribuzione alta mensile dei dipendenti resta in periodo di circa il 20% rispetto a quella dei uomini questo per dire vi ho detto alcuni dati che per me dimostrano quello che noi proviamo a dire da tempo è che dentro questa crisi le donne pagano sicuramente un prezzo molto alto e quindi vogliono abbassare la guardia a pensare che invece dentro questa crisi ci sia più o meno adesso in qualche modo non è più prioritaria la questione legata all'avanzamento delle donne del mercato del lavoro ma c'è una questione generale che riguarda tutti rispetto alla quale non vale più la pena di mantenere un approccio così dire diverso anche perché noi dobbiamo considerare che un'altra cosa un'altra storia un'altra forse verità che invece c'è un'altra presunta verità che invece va contestata e che le donne quasi ormai non cercano più il lavoro io credo che insomma sono sicuramente oggi le donne probabilmente più come dire demoralizzate e forse rispetto al mercato del lavoro si trovano ovviamente a stupire ma sono disponibili a lavorare invece e in Italia questa disponibilità è quattro volte più elevata che in Europa quindi l'occupazione diciamo femminile anche dentro questa crisi presenta veramente un carattere diciamo di emergenza con un carattere drammatico che si è avuito quindi non solo non l'abbiamo raggiunta prima ma sicuramente è qualcosa diciamo che ha subito un attacco diciamo serio dentro questa crisi e forse dobbiamo provare e questo è il primo punto che poi provo a declinare anche per il ragionamento successivo forse dovremo provare a dirci chiaramente che anche diciamo in qualche modo noi stesse dobbiamo provare a fare un salto di qualità nel dire che questa questione non è più e non può essere più lo dico anche diciamo da donna che viene da una determinata cultura politica non è più una questione di diventazione di una parte oggi il fatto e lo dice la Banca d'Italia da tanti anni ormai non è più una novità ma le più grandi istituzioni continuano a pensare che la presenza delle donne nel mercato del lavoro non sia più una questione soltanto di giustizia tra i generi ma che è uno dei profondi e principali determinanti diciamo dei fattori più determinanti più incisivi per aggredire questa crisi e per qualche modo aumentare bene questa storia diciamo ormai che è diventata patrimonio di tutte le discussioni il rapporto deficit to PIL se dobbiamo dire che non dobbiamo soltanto lavorare forse con il deficit sarebbe ora di lavorare anche sul PIL e la Banca d'Italia da anni ormai ci dice che se lavoriamo sul numero di donne occupate probabilmente incidiamo in maniera molto più forte e repentina sul PIL di tante altre misure che possiamo adottare eppure noi dobbiamo prendere atto lo dico da donna ovviamente impegnata in politica su questo posto e proprio la politica tarda ad assumere questa come una propria priorità cioè nonostante lo dico la Banca d'Italia quindi anche adesso in questi giorni discussione Jobs Act riforma del mercato del lavoro e tutte le discussioni sentiamo io personalmente ho presentato una mozione che non ho firmato io pensando appunto ho fatto firmare il capogruppo del Partito Democratico in Parlamento e non è stata calendarizzata è una cosa che chiedeva un riaggiornamento vi ricorderete che è stata fatta in passato conferenza governativa sull'occupazione femminile chiedeva un aggiornamento perché solo in quelle circostanze conferenza governativa si aggiornano un po' di dati gli istituti di ricerca si investe anche un pensiero collettivo si prova a fare un passo in avanti che secondo me oggi veramente è necessario alla luce dei cambiamenti e della crisi che attraversiamo perché lo dico a me stessa innanzitutto ed è poi la cosa seconda è vero è evidente che rispetto a ragione del mercato del lavoro se noi pensiamo come favoriamo in qualche modo concretamente quali misure possiamo adottare per favore di inserimento del mercato del lavoro torniamo in qualche modo forse proprio secondo me perché ancora non abbiamo fatto uno sforzo collettivo di fare il passo per avanti essenzialmente non dico solamente ma essenzialmente sempre alla questione conciliazione che secondo me è il fattore comunque dal quale partire senza ombre di dubbio lo dico da da mamma che ha dovuto diciamo conciliare con molta fatica di impegno politico e la maternità che al di là delle battute è molto lontana da essere un valore sociale diciamo riconosciuto poi tra il dire e fare c'è di mezzo lo c'è sicuramente insomma non lo è oggi la maternità sicuramente non è un valore sociale riconosciuto da tutti una parola esima infatti sta solo sulle spalle delle donne quindi sicuramente la conciliazione però io credo che forse potremmo andare oltre però per venire alla conciliazione che secondo me ritorna il punto di partenza anche qui il tema della conciliazione assume secondo me tratti particolari del tuo tempo di crisi ovviamente questo lo diciamo in tanti non c'è più è in crisi profonda il sistema di welfare universale vicenda diciamo in qualche modo spending review è evidente che si taglia senza stabilità di tagli lineari quando non lo sono che sono sbagliati si taglia essenzialmente sempre lì e forse anche lì dovremmo in qualche modo riuscire a incidere il proprio nostro punto di vista non ci riusciamo non riusciamo a dire o meglio non riusciamo a dire ma non riusciamo a ottenere grandi risultati rispetto al fatto che quando si taglia un sistema di welfare oggi lo si fa essenzialmente se non esclusivamente sulle spalle delle donne che continuano a farsi carico sapendo che però non è soltanto una questione che incide ovviamente sulle opportunità perché poi anche la storia del sistema di welfare presenta anche altre caratteristiche che a volte in qualche modo secondo me vengono un po' sottovaldate che invece sono importanti intanto perché dentro quel sistema le donne essendo quello un settore molto molto femminilizzato in termini diciamo di professionalità forse è proprio lì che le donne hanno fatto avanzamenti concreti anche in termini di diritti di diritti diciamo riconosciuti quindi è stato un settore quasi avanguardia un po' che ha consentito anche di riprodurre poi modelli virtuosi noi oggi indietreggiamo lì indietreggiamo ovviamente sul fatto che essendo un settore molto femminilizzato quando si rompe quel settore si fida molte donne fuori dal mercato del lavoro e contestualmente sul fatto che poi non essendo c'è non ci sono nemmeno quelle condizioni che facilitano quindi è come dire una il rischio che si moltiplica questo ovviamente per dire che cosa per dire che anche nel settore più legato diciamo al mondo della conciliazione nel quale pure forse io dico oggi ne parliamo di conciliazione ma insieme a conciliazione io dico va bene la storia della condivisione lo capisco e credo che sia un avanzamento per tutti quanti dobbiamo fare però vorrei anche dire su questo rischio di essere in qualche modo a volte fraintesa che se per condivisione il valore in qualche modo sociale della maternità io sono una donna che non vuoi più non vuoi rinunciare alla mamma io voglio mantenere la mia specificità di mamma vorrei poter condividere con il mio come dire che non mi sia che il mio compagno non mi dica più che mi fa un piacere se sta a casa e dice ti aiuto perché è figlio di tutti e due tanto mio quanto suo però io non penso che la questione sia in qualche modo scaricare cioè come dire togliere questo diciamo questo peso questo onere questa cura ma è fare in modo che questo diventi davvero un valore condiviso cioè anche la cura della famiglia deve diventare un valore condiviso ed un valore del quale i modelli di organizzazione e il tempo del lavoro si devono in qualche modo far carico perché secondo me fino a questo momento il punto è stato che tutti i modelli di organizzazione del lavoro sono cresciuti sono stati modellati come dire su un sistema che prevedeva che la donna stava a casa e l'uomo stava cioè la donna si faceva carico della cura familiare e l'uomo aveva un ruolo diciamo in qualche modo sociale pubblico diciamo nella sfera pubblica del mondo del lavoro e la donna invece si faceva carico oggi questo non è e bisogna in qualche modo provare questo secondo me la grande sfida per questo secondo me tutto sommato la sfida più grande che abbiamo davanti è di aggiornare anche un'agenda e anche la questione diciamo di genere provare a rileclinarla un po' cioè dire che il punto è mantenere in qualche modo più forte il valore di una differenza che deve essere però una differenza che noi non rinindichiamo soltanto come una differenza che vogliamo gelosamente custodire ma rispetto alla quale è il modello diciamo di costruzione e dell'organizzazione del lavoro mentre l'organizzazione tutto sommato della società che deve provare a cambiare e allora faccio l'esempio e vengo diciamo alla politica e poi ho l'esperienza del Comitato per l'opportunità della Camera il quale vi voglio dire ovviamente vi voglio raccontare cioè la politica in cui stessa sono stati fatti alcuni riferimenti prima e per questo dicevo poi all'inizio c'è una differenza forse anche nel punto in cui siamo rispetto a università e politica nella ricerca dei saperi la politica oggi abbiamo il primo governo parità uno donna una parità piena abbiamo una segreteria per dire una segreteria nazionale del Partito Democratico che ha lo stesso numero di uomini e di donne eppure abbiamo due grandi diciamo contraddizioni nel governo non c'è un'amministra la tele che non è stata assegnata così come nella segreteria nazionale del Partito Democratico prima di diritto c'era la responsabile nazionale dell'ONU oggi non c'è e la risposta che ci viene data a noi che diciamo un po' ci affagniamo a stegnare a fare queste nostre è che non c'è più bisogno perché abbiamo raggiunto quello che abbiamo sempre chiesto cioè adesso abbiamo numeri quindi va bene così cioè non c'è bisogno se nel governo ci sta significa del resto mica le pari opportunità abbiamo sempre detto che le pari opportunità e che il punto di vista del genere deve essere determinato su tutti i settori beh ci sono il governo per la prima volta il governo è paritario per la prima volta quindi per questo dico il rischio di un avanzamento se non cambiamo anche noi se non aggiorniamo la nostra agenda il punto è che proprio in base a quegli insegnamenti che ci hanno lasciato le battaglie delle donne non solo negli anni 70 secondo me quelle che sono più latanti ma anche quelle che sono venute dopo perché gelosamente forse addirittura con più fatica hanno conservato e tramandato i valori di una battaglia e soprattutto rispetto lo dico anche alle più giovani perché è complicato io non mi sento particolarmente vecchia però quando parlo con le ragazze di 20 anni mi sento molto vecchia perché mi sento dire che ragazze di 20 anni che ovviamente vedono un quadro normativo avanzato ma dove stanno se le discriminazioni sinceramente non c'è precluso alcuni possiamo fare tutto dipende dai meriti e purtroppo anche quando una ministra adesso le prese con la legge elettorale dice le donne comprese le donne del mio partito stanno facendo una battaglia in qualche modo di là la caprina perché alla fine non è questa la battaglia la vera battaglia è quella del cambiamento il guai a frenare il cambiamento noi ovviamente dobbiamo continuare a dire che il cambiamento non è mai neutro che il cambiamento può andare in una direzione piuttosto che in un'altra direzione e che noi quel cambiamento lo vorremmo segnare e lo vorremmo segnare non per il bene e non per una questione appunto di meditazionista in qualche modo che attiene soltanto alla considerazione che esiste un altro genere che esiste un altro punto di vista ma perché tenere il conto con quell'altro punto di vista probabilmente farebbe fare un salto di qualità di intervi di civiltà di progresso di mantenimento di qualità della democrazia a tutti non è soltanto una questione delle donne e questo però è una battaglia difficile che facciamo fatica a fare che non è una battaglia proprio perché più insidiosa perché quando tu sei di fronte a una forte discriminazione viene più facile quando invece sei di fronte appunto a numeri che ti dicono che tutto sommato queste discriminazioni non ci sono che quindi il punto è passare diciamo in qualche modo dalla battaglia dei numeri a una battaglia non dico di contenuti ma insomma di profilo di cultura io dico di cultura di genere ma insomma e che non è scontato perché poi dentro quei numeri noi vediamo che il rischio alto altissimo è quello invece che per stare dentro quei numeri ci si omologhi a quei modelli e quella è proprio la sconfitta di tutto che abbiamo fatto fino a questo momento cioè nel senso che poi non ha più valore non ha più senso e probabilmente diciamo sarebbe la più più grave delle nostre sconfitte perché se per stare lì dentro io capisco che mi devo non solo adeguare ai tempi e già e quindi rinunciare per questo dicevo la storia del io voglio crescere ogni ufficio io voglio cambiare i tempi della politica non voglio trovare la previsita che sta fino alle 11 di sera perché noi in Europa so che il Parlamento italiano c'ha dei tempi e poi vengo appunto alle questioni delle dipendenti che stanno delle dipendenti della Camera dei Deputati per le quali ovviamente dobbiamo fare una battaglia che sono vincolate ai nostri tempi di lavoro a quello dei parlamentari cioè non è normale che è normalissimo che si lavori diciamo concentrato a parte della settimana perché ovviamente ognuno ha il proprio collegio di appartenenza alla città ma non è automatico e non è normale che si lavori senza orario senza potere programmare senza potere pianificare questo non è normale non è normale che il linguaggio e la capacità di riconoscersi e che quando una donna interviene deve in qualche modo vincere quel pregiudizio perché per caso strano è sempre più facile per le donne parlare nei contesti di donne ed è molto più complicato per una donna te lo dico ma la donna è impegnata soprattutto questo person valga anche penso non lo conosco poco quindi non parlo del mondo accadento però sicuramente quando parli davanti a un consesso maschile sai che devi vincere un iniziale pregiudizio e fai più fatica perché lo avverti tutto quello e sai che il linguaggio e le modalità con cui tu ti relazioni e con cui parli sono probabilmente modalità e relazioni completamente diverse e che loro fanno fatica riconosci e quello che si diceva prima quando anche i circuiti nei circuiti distretti c'è un passaggio di informazioni al quale tu non accedi tu non hai la possibilità di crescere perché il potere è anche la possibilità di avere informazioni e anche in qualche modo cimentare la tua testa avere le possibilità per e questa cosa questa è difficile da scardinare e però io credo che la battaglia più grande sia esattamente questa quindi vedo diciamo i rischi di alcune come dire alcuni traguardi che rischiano di rendere in qualche modo più complicata questo passaggio però io vedo anche tutte le potenzialità che se invece questa diciamo come dire questo passaggio la necessità di questo passaggio viene colto fino in fondo secondo me le potenzialità per fare invece il salto di qualità sono tante sono tantissime perché così se è vero che appunto nella crisi in qualche modo economica la cosa dicevo prima banca d'Italia il numero di occupazioni femminile ci fa fare il salto sul pin per la crisi istituzionale per la crisi dell'istituzione della qualità della democrazia questo è ancora più vero cioè il ruolo delle donne dentro la crisi della democrazia il fatto che le donne siano un fattore di profondo cambiamento dei processi democratici anche dell'etica di una ritrovata etica della politica per esempio il buon governo delle amministrazioni territoriali delle amministrazioni locali quando le donne sgovernano le amministrazioni territoriali c'è adesso collegato a quel senso di etica della responsabilità anche a cui si faceva riferimento prima che io ecco anche lì non lo vedo io penso che dobbiamo contaminare noi per esempio nel buon governo dei territori ma che ben vede che questo sia come dire qualcosa da importare e che dobbiamo esportare verso gli altri cioè non al quale dobbiamo rinunciare perché ci dobbiamo adeguare noi a quell'altra modalità sono gli altri che sembra che devono fare un passo in avanti perché quello è un passo in avanti in termini di qualità che farebbero tutti quanti quindi vedo sicuramente tutte queste potenzialità e secondo me appunto il salto di qualità che lo dico ovviamente fare adesso rete in questo contesto con chi si farrete è complicato perché noi siamo il Parlamento più femminile della storia repubblicana ma dentro quei numeri ci sono tante che questa battaglia non solo non la condividono perché anche noi non siamo bravi forse a spiegargliela cioè non la avvertono e io dico quando l'avvertiranno l'avvertiranno soltanto quando vivranno probabilmente sulla propria pelle una discriminazione e la saranno addirittura leggere e capire perché tante volte alcune di loro la subiscono ma manco diciamo la colgono quindi dovrebbero avere anche gli strumenti per capire che tipo di discriminazione stanno subendo perché nel momento in cui una ti dice ma io voglio andare avanti soltanto per meriti così come io faccio un esempio sulla legge elettorale adesso ultima con Brunetta diciamo l'onorevole Brunetta ha fatto un attivecco perché sulla storia delle liste della legge elettorale con le liste lui diceva ho fatto un'intervista su Repubblica dove diceva le donne stanno facendo questa battaglia delle liste tutto sommato perché vorrei il rischio è altissimo per la battaglia che stanno facendo le donne perché così rischiamo di avere solo donne fedeli al capo peggio ancora ecco esattamente e la mia risposta è stata mi risulta che nel momento in cui abbiamo fatto le liste bloccate in tanti partiti ho visto venire cioè venivano promossi essenzialmente gli uomini fedeli al capo cioè gli uomini gli avvocati quelli che no quelli che ti facevano semmai che ti seguivano alcune cose cioè che con la politica semmai erano diciamo ben lontani ma che avevano altre logiche diciamo di appartenenza di fedeltà di fedelizzazione quindi non la capisco proprio questa cosa e questa è una logica però vi dico che se da un lato c'è chi secondo me indietro diciamo fa battute di questo tipo io vedo anche anche colleghi del mio stesso partito che invece persone che io stimo profondamente con le quali è ancora complicata che stimo tanto e che ancora mi dicono ma però ma l'era sta battaglia sta battaglia dai è una battaglia di retroguardia è una battaglia che ormai quando siete brave ce la fate non me la fate che è una battaglia che va contro di voi va contro la vostra qualità cercate in qualche modo di fare un altro tipo di non mi mettete su questa cosa ne uscite dequalificate voi e questo ovviamente lo dico perché non lo so forse io che sono stata addirittura consigliera comunale per dieci anni in un consiglio comunale di 69 uomini e soltanto io donna forse riesco a resistere ma penso alle più giovani donne parlamentari che di fronte a questa diciamo modalità rischiano di fare un passo in mietro ovviamente lì è importante e lo è stato importante nel mio percorso professionale è molto importante la rete e il fatto di condividere e anche di costruire una rete di relazioni tra donne molto forte che in qualche modo per oggi anche quella è complicata perché oggi la competizione anche tra le donne è ovviamente molto molto elevata e si capisce tante volte si pensa che probabilmente fare alleanza con gli uomini più potenti è molto più utile che fare alleanza con gli uomini più potenti e anche lì bisogna provare a scardinare con gli strumenti della convinzione e le battaglie in cui si fa e probabilmente quando quelle discriminazioni io mi auguro che non sia soltanto quel momento nel quale una donna che non è convinta di questa cosa ci rifletta quando la subisce la discriminazione ma semplicemente anche quando riesce ad avere gli strumenti per leggere quello che succede perché anche la stessa Boschi faccio l'esempio della Boschi che il giorno dopo l'approvazione non mi ricordo adesso di qual è veniva tante cose ha subito la povera Boschi e la verità su Maldrato però una cosa che mi aveva molto interposito era una foto che è stata pubblicata dai giornali che pareva veramente che si facesse in aula con il ministro del Drio ed era veramente una cosa proprio di pessimo gusto ma proprio di pessimo gusto sono stata fare una dichiarazione per dire ma anche la stampa non avrebbero mai fatto con un uomo cioè proprio l'immagine si vuole semplicemente le parla del fatto di essere una bella donna di essere una ragazza giovane di essere una bolla donna ma è anche parlo che lei stessa ma che lei stessa sminuisca questa cosa non bisogna cadere non bisogna cadere nell'eccesso opposto non bisogna cadere nell'eccesso opposto ce n'è il fare questa è una battaglia per stare tutti i giorni i prigionari io sono la vittima sessista di un concorso sessista però nemmeno in qualche modo rimuoverlo completamente questo non va io credo che lei sinceramente non ha gli strumenti per leggerla quella cosa lì non ha gli strumenti per leggerla perché lei che è stata una donna fortunata probabilmente che in qualche modo ha avuto un deporso fino a questo momento e non ha incontrato nemmeno il suo deporso una rete tale di donne o comunque una circostanza nella quale questa cosa questo per dire che secondo me è importante allora ritorno un po' scusatevi se mi sono fatto diciamo una digressione un po' lontana però questo per dire che secondo me è importante la rete è importante la consapevolezza ed è importante il lavoro che gli organismi diciamo in qualche modo anche gli organismi di fare opportunità possono fare tra loro io personalmente faccio mi dico a lei quelle cose che venivano dette prima al comitato fare opportunità alla Camera voi sapete che la Camera dei deputati vige il regime di autodichia per cui noi possiamo in qualche modo disciplinarci diciamo a prescindere ovviamente dalla legge nazionale dello Stato per cui io diciamo ho scelto di mantenere CPO e non e qui me ne sono scelta di responsabilità però lo dico perché vi garantisco che nel frattempo non ho avuto grandi resistenze perché intanto non è che se la gente fosse stato vista come loro di potere invece non le ha avute queste resistenze perché forse manco se ne so accorti manco lo sanno che c'è si doveva fare il cubo che si è fatto il CPO non so quindi però io sono una che interpreta cioè provo a essere fedele al mandato del CPO però so che non ce la faccio perché per esempio alla Camera dei Deputati a differenza di molti parlamenti europei non esiste la Commissione parlamentare per le opportunità io ovviamente sono firmataria di una proposta di legge prima firmataria di una proposta di legge che chiede l'istituzione della Commissione per le opportunità nel frattempo essendoci vi garantisco intanto c'è tante volte l'ambiguità cioè per voi e per noi noi sappiamo che il CPO è un'altra cosa ma per chi viene per esempio delegazioni internazionali che ci vengono oppure anche nazionali che chiedono la Commissione per le opportunità vengo chiamata io anche dai nostri uffici in una come dire confusione totale io faccio la Presidente del Comitato per le opportunità che è un ordine interno che essenzialmente dovrebbe essere rivolto alle dipendenti della Camera anche se per formazione sempre per la professore Autofichia noi non siamo fatti il pari-tetico datore di lavoro diciamo organizzazioni quindi macchina amministrativa e dipendenti ma siamo addirittura fatto per parte con le parlamentari quindi siamo parlamentari quattro parlamentari quattro rappresentanti del personale e una per le varie categorie per i professionali istenti nella Camera e una rappresentanza dell'amministrazione quindi è anche su questo un po' sui geni su questo organismo che l'ho trovato costituito così e ho pensato che era forse più utile intermediene prima facendo delle cose e poi provare un corso per accambiarlo anche perché quando ci siamo insegnati non sapevamo la vita diciamo di questa legislatura quanto sarebbe stata e quindi abbiamo provato ad andare avanti così però dico questo per dire intanto che secondo me il ruolo deve essere comunque in ogni caso lì dove esistono presidi può essere nelle more che in qualche modo appunto come per esempio nel caso della Camera c'è un deficit io provo a fare anche delle cose sapendo di sconfinare lo faccio fino a quando non ci sarà anche la commissione per la quale ho presentato la proposta di legge quindi qui però ho fatto anche per la caratterizzata ci sarà di tempo e quindi io provo a fare un po' l'uno e un po' l'altro per la Camera dei Deputati vi dico soltanto questo perché altrimenti sono diventata che voglia di superare 20 minuti noi abbiamo essenzialmente diciamo il problema nella Camera dei Deputati che è quello dell'organizzazione dei tempi del lavoro perché le dipendenti della Camera dei Deputati hanno tempi di lavoro molto piccolati ai lavori parlamentari i lavori parlamentari sono come dicevo prima imprevedibili soprattutto non pianificabili molto spesso soprattutto per le figure professionali alte le dipendenti le dirigenti che seguono i nostri provvedimenti non sono intercambiabili per cui se sta seguendo lei il provvedimento è soltanto lei che lo può seguire e quindi non c'ha il sostituto perché la funzionaria la dirigente la commissione sta seguendo tutta la storia di quel provvedimento non lo lascia e quindi anche se noi per esempio come spesso accade almeno in alcune commissioni facciamo l'intera notte al lavoro e non lo sappiamo solo perché in un certo punto l'ostruzionismo in commissione piuttosto che succede loro sono costrette questo ovviamente è una modalità di lavoro che sbarla completamente e che impedisce e infatti abbiamo una questione salute alla fine del percorso di catena di tenuta psicologica di stress altissimo abbiamo appunto diciamo le donne non riescono ad avere nei giorni di ferie anche dovrebbero avere non riescono a maturarli e per una serie diciamo di circostanze quei giorni di ferie che non vi sto a spiegare rischiano addirittura di essere persi e loro comunque fanno una qualità della vita veramente bassissima e molte rinviano la maternità moltissime rinviano il tempo della maternità quando soprattutto sono state assunte insomma le cose quindi noi stiamo lavorando essenzialmente adesso su questo ci siamo dati come obiettivi quello di scrivere in qualche modo un piano di azioni positive triennale adesso quindi lo stiamo provando essenzialmente quattro asset questo appunto della riorganizzazione del tempo di lavoro quindi progressione di catena e conciliazione un altro sul terreno della salute e poi essenzialmente un altro diciamo che è quello appunto dei bilanci di genere perché qualunque misura noi proveremo ad adottare sarà necessario avere adeguate risorse e bilancio e quella diciamo sappiamo ci sono tanti altri parlamenti che l'hanno adottato ci farebbe piacere visto anche che abbiamo una Presidente della Camera dei Deputati è una donna che anche la Camera dei Deputati adeguasse diciamo in qualche modo la determinazione del proprio bilancio capendo loro e come spegniamo le nostre risorse il bilancio interno della Camera non il bilancio ovviamente il numero il bilancio della Camera in termini di ricadute per donne e per uomini vi ho detto essenzialmente il lavoro della Camera perché mi sembrava giusto e doveroso però credo diciamo che astraendo adesso dallo specifico del lavoro del Comitato per il proprio della Camera sia perciò vi ho detto ho accolto veramente un grande piacere perché credo che un'interazione utile tra diciamo in qualche modo il mondo dell'università e dei saperi che sono gli organismi deputati per la politica le istituzioni cioè in qualche modo a me la parola potere non mi spaventa quando è declinata come la declinano come la sanno declinare molto bene le donne che è un potere diciamo la concezione del potere a servizio in qualche modo della gestione virtuosa delle nostre comunità sul potere sulla costruzione della nuova classe dirigente io credo che appunto da un lato la politica e da un lato il sapere abbiano un grande ruolo quindi in qualche modo costruire una rete tra questi due mondi può essere veramente una cosa importante visto che le sfide che abbiamo davanti sono impegnative non semplici non le dobbiamo sottovalutare ma secondo me sono alla nostra portata forse è davvero prezioso e utile che anche da una cosa come quella di oggi possa partire un pensiero che in qualche modo possiamo al quale possiamo associare tanti altri pezzi di ragionamento del corso d'opera e che secondo me potrebbe nel tempo nel lungo tempo portare anche risultati importanti scusi possiamo fare una domanda avrei una domanda da fare troppo piccola dato che ha parlato ha detto che mi presento Silvia Borelli Universale Ferrara lei ha detto non c'è una commissione a fare opportunità e stiamo cercando di ottenere delle indagini sull'occupazione comunale c'è una cosa che secondo me è lampante ultimamente non si fanno mai indagini sull'impatto di genere delle tante riforme che si vogliono fare e il problema della conciliazione c'entra molto con questo perché adesso si discute del job up eccetera oggi la conciliazione si fa con la flessibilità con i lavori flessibili atipici eccetera c'è una forma di impiego il voucher che è offensiva per le donne perché? perché c'è scritto c'è scritto nei circolari ministeriali eccetera che quello viene utilizzato per le babysitter ora è chiaramente una forma che è una forma offensiva per le donne semplicemente perché lo conosciamo tutti insomma non è pure lavoro subordinato per cui compro un'ora di lavoro regolarizzo rendo grigio una forma di lavoro che sarebbe nero e queste cose con uno studio sull'impatto di genere delle tante riforme che si vogliono fare saltano fuori quindi sarebbe veramente utile fare un'analisi di questo tipo sono assolutamente d'accordo non posso dire nient'altro sono d'accordo con lei credo che sia pubblico anche perché il problema del Parlamento italiano oggi a differenza di quello che si dice non è che dobbiamo superare io credo il bicameralismo perché produciamo poche leggi noi ne produciamo fin troppe quel problema che non le attuiamo il problema del bicameralismo è altro non bisogna necessariamente legare la riforma infatti bisogna superare il bicameralismo perfetto solo perché abbiamo due camere che fanno esattamente la riforma ma il problema non è che facciamo un po' di legge nel caso anche della legislazione di genere sono assolutamente d'accordo se ne sono sovrapposte tante credo che vada valutato l'impatto le conseguenze che hanno avuto l'utilità e forse messe anche a sistema regime nonostante non è stato fatto il corso di varie opportunità una cosa non è la legislazione di genere è l'impatto di genere di ogni riforma che si fa che c'entra con è trasversale proprio assolutamente grazie 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 che ci ha confermato che nonostante abbiamo raggiunto questa condizione che è sicuramente auspicabile a livello di rappresentanza politica nel governo dell'estudio una condizione di 50 e 50 in realtà di un paradiso ma culturale di potere ancora tutto pensato e sculturato al maschile che probabilmente il concetto di neutro forse oggi trovasse nel concetto scivoloso di merito forse il suo nuovo subrogato però questo ci dice che una cultura delle pari opportunità deve viaggiare sempre di pari passo con una cultura di differenza di genere e che questi aspetti devono continuare a operare in parallelo questo è forse uno dei elementi centrali su cui diverte la ricerca di cui ci parla la collegarita Biancheri che è sociologa dell'Università di Fisa stata presidente della conferenza la prima presidente della conferenza e che ci presenterà il progetto europeo Trigger introdurre i cambiamenti delle scienze per favorire le carriere femminili e per ottenere una reale condizione di violenza nell'entrata grazie beh intanto cercherò visto che siamo anche un po' forse più distanti ma di che sono l'ultimo intervento quindi di riprendere e poi anche un pochino di allargare parlerò solo alla fine del progetto Trigger come azione di cambiamento importante ma vorrei anche all'onorevole dare un dato importante da cui rispondere ai propri colleghi che dicono queste cose veramente che non so dovrebbero più essere neanche ascoltate soprattutto il Parlamento noi siamo al 71esimo posto dell'index gender gap allora significa che non c'è nessun altro paese europeo che stiamo andando indietro stiamo uscendo di 6 punti quindi 6 gradini nella scala mondiale e quindi forse qualche riflessione dovremmo farlo sulla continuità il fatto che non ci sia un ministero un dipartimento significa che noi come anche conferenza non abbiamo un'interlocuzione istituzionale importante forte che dia continuità che crede e poi cercherò anche di spiegare come si può cambiare ma già in mezzo di me l'ha fatto Elisabetta Ardis come si può cambiare in questo paese l'idea che c'è ci sono le pare personali quindi che questo è un diritto di cittadinanza che è una cittadinanza debole che la rappresentanza politica non serve solo fare i ministri ma serve nei sottosegretari serve nelle commissioni e questo abbiamo visto che c'è stato dato questo flash iniziale del governo e poi i sottosegretari hanno ancora una percentuale inferiore rispetto ai governi precedenti se non sbaglio quindi il problema è proprio questo il settantunesimo posto è un indicatore complesso che vede insieme anche la rappresentanza politica insieme all'accesso alle carriere agli studi alla sanità alla città della salute e è proprio nella rappresentanza politica che noi abbassiamo drasticamente la nostra posizione quindi il settantunesimo posto penso che possa soltanto questo bastare a rispondere a queste domande per fortuna abbiamo le direttive europee che ci hanno fatto anche assumere una legge risultantissima dicendo io voglio essere madre e voglio anche crescere ma abbiamo una legge 54.000 sulla conciliazione che ha visto cambiare l'applicazione quando incominciava a funzionare si è trovata una scusa e si è cambiato l'articolo 9 quindi è stata ferma per più di 4 anni ma quindi il problema è credere nel fatto che comunque il paese non può più stare al settantunesimo posto quindi le direttive europee sono importanti perché ci fanno assumere anche nella nostra normativa dei cambiamenti importanti come per esempio per le 153 l'obiettivo è quello di promuovere il capitale culturale abbiamo detto il capitale culturale è importantissimo c'è una perca le donne rendono di più nell'università ma non spendono il loro sapere il loro conoscenza il loro capitale culturale nel mondo del lavoro migliorare l'organizzazione del lavoro su questo che si diceva dei tempi è verissimo ci sono dei modelli europei che riguardano 5 e mezzo tutti a casa e quindi si pone meno il problema degli dipendenti della casa questo deve essere un modello uguale per tutti quindi la condivisione non è solo una condivisione all'interno dei luoghi di cura quindi della famiglia deve essere un modello organizzativo che vale per i genitori per la genitorialità non solo per la maternità la conciliazione tra i diversi tempi di vita mette ancora lontano che quindi la strategia che abbiamo oggi tanto evocato dell'Europa 2020 rilancia trasversalmente nel campo economico culturale e sociale anche la relazione della Corte dei Conti evidenzia che per un contesto di particolare complessità e rilevanza quello delle politiche per la famiglia a parte cercherò anche di spostare un po' l'attenzione sull'uelfare perché si è detto che l'uelfare è un momento di crisi ma ci sono anche delle azioni che si possono fare per far sì che le politiche per la famiglia siano veramente a sostegno della famiglia le famiglie sono sole non abbiamo un solo figlio abbiamo i tassi di economità più bassi d'Europa e il tasso di occupazione più basso d'Europa quindi va rincorporata una capacità strategica dice la nostra Corte dei Conti di disegnare effettive azioni di sistema che mettano i potenziali beneficiari nella condizione di fare scelte appropriate consentendo da un lato la conciliazione dei tempi di vita e da un lato la possibilità di condurre un'attività lavorativa continuativa noi pochissimi poi vi farò vedere soltanto chi ha livello di istruzione elevata un modello continuativo di lavoro quindi anche questo va pensato e poi soprattutto la conciliazione non è la conciliazione per le donne è la conciliazione per la famiglia e quindi se noi usciamo da questa visione è chiaro che le politiche possono cambiare qui basta vedere la spesa della come si investono le nostre risorse e vedete che per la famiglia un paese familista allo stesso tempo non investe sulla famiglia questo io insegno sociologia della famiglia quindi è da anni che vediamo come crescono pochissimo le risorse della famiglia ma non solo bisogna vedere anche che tipo di come vengono diciamo allotate le risorse e come vengono spese si spendono molto di più con i trasferimenti monetari con i servizi quindi chiaramente questo fa la differenza l'anno 2014 dell'Unione Europea è l'anno della conciliazione e perché sono stati scelti i pinguini sono stati scelti i pinguini perché quando nascono i piccoli la madre va a cercare il cibo e il padre resta con i piccoli quindi questo è diciamo un messaggio significativo del cambiamento che anche dell'Unione Europea si vuole fare io ho fatto questa ricerca quando guardo sconciliazioni se voi mettete su google le donne appaiono così e gli uomini invece appaiono così quindi anche nella conciliazione ma ce lo dice l'Istat gli uomini scelgono quale tipo di lavoro condividere nel lavoro di cura ecco allora non è soltanto il problema del tempo della scelta io mi ricordo che negli anni alla fine dell'anno 90 ho fatto il libro il lavoro delle donne tra scelte e vincoli perché noi sì possiamo scegliere possiamo scegliere però di rinunciare a una parte di quello che non vorremmo fare ecco queste sono soltanto delle azioni lo stesso ma è perché c'è un economista a parte che se sposo la mia governante non aumento il pino però nel 1925 la posizione economica delle donne l'organizzazione economica della famiglia su tutti questi problemi questo forse i partiti dovrebbero ricepirlo lo stato della legge dei principi vigenti è ancora migliorare un partito che affrontasse apertamente con intelligenza questi problemi nei suoi congressi raccoglierebbe nuove correnti di interesse vivone dell'elettorato poiché in tal modo la politica tornerebbe a occuparsi di problemi che incirano profondamente nella vita di ciascuno noi potremmo dire anche con Marta Lutno se noi riusciamo a generare la qualità della vita delle persone forse i partiti politici riescono a fare qualcosa Phillips nel 1984 diceva di questo devo dire che forse è anche una mia conclusione ma spero di cambiare dopo tantissimi anni che mi occupo di studi di igiene e faccio parte del comitato di fare opportunità sono arrivata alla conclusione che la lotta per pervenire a un'uguaglianza economica tra esseri umani neutri due sessi differenti assomiglia agli sforzi fatti per quadrare il cerchio con la riga con la squadra nel senso che è così difficile veramente e la fatica di Silco la viviamo tutti noi che facciamo parte degli organismi di fare opportunità che effettivamente nel nostro paese qualche domanda in più ce lo dovremmo fare allora qualche dato velocissimo qual è la distribuzione percentuale delle ore medie meditate e la percentuale attività si vuole in sintesi gli uomini lavorano un'ora e dieci le donne un'ora e quindici le donne cinque ore e dieci allora vedete che questa disparità diciamo non ha bisogno di ulteriori commenti dal punto di vista delle carriere scientifiche e questo cresce con una lentezza esasperante nella condivisione del lavoro di cura allora Hastings che è molto significativo anche il fatto che non c'è molta differenza anche dal punto di vista dell'istruzione no? insomma è abbastanza certo per chi ha una distruzione inferiore aumentano di ore però insomma c'è sempre diciamo un livello di istruzione della donna che comunque al 68% è il carico di lavoro che è sempre fortemente asimmetrico questo l'abbiamo detto oggi il graventato dell'occupazione femminile va davanti il tasso di disoccupazione e il tasso di mancata partecipazione sempre più donne sono scoraggiate sono scoraggiate sempre di più al sud ma ci sono degli elementi che ci danno l'idea di perché c'è anche questo divario questo appoglio tra nord e sud mancano i servizi e quindi è direttamente poi farò vedere Trento Patrizia farò vedere le regioni del sud quindi c'è proprio una diretta diciamo causalità tra quello che è i servizi e quelli che sono anche nella regione toscana c'è questa differenza e vedete i tassi di occupazione ecco il tasso di occupazione maschile aumenta con l'aumentare del numero dei figli diminuisce invece nelle donne in maniera sostenuta la retribuzione ora non ci vuole tornare sappiamo i differenziali salariali la segregazione occupazionale verticale orizzontale la difficoltà dell'inserimento lavorativo cioè tutte queste cose sono perfettamente a nostra conoscenza questi sono i tassi di difficoltà cioè noi siamo tra l'altro anche abitualmente a distinguere tra le discipline che siamo anche tra i sociologi abbiamo difficoltà a collegare i problemi della famiglia quindi della posizione della donna nella famiglia a po' di tassi di difficoltà e quindi a leggere questi fenomeni in maniera molto legati tra di loro e questo ne è un esempio ecco la spesa di Trento e la spesa della Calabria e chiaramente a Trento c'è un'occupazione molto più elevata rispetto allora non è che corra la comparazione tra i paesi del nord Europa con un certo tipo di UEFA basta guardare anche all'interno delle nostre regioni per capire i problemi che ci sono ma un altro esempio di assertività è che quando è uscito il libro Il fattore di Ferrera che ha sintetizzato le cose che tutte le sociologhe da anni dicevano ha avuto un grande risalto sui giornali si è citato moltissimo questo libro e molte delle sociologhe che hanno invece da anni esaminato questi dati e analizzato e scritto su questi anni hanno veramente detto ma come finalmente si citano soltanto perché è stato veramente una cosa su cui dovevamo dobbiamo riflettere che comunque la giornata di oggi ci spiega perché il circolo vizioso che lui dice è in attività per minimile riduzione della domanda che si dice perché se le donne stanno a casa riduzione della ricchezza complessiva streco degli investimenti sociali ci fa i trasferimenti monetari invece di fare servizi socializzazione tradizionale e divisione dei ruoli questo quindi ruolo strumentale e ruolo espressivo il circolo virtuoso quale sarebbe il circolo virtuoso sarebbe lavoro criminile crescita della domanda dei servizi crescita dell'occupazione quindi sono provati di fare opportunità un problema di fronteggiare la crisi è una delle parole che noi abbiamo messo nel crescita della ricchezza complessiva intorno dell'investimento sociale ecco la distribuzione del lavoro domestico in terra allora questa è una dicenda che abbiamo fatto noi per l'inai l'ho messa qui per citare la difficoltà della migrazione e dell'uso del termine genere ed inclinarlo all'interno di una legge dell'ottato cioè una legge dell'81 2008 che dice che la salute sicurezza e sicurezza nei loghi di lavoro deve vedere la prospettiva di genere punto non c'è una declinazione di cosa significa di genere quindi noi stiamo lavorando con l'inai quindi una cosa complessa di far capire a chi devono fare la sicurezza in ottica di genere che cosa significa il termine genere perché non c'è ancora anche stamattina medicina di genere secondo me è una contraddizione in termini perché medicina delle differenze sessuali sarebbe appropriato a dire perché sono le differenze biologiche la salute di genere ha invece un significato perché la salute è multidimensionale quindi ci sono i determinanti sociali e il genere che è una costruzione sociale delle differenze ha un significato accostato a salute di genere ma credetemi che ora poi quando entrerò nel progetto trigger questa cosa non è ancora capita cioè oltre al fatto che stiamo andando così lentamente ci sono veramente una serie di stereotipi di conclusioni di sovrapposizioni concettuali che rallentano le capacità di comprensione e di applicazione in questo caso di una legge del 2008 siamo al 2014 una legge che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro cosa la difficoltà qual è stata declinare il termine genere all'interno dei live ma questo cosa ha comportato cerco di andare veloce ha comportato il fatto che di superare una visione della divisione del lavoro tra sfera pubblica e sfera privata allora non si può dire ma guardate che le donne fanno più incidenti di finire perché dice il il datore di lavoro a me non mi interessa perché fuori della giornata di lavoro però fanno più incidenti perché hanno il problema della doppia presenza quindi arrivano trafelate mentre invece sapete che fanno meno incidenti sul luogo in macchina quindi hanno anche premi assicurativi più bassi rispetto allora significa ricomporre una sfera pubblica e privata che è stata dicotomizzata cioè una visione culturale che ci impedisce di capire che non si può soltanto leggere quello che avviene nell'ambito lavorativo e quindi nella sfera del lavoro formato ma dobbiamo anche analizzare e quindi vedere la doppia presenza appunto questo concetto importante introdotto da Laura Bar che è quella del lavoro di cura quindi è un quotidiano femminile che noi dobbiamo valutare la dicotomizzazione tra sfera pubblica e sfera privata ci impedisce di leggere il genere di declinarlo ma vi potrei fare moltissimi archivetti e questo vi fa vedere il ritardo nell'applicazione di una normativa soprattutto in un diciamo ambito quello della salute e della situazione allora è chiaro che il Belfar ha dei problemi di crisi ora non vuole lui autorità però un elemento molto importante quando noi andiamo a analizzare il benessere lavorativo tutti questi elementi che noi cerchiamo anche come comitato per l'opportunità come cubo di tenere presente per esempio noi avevamo una bellissima biblioteca avevamo le benessite a domicilio avevamo a disposizione anche per la cura degli anziani delle persone che potessero aiutare nella diciamo nella doppia ruolo di cura e però tutto questo lo è per aziendale vedete come oppure occupazionale come l'Italia ancora una volta ha un indicatore bassissimo mentre invece gli altri paesi è un sostegno molto forte questo del welfare aziendale che viene dato al welfare pubblico cioè dobbiamo pensare che gli attori di una nuova della legge 328 quindi che riforma i sistemi di welfare sono non sono solo non è solo il pubblico ovviamente ma è il terzo settore ovviamente la famiglia relativamente soprattutto in paesi mediterranei ma è anche l'uelfare aziendale ci sono dei problemi adesso non lo sto a dire però è chiaro che può questo creare una dualizzazione nel senso che ha una differenza se uno lavora in una società gender sensitive e quindi autica l'uelfare aziendale rispetto a un altro lavoratore però ecco questo elemento secondo me andava introdotto anche in un contesto come questo dove sono i rappresentanti dei comitati parecchio unità o dei comitati municipi allora come vedete nel welfare che è uno degli elementi che è importante tener presente ci sono nuovi soggetti che devono essere presi in considerazione vado avanti allora quali interventi perché oggi abbiamo sentito tantissime analisi cui io condivido quasi tutto sulle carriere sul significato dell'intervenire con questi progetti che sono veramente d'accordo conciliazione condivisione dei carichi del lavoro familiare formazione misure di inserimento lavorativo servizi forme efficaci di integrazione pubblico privato ma qual è il ruolo degli organismi di parità o dei sindacati questo veramente è molto difficile dirlo in un momento in cui quando i comitati pare opportunità incominciavano a funzionare è arrivata questa rete noi purtroppo non abbiamo come era tale la possibilità di dire no non lo facciamo il bug abbiamo dovuto cambiare i comitati pare opportunità che avevano questo doppio ruolo importantissimo da una parte di sviluppare e quindi di fare azioni positive e di diciamo di fare opportunità ma dall'altro di tenere presente gli studi di genere cioè quindi di far sì che anche l'accademia italiana uscisse da questo ritardo culturale del non avere gli studi di genere nelle nostre accademie non è di cui questo stava funzionando io lo posso dire perché sono convinta si è messo il CUNC che abbiamo messo pare opportunità e mobbing cioè questo quando voi lo dite fuori è ma non è possibile è una contraddizione cioè già lì si vede che non c'è comprensione che non significa lavorare nell'università soprattutto lavorare sul modello centrale noi con la legge 16 che vi diceva stamattina Daniela Volpi della regione toscana stiamo lavorando moltissimo nelle scuole con educare le differenze quindi i contenuti i contenuti delle diverse discipline quindi educare le differenze nelle scuole di ordine e grado i libri di testo e programmi si è iniziato questo lavoro e poi si è smesso perché manca la referenza cioè il riferimento istituzionale promuove gli studi di genere in università abbiamo fatto tantissimo con i corsi donne e politiche istituzioni però non sappiamo mai cosa succede domani in questo periodo quindi così sono stati ma non si sa se si possono rinnovare con quali finanziamenti quindi cambia il governo e si ricomincia da capo e questa è veramente la sensazione che tutti noi che lavoriamo in questi organismi abbiamo e l'altra cosa secondo me invece molto importante è dare visibilità e contributi delle donne nelle diverse discipline noi l'abbiamo fatto ripubblicando le prime tesi delle prime laureate presenti a medicina e c'è una tesi che io cito sempre perché veramente mi fa capire com'è importante non solo nelle aziende quindi laddove ci sono le quote per i consigli di amministrazione avere le donne perché questo significa una maggiore produttività per le aziende ma anche nei gruppi di ricerca multidisciplinari perché per esempio Maria Fischman 1893 aveva fatto una tesi sulla stizia e diceva ma come possono le donne non soffrire di questa malattia quando si costringono i cortetti assurdi e sono costantemente oppresse dagli uomini dai loro mariti non hanno la libertà non possono ridurre all'aperto allora quindi vedete come anche promuovere i contributi scientifici delle donne nelle varie discipline diventi importati ecco che sono arrivata e finisco a questo famoso progetto Trigger Trigger come abbiamo detto ha due obiettivi trasformare le istituzioni quindi soprattutto le discipline tecnico-cientifiche noi abbiamo scelto ingegneria e medicina perché chiaramente vedete come l'abbiamo visto anche nei dati che ha portato stamane Paolo Rossi vedete come c'è una proporzione soprattutto nel ora vi faccio vedere meglio nell'accesso alle carriere e ingegneria è l'ultima facoltà oppure corsi di laurea fortemente orientata non è l'unico che non è femminilizzato siamo ancora attorno al 30% quindi partire dalla segregazione formativa è molto importante perché questo ci fa capire come si possono cambiare anche io non sono tanto convinta che Paolo Rossi ha dato occupabilità sia positivo per le donne però questo avrebbe un contesto diciamo un contesto diverso però chiaramente partendo da ingegneria e da medicina la riflessione è importante proprio perché c'è queste differenze e questi dati che vede abbiamo coinvolto i tre dipartimenti di ingegneria e i tre dipartimenti di medicina per noi più semplici per fortuna le facoltà sono solo in sei dipartimenti gli obiettivi è quello che vi ho detto un'analisi della realtà sociale ponendo il tema della scienza in una prospettiva anche degli importanti contributi che i movimenti femministi hanno perché il movimento femministo è visto presente in realtà solo come rivendicazione in realtà guarda perché se voi andate a leggere i contributi all'epistemologia agli statuti delle discipline quindi alla confutazione del paradigma scientifico basato sul maschio neutro e avremmeno dalle donne questi contributi importantissimi quindi partire da questo è molto importante quindi imponga un cambiamento dei modelli culturali illuminanti e soprattutto negli statuti disciplinari della scienza quindi io ho uscito un libro sul genere di salute tra prevenzione e cura per esempio la prevenzione si pensa a quella di fare il screening del bikini nel tumore della normale in realtà la prevenzione sarebbe fare integrazione sociosanitaria ed introdurre strumenti di conciliazione perché le donne hanno una maggiore morbidità nel momento in cui hanno una diciamo la doppia presenza però poi vivono più a lungo allora se noi introduciamo il paradigma di genere quindi questi occhiali riusciamo a vedere questo apparente paradosso cambiare attraverso il prisma di genere le contenute le discipline è molto importante quindi questo è uno degli obiettivi principali fondamentali noi siamo all'inizio il progetto è partito il primo gennaio del 2014 e finirà nel 2017 quindi dura 4 anni l'articolazione progettuale è anche per noi molto complessa e stiamo soltanto alle prime armi e c'è una collega che ha accettato del dipartimento di ingegneria a fare parte del nostro team e quindi vorremmo iniziare proprio a lavorare intanto su fare come la costruzione sociale della scienza sia avvarato su questo perché se noi cominciamo a vedere con questi diciamo occhiali riusciamo anche a introdurre cambiare ecco comunque vedete non vi voglio ormai mi sembra che sia finisco con questo la cosa su cui abbiamo iniziato è abbiamo sottoposto dei considerati gli studenti di medicina e abbiamo chiesto hai mai sentito parlare di medicina di genere e questi vedete sì qualche volta ecco questi sono i valori assoluti che abbiamo analizzato da chi vedete qualcuno dice a lezione c'è veramente una non conoscenza dei temi di genere quindi lo sforzo grosso che noi come università come comitato di fare opportunità dobbiamo fare è proprio rivolto alle parole stesso genere io ho chiesto sono sinonimi e molti sì hanno capito che forse non era così che dipendeva dal contesto però non c'è chiarezza neanche sulle differenze di questi di loro e sull'utilizzo quindi secondo me e ora finisco il grosso lavoro da fare è quello di rivedere il modello culturale perché noi abbiamo ancora un modello basato sulla cioè c'è proprio una discrasia tra quello che noi stiamo proteggendo anche come una famiglia stabile portata sulla divisione del lavoro e quindi sulla simmetria e sulla gerarchivizzazione dei sessi e quella che è la realtà quindi le trasformazioni sociali se noi non progrediamo se noi non riusciamo a far capire l'importanza come ha fatto Marx io dico questo per far capire come ha fatto Marx con la classe di leggere le disuguaglianze attraverso il paradigma di genere non riusciamo poi a portare avanti i contenuti che più non ci stanno a cuore dell'uguaglianza dell'equità e della cittadinanza di genere grazie 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 per raccontarci per raccontarci qualcosa del loro lavoro e della loro esperienza con loro a quest'anno è ma vorrei fare una considerazione forse ce l'accende cioè No, regandomi proprio, mi chiamo Irene D'Agnani e vengo dall'Università di Tende, sono generato da circa un mese per le pari cortina del mio atelier, mi ricollegavo proprio alla domanda che hai fatto tu prima, no? Però purtroppo è andata via il nostro interluttore, quindi C'è scura ma non sei che ha dovuto rientrare? Sì, sì, immagino, no, perché quello che diceva la collega secondo me è molto importante, è sempre stata una caratteristica dei provvedimenti italiani non guardare agli impatti specifici e quello che direi che è il punto importante ricollegandolo un po' anche al discorso che faceva la collega prima, è che in realtà quello che manca è la percezione dell'effetto non sul genere ma sulla collettività, cioè questa secondo me è una cosa che non ci fa fare passi avanti, è fondamentale cogliere effetti di genere ma poi è fondamentale capire che avere un tasso di occupazione che c'è il 25% di scatto rispetto alla media europea ci penalizza, la simulazione che è stata fatta e perdiamo un punto di filtro capite e che la precarizzazione delle donne non è uno svantaggio per le donne, è una caduta della produttività per l'Italia. Quando la parlamentare, non so che incarico ha con il maschio e non lo convince che il problema di genere esiste, è perché non riesce a dare una visione del fatto che è un gioco a somma positiva e invece ponendola nei termini a che cosa volete voi, in fin dei conti avete tutto? A? Non è vero perché se andate a vedere quei dati che ricordava la collega sul lavoro non retribuito, questo non è un fatto femminile tu pur, se siamo ultimi insieme a quattro paesi in una classifica OXE qualcosa si indicherà sui sistemi che ci siamo dati, quindi A? Non abbiamo nessuna conoscenza vera nel confronto con altri paesi, prima questione, cioè di quanto siamo indietro rispetto al lavoro non retribuito, al tasso di occupazione e al tasso di attività, un abisso e questo è un dato che evidentemente se un maschio fa, diciamo una persona, qualsiasi, fa un'obiezione, dobbiamo essere in grado di documentare che siamo lontani rispetto a condizioni medie, eh? Prima questione, seconda questione, dobbiamo dimostrare, dati alla mano, e qui l'università ha un ruolo fondamentale, che il problema non è un problema per le donne, per il genere, che gli studi non devono essere di genere, devono essere studi che guardano il benessere di un paese e se noi dimostriamo che, diciamo, il dislivello è un dislivello che ci fa perdere in termini di capacità di vivere meglio e lavorare meglio, quindi non dimostriamo che la precarizzazione è caduta delle capacità di crescere e lavorare in condizioni buone, è chiaro che non riusciamo a fare passi avanti, questo secondo me è un po' l'impasto dello studio di genere, che se rimane ad essere studio di genere, rimane parlamentare e la, diciamo, la parlamentare che sta nel PD non riesce a convincere nemmeno no? Quelli del PD e questo è un problema non del PD, non delle donne, ma di un modello di crescita sbagliato. questo è, scusate, la mia... non d'accordo non ho, forse possiamo lasciare ma intanto credo che ci sia un discorso aperto sui studi di genere, no? perché secondo me è importante chiarire che gli studi di genere non sono studi delle donne certo, però così vengono vissuti, diciamo, ecco... però, cioè questo è un altro elemento, perché quelli sono i women's studies che sono iniziati all'inizio degli anni 70, in Italia con l'entente, eccetera... gli studi di genere secondo me hanno ancora un significato nel momento in cui ci sono questi dati, perché sapete che molte studiose già mettono in discussione il genere, no? come concetto conoscitivo, paradigma, ma come interpretazione però io credo una cosa, non so se condividete questa idea, io credo che invece nel nostro paese il genere sia ancora una categoria interpretativa nel momento in cui le donne devono scegliere, cioè è chiaro che noi abbiamo un destino segnato, un destino sociale e questo non c'è più e abbiamo biografie scelte, qualsiasi persona che va all'università vede appunto che le ragazze sono consapevoli del fatto che non ci sono più delle costruzioni, anche educative, ma nello stesso tempo queste biografie scelte su cosa? Qual è la scelta? Chiunque vada nell'università e vede chi fa carriera, vede anche che non ha figli spesso, oppure che le carriere sono simili al momento in cui la, diciamo, il profilo e le biografie sono simili a quelle maschili allora gli studi di genere, io sono d'accordo sul fatto che bisogna far capire questo, bisogna anche dare continuità, cioè quello che vorrei dire è questo, almeno dalla mia esperienza di tantissimi anni nei comitati pari opportunità, qual è? È quello che cambia il ministro, cambia la ministra, cambia, viene su alla fine, ricambia tutto e allora noi si deve ricominciare tutto da campo e il Cug, il fatto del Cug, è stato veramente l'espressione di come si leggerono in questo paese, ci sono condizioni, poi noi dicevo voglio mettere la commissione, uno dei motivi per cui è stato sostituito il comitato pari opportunità con il Cug, è stato proprio quello di dire ci sono troppi organismi di parità, quindi no, questi non funzionano, sono stato le vuote, ne raduniamo uno, non fanno di mettere lo colo sul mobile, e così questi funzionano. In realtà è vero che ci sono tanti organismi di parità, ma è anche vero che molte persone, non lo so la vostra esperienza, sono messe lì anche contro voglia. Nella regione toscana la delega di pari opportunità non la voleva nessuno, neanche degli assessori, sì, anche l'ultima, la vicepresidente, quella che è stata cambiata, non la voleva la delega di pari opportunità, non la voleva, infatti l'hanno data all'occa, l'assessore è il nome all'occa, è il cognome. Fantastico. L'hanno data a un maschio perché aveva le politiche sociali, le politiche sociali sono politiche di pari opportunità, però anche le donne, ma non ci meravigliamo, i processi di socializzazione sono uguali per le donne per gli uomini. Però ecco, è vissuto come, quante volte ho sentito dire, no, anche io dico, perché che in certa mattina, ah no, mi ero disegnato in inglese, no, è un errore che facevo, se ho sentito dire tutte queste volte sarei dico, io quante volte ho sentito dire, no, le quote perché non siamo panda? Io l'ho sentito dire miliardi di volte, questo è veramente un altro stereotipo assurdo, no, che noi continuiamo a portare avanti. Allora forse gli studi di genere aiutano a capire meglio che cosa significa, se no noi abbiamo delle leggi e quella della legge 81-2008 è proprio veramente esplicativa di come abbiamo difficoltà a capire come definire il genere nella sua complessità. Cioè, mentre il concetto di salute è declinato, quindi c'è una spiegazione perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che salute è appena essere pubblico, sociale, psicologico, il genere non si sa che cos'è, nella nostra normalità non è declinato, rimane una parola che forse è un buon senso ma non è così, c'è qualche implicazione ulteriore. Allora, secondo me invece c'è partire anche dai contenuti dei libri scolastici, far vedere i modelli delle donne, no, ci sono state donne bravissime che hanno portato avanti tantissime idee costruttive nella scelta importante. Allora, dare visibilità forse fa vedere anche come in un gruppo di lavoro multidisciplinare e le differenze sono un valore, no? Perché finora sono state definite che si chiamate invece come un disvalore, no? Come una disuguaglianza, invece la differenza è un valore. Questo è quello che penso. Forse dobbiamo pensare anche al fatto che sono passati da CPO a Cuglia e Cuglia è praticamente solo un discorso di come noi valutiamo un po' in una certa condizione. È molto pesante. non so. Io e Patrizia andiamo a Roma, abbiamo fatto il solco per far capire che... Sì, ma abbiamo mancato e abbiamo presso visibilità, però. Sì, sì. Ma infatti c'è un comitato di garanzia. C'è, è una garanzia, è una garanzia all'uomo. Quindi non abbiamo di nuovo, non abbiamo più l'attenzione che dovevamo avere. Questo è il vero fatto. Allora, se voluto dire che lì non si procedeva differentemente le donne come qualcuno aveva osservato che poteva essere in altri casi e si è voluto accentuare il fatto che c'era un erga omnis, ma esce fuori un'altra cosa. Io ti dico magari, forse, perché secondo me ancora peggio di quello che... cioè nel senso che si è voluta accostare due congeli che non stanno insieme assolutamente, anzi che ci riportano indietro di... cosa dirò? Di quello che si può proteggere tutti, magari si trovava un altro nome, ma come dato unico di garanzia veramente terribile, soprattutto dentro delle istituzioni. posso fare una osservazione Cristiana Pioravanti dell'Università di Ferrara sono delegata del dottore da pochissimi mesi quindi sto imparando come si dice io credo di avere una fortuna però lavoro insieme al Comitato Unico di Garanzia e al Consiglio di Parità che sono entrambi mantenuti dal nostro statuto e credo di poter dire che avendo individuato gruppi di lavoro sulla base delle azioni nel nostro piano di azioni positive questa organizzazione complessa funziona bene nella mia esperienza quindi laddove si è mantenuto o istituito il nuovo organo questo a mio giudizio non ha comportato una diminuzione ma un ampliamento ma l'unità promuovil c'è anche prima sì sì però vuol dire è rimasto nel nostro nel nostro statuto altre università hanno scelto invece altre strade credo che invece da noi abbia dato un buon frutto per esempio la mia ha una una subita che è riuscita a far passare valorizzazione delle differenze nel codice etico e poi l'altra parte noi abbiamo limitato il Comitato Unico di Pari Opportunità abbiamo fatto tutto solo il cubo presente e noi abbiamo anche la Commissione Etica abbiamo tre organi e complessivamente diciamo non so se dipenda dalle persone che poi concretamente lavorano nei gruppi perché poi è anche sempre questione di persone però ripeto l'esperienza che io vedo è un'esperienza che sta dando ottimi frutti ma peraltro una cosa paradossale perché come vanno le politiche in Italia allora articolo 21 del collegato lavoro ti obbliga a creare il cubo noi ce ne freghiamo e diciamo utilizziamo quella circolare ministeriale che utilizza l'università dato che noi ci sono solo circolante sindacare eccetera li manteniamo i due organi la regione Emilia Romagna può mantenere i due organi noi ci siamo abbiamo detto molto bene possiamo farlo quindi lo manteniamo la regione Emilia Romagna ci prende come best practice cioè noi volontariamente andando incontro con l'articolo 21 siamo entrate le best practice quindi è una cosa sono d'accordo condivido assolutamente la miopia la scarsa programmazione però però più giornata Renate Codini ho un'università di Utine e mi sento un po' ma ciò fuori dal coro perché sono delegata una femminile per le per le corrego anche il rettore quando mi scappa per le pari opportunità di un ateneo da pochissimi mesi e contemporaneamente anche il presidente del CUC è unico nel senso che ha inglobato il comitato pari opportunità precedentemente e quello che è il comitato mobbing ovviamente mantenuta la funzione etica forse appunto è un'esperienza non lo so peculiare probabilmente ritagliata io mi occupo di temi di genere in quanto psicologa sociale da non dico quanti decenni comunque pochissimi e quindi avendo frequentato assimilato vissuto integralmente questa realtà riesco a declinarlo sulle relazioni positive del nuovo organo spero con incisilità che è quella che ho sentito qua oggi contemporaneamente dal psicologo che avevo in un corso di laurea anche quello mi fa fare mastico e vivo i temi del mopping di tutto quello che è stress lavoro correlato in azienda benessere psicologico delle risorse umane capitale sociale capitale intellettuale e via dicendo forse questo in qualche modo ha indotto il mio ateneo a uniformare e a darmi anche un braccio operativo perché la delega che ha avuto con la struttura con i gruppi di lavoro e quelle che sono le commissioni operative pensando forse appunto di razionalizzare nella nuova logica quindi di valorizzare quello che è stato fatto e io raccolgo una realtà per me importante pesante che è quella della delegata che mi ha preceduto che è Marina Brollo che effettivamente ha fatto un lavoro straordinario forse anche ottimizzando il fatto che appunto abbiamo collaborato da alcuni anni su questi temi quindi questo si traduce poi operativamente appunto in nazioni adicavuto sul territorio che vanno nella logica quindi perseguono quei risultati e quegli obiettivi non voglio dire che questo sia appunto un allest practice a pari a di quelli che sono progetti realizzati probabilmente su lungo periodo all'Università di Ferrara da sempre è un mio riferimento ecco però io sentendo così gli interventi di oggi e una riflessione di questo tipo vado a cercare una condivisione vado a cercare appunto di evitare i luoghi comuni del Mena tanto ce l'avete fatta ma tanto avete cioè vado appunto a cercare di condividere interamente in maniera punto di vista logica che abbiamo detto oggi quindi superare gli stereotipi gli stereotipi sessisti secondo me che sono effettivamente il nostro vero nemico unico contro cui lavoriamo amico a parte un aneddoto che mi veniva quando parlavi di sesso e genere allora siccome Trento sempre portata ad esempio allora voglio portare un cattivo esempio di Trento un consiglio provinciale nella precedente legislatura si stava discutendo di un disegno di legge e un consigliere provinciale molto pieno di sé ha detto ma come nel suo intervento dice quando ero piccolo la mamma e il papà mi hanno insegnato che esistevano due sessi adesso siamo qui a inventarci se ne sei in consiglio provinciale quindi guarda anche da noi esiste qualcosa che non va quindi un po' forse di informazione dovrebbe partire dall'università ma forse la dovremmo anche fare a chi sta forse non so anche sui banchi delle istituzioni della politica perché sentire l'affermazione di questo tipo che ne è ancora convinto perché ci faccio delle liti pazzesche su questa cosa vabbè insomma quindi bisognerebbe davvero come dire quando si parla di interventi culturali farli a 360 gradi o come l'idea però su questa cosa del Coug mi sentivo di dire due cose uno beh innanzitutto è una cosa che c'entra poco ma distrisce un minimo in mente mentre mi sentivo parlare una cosa positiva che io avverto è l'avete detto in tre negli ultimi tre interventi un rapporto positivo e lo sto vivendo anch'io assolutamente tra i comitati pari opportunità e le delegate per le pari opportunità mentre forse in passato non sentivo diciamo questa così piena assonanza vicinanza di intenti e questo io credo che è un segnale assolutamente positivo non è così in tutti gli atenei ma in molti atenei sto sentendo questa cosa e io credo che porterà certamente in avanti le politiche di pari opportunità all'interno delle nostre realtà sul discorso della riforma in sé e per sé io sono una vera e persone che ha accolto come dire anche nell'ambito della conferenza abbiamo lavorato molto anche con Rita e col comitato di presidenza su questo che ha aveva ed ha ancora delle forti perplessità perché fortunatamente magari a Ferrara vivete una situazione come dire positiva in cui siete riusciti ad incanalare e anche a non disperdere quello che era in pregresso o così anche in questo passaggio di nuove delegate sento sempre di più e io stessa sono stata testimone con qualcuno di voi di questo desiderio anche di passare come dire delle consegne di trasmettersi un positivo che è stato costruito in questa veramente è la nostra fortuna ma è quasi un'opera di come dire volontaria di volontariato cioè come dire poteva anche non funzionare quindi dipende molto dalle persone come si diceva prima e poi non possiamo negarcelo cioè il Cug di fatto è stato pensato in una maniera che è poco attinente al mondo dell'università guardate che noi non c'è qui Serenella Martini ma nei primi colloqui che abbiamo fatto a Roma abbiamo dovuto dire che ai vertici dell'università non c'è direttore amministrativo cioè il rettore abbiamo dovuto cominciare lo assicuro in riunioni con vertici del Dipartimento del Parco di Comunità cominciare a spiegare questo cominciare a spiegare che nei comitati dell'università ci sono anche altre persone come dire non soltanto il personale tecnico amministrativo perché questa norma è nata con riferimento al personale amministrativo non è certo pensata per una realtà come quella dell'università quando parlavamo di studenti questi ci guardavano con tanto l'occhio e qualcuno mi ha anche abbozzato eh sì potremmo parlare sì effettivamente se voi avete questione in realtà potremmo anche parlare del mobbing degli studenti allora se c'è qui qualche giurista io penso che gli si accapponi la pelle a me si accapponata in quei momenti e devi abbozzare perché non puoi spalancare gli occhi e dire no scusi mi faccia capire però questo è stato insomma come dire il mondo con cui purtroppo ci siamo rapportati ed è altrettanto scusate il mio telefono ed è altrettanto non vuole facere scusate ed è come dire è altrettanto è stato altrettanto quindi difficile ed è credo una difficoltà quotidiana anche trovare componenti per questi comitati che abbiano competenze così vaste perché i temi delle pari opportunità e delle discriminazioni di genere non solo sono in un ambito hanno come dire un'origine un inquadramento anche strumenti se vogliamo completamente diversi dai fenomeni del mobbing e delle molestie anche solo il tema ad esempio della tutela voi sapete che il comitato per la prevenzione del fenomeno del mobbing è un comitato con dei compiti assolutamente generali di prevenzione non entra sui casi di mobbing non entrava il comitato per l'opportunità era invece anche un organo in cui potevano essere fatte delle segnalazioni di discriminazione come funziona adesso nei nuovi pubblici se voi guardate tutta la normativa tutte le circolari tutte le fa tutte le risposte non se ne parla da nessuna parte allora io vi chiedo in questa unificazione che è stata fatta questo nuovo organismo si deve occupare solo come dire i termini generali di prevenzione eccetera o può anche a questo punto raccogliere anche segnalazioni no no lo so la so la risposta faccio la domanda in maniera retorica ma sembra quasi che ce ne siamo dimenticati un pezzo per caso pur dicendo questo la norma dice si riunificano le competenze che in precedenza erano attribuite distintamente ai due organismi dimenticandosi però che su qualcosa le competenze non erano esattamente identiche quindi ci sono dei problemi sul territorio nazionale nelle università a parte appunto ci sono alcune università e la mia è una di queste e devo dire non mi dispiace che siamo un fortino con il comitato o con le opportunità ma ci sono situazioni veramente diversificate quindi ci sono ancora diverse università che non hanno il comitato non hanno più magari il comitato per l'opportunità perché si è detto tanto voi chiudete perché ci sarà il CUB ma non è stato nemmeno attivato il CUB quindi ci sono università che non hanno più nessuno strumento nessun organo in questo momento ma questo è stato uno dei risultati della riforma ci sono università che hanno mantenuto il CTO ci sono università in cui contrariamente a quello che era l'obiettivo della norma che era quello di riunificare e di quindi ridurre riportare anche a un dialogo interno sostanzialmente e quindi di unificare in un unico organismo che si occupasse di questa materia per tutte le categorie personali ci sono atenei in cui invece questa cosa ha portato a riceversa delle duplicazioni ma perché? perché uno ha cercato una strategia comunque possibile perché ci è stato permesso attraverso quell'interpretazione ministeriale che devo dire abbiamo ottenuto grazie ai nostri viaggi romani quindi solo per questo l'abbiamo ottenuta perché non era per nulla scontato guardate che riuscire a far passare quell'interpretazione non è stata una cosa assolutamente facile chi l'ha vissuta con me ai tempi credo ne sia assolutamente testimone però davvero la situazione che mi è venuta fuori è una situazione diversificata in maniera ampia sia nell'attuazione sia proprio nella regolamentazione nella composizione degli organismi e potrei andare avanti con le cose siamo davvero sicuri che questo ci abbia aiutato? io ho dei dubbi perché ci presentiamo in questo momento se noi facessimo il monitoraggio che cosa è successo dal 2010 in cui è uscita questa norma ad oggi come siamo? facciamo la fotografia come ci presentiamo? ci presentiamo dove? per carità grazie all'autonomia di ciascun Ateneo che va benissimo grazie a questi spazi che ci sono stati riconosciuti in cui in qualche maniera abbiamo cercato di sopravvivere di salvaguardare quello che era stato costruito prima ma ci presentiamo in una maniera assolutamente diversificata e non unitaria e io credo che questo in qualche maniera un po' ci indebolisca quando prima parlavamo di CPO fino a qualche anno fa sapevamo tutti che cos'era il comitato per l'opportunità di che cosa si occupava e a grandi linee direi anche di come era composto ora quando parliamo di organismi di parità stiamo parlando solo della realtà universitaria stiamo parlando di situazioni molto variegate molto diversificate ma soprattutto dentro queste situazioni ci sono molte situazioni di difficoltà guardate che io le raccolgo tutti i giorni banalmente nel farsi dare un budget banalmente nel farsi dare un budget nel far passare porto un altro esempio penso che molti di voi avranno compilato il questionario che aveva scadenza il 28 febbraio da inviare al ministero della funzione pubblica scadenza il 28 febbraio era prorogato il 31 marzo quel questionario si riferisce al personale tecnico-amministrativo cioè come dire continua ad ignorare in maniera sistematica che senso ha fare una rilevazione quanti part time quanti tempi determinati quante ore di formazione ci chiedono tra un momento il numero delle scarpe se tu migliori non lo so adesso dipende da ateneo all'ateneo ma vorrei dire metà del personale di tuo ateneo come se l'università potesse esistere senza che ci sia il personale docente cioè io lo trovo una cosa assurda come se facessimo la rilevazione nel mondo della scuola chiedendoci qual è la situazione del personale dei pidelli con tutto il rispetto per questa categoria ma gli insegnanti noi li mettiamo e gli studiiamo e gli studiiamo e gli studiiamo voglio dire la comunità di ateneo comprende anche voglio dire voglio dire queste sono le cose allora quando come dire io sono contenta si sento che qualcuno nonostante le difficoltà trovandosi in un mare insomma abbastanza difficile da percorre da navigare riesce a trovare comunque delle strategie positive per costruire cosa positiva però credetemi questa riforma non ci ha portato bene non ha portato bene all'università nella maniera più assoluta e continuiamo a dialogare con dei soggetti che stanno in posizioni insomma di assoluto rilievo anche a livello nazionale che continuano ad ignorare ma con pericacia voglio dire perché insomma te l'ho anche spiegata che all'università non c'è il soldato che non è mistero che è fondamentale assolutamente ma se c'è come dire un rettore ci sono i professori ci sono le ricette e questi ci sono gli assegnisti ci sono c'è tutto il personale non strutturato ma vi pare che possiamo parlare di parli opportunità e non parlare ad esempio visto che oggi abbiamo parlato di giovani di personale determinato del personale non strutturato ne parliamo o continuiamo a far finta che quelli ci sono ma li avevano anche iniziali da bozzino questi sono i problemi veri e con questa riforma non ne veniamo fuori perché stiamo dialogando purtroppo con persone che non hanno percezione di questo mondo e questo come dire per me è molto grave se posso aggiungere una cosa visto che tu chiedevi l'impatto di genere sulle notte noi quando stiamo andando guardate che l'università è confusa nessuno ha mai chiesto funzionano i comitati che cosa state facendo c'è un monitoraggio delle azioni delle buone prassi assolutamente se Patrizia vi dice quante comitate eravamo riusciti a mettere insieme nella conferenza a fare delle azioni a fare circa quindi tutto questo era dal 2005 no? se non è sbagliato 2007 però dal 2005 2007 nella conferenza incominciava a funzionare c'era la rete c'era il tavolo per Miur eravamo riusciti a mettere insieme Miur con il dipartimento delle fare opportunità si cominciava a ragionare è arrivata questa legge quanti iscritti c'è in tutto l'anno scorso quanta perdita di tempo in un momento che il tempo è preziosissimo dove c'è un cambiamento lentissimo questo bisogna metterlo in conto quindi tutto quello che ha detto Patrizia sono da condizio ma la perdita di tempo siamo tutte persone che tu dicevi delle carriere delle cose ma io ho fatto qui la presenza del contato di Pisa otto anni era andato a scappare della mia carriera scientifica perché se uno vuole lavorare e fare le cose ovviamente ti devi impegnare quindi tutto questo era volontario però tu lo perdi perché cambia l'articolo 9 lo stesso io non ho mai visto una riforma che ha insegurato avanti qualcosa di positivo dagli anni 70 e poi in questo paese quindi una perdita di risorse perché noi eravamo sicuramente gli studenti nei comitati pari opportunità pensate e le studentesse quanto è importante tutto quello che abbiamo detto finora avere gli studenti e le studentesse nei comitati pari opportunità cioè tantissimo perché si lavorava finalmente sia il prima in i miei tempi io ricordo che venivano con molta diffidenza dentro il comitato pari opportunità poi invece si impegnavano su lavoro l'ultima considerazione perché forse si può chiudere questa è veramente una cosa che mi crea molti problemi anche a livello personal perché il nostro comitato ci sono persone che hanno partecipato attivamente abbiamo lavorato per otto anni e credo aver vinto un progetto europeo semifine che abbiamo lavorato in questa difesa cambiano le persone cambiano gli organi di governo e si finisce tutto noi non abbiamo la delegata del rettore il nostro rettore si è rifiutato di dare la delega le pari opportunità di genere quindi noi dipendiamo dalla volontà dei vettici io vi auguro che tutto vada bene se c'è qualcuno che tu pensi anche che vada bene e poi invece cambia faccia perché su due organi c'era scritto nello statuto nel nuovo statuto di Ateneo grazie a una commissione statuta illuminata siamo riuscite a scrivere la presenza dei due organi ma non basta scriverlo perché se cioè noi siamo riusciti a mettere valorizzazione delle differenze figuriamo però il fatto di dipendere dalla volontà dei vettici di governo e se c'è qualcuno che non non lo vede e tu sei fuori il tuo lavoro di otto anni il tuo sacrificio la tua dedizione alla volontà con la pietra ti torna tutto addosso no? se ricordare la coniglietta di Daniela e guardate questo dietro l'ambo allora se nel momento in cui funzionano le cose noi cambiamo e qui veramente è stata una mia periferia basta che ci raccontiamo anche stasera a cena quello che eravamo riusciti a fare e dove dobbiamo ancora una volta ricominciare il problema è stato questo ricominciare ancora una volta conosci le persone che si perdono in un momento in cui in un paese soprattutto in cui la continuità la volontà il crederci sono fattori essenziali nel cambiamento della posizione grazie a tutti grazie a voi potete immaginare che per una con me questa giornata è pronte di riflessioni semplici ho preso affronti da voi questo che abbiamo detto anche finora mi conferma il sospetto che avevo già con l'infinizione di più che cioè che bisogna lavorare in continuità perché il nostro lavoro non è a breve distanza il nostro lavoro in gran parte è a lunga distanza quindi più riusciamo a fare tesoro delle esperienze già fatte e a mantenere una continuità che secondo me meglio sarà comunque grazie a tutti voi finora ci rivediamo domani ma spero con molti di voi ci rivediamo a cena